Luisa devi togliere i mute Sì, un attimo Ok, direi che ci siamo e che possiamo iniziare quindi ben ritrovati alla seconda giornata della Puglia Cyber Security Forum noi ci siamo già conosciuti ieri io sono Colucci Luisa e per me è un piacere essere qui con voi anche oggi a nome di Esprimia vi ringraziamo per la partecipazione di ieri e siamo veramente contenti di avervi anche oggi qui con noi così interessi oggi parleremo e passeremo la giornata insieme e vi assicuro che sarà una giornata che passerà in modo velocissimo perché gli interventi sono molto molto interessanti andiamo a vedere insieme nel dettaglio l'agenda di questa seconda giornata della Puglia Cyber Security Forum dopo il benvenuto partiremo con l'education che sarà tenuta da Domenico Raguseo di Exprimia e l'education sarà Cyber Security Fundamentals per l'education avremo due parti una prima parte e una seconda parte che saranno intervallate dallo speech di Pierluigi Paganini di Enisa che ci parlerà della Cyber Security in tempo di Covid poi faremo la pausa pranzo e al ritorno parleremo dei cyber arsenali impatti catastrofici su imprese ed assicurazioni e a parlarcene sarà Enrico Fazio di Cyber4Gate poi capiremo come identifica, privatizza e valuta il processo di gestione delle vulnerabilità con Paolo Ford, Florian di Ternabol parleremo della Cyber Security nella sanità Safety, Security e Privacy con Marsa D'Argenio da IBM e ancora parleremo di autenticazione bancaria siamo al sicuro, chiediamo la Mufasa con Giada Sciarretta di Fondazione Bruno Kessler e infine capiremo come una strategia sulla gestione dei privilegi può mitigare i rischi legati a malware e ransomware con Massimo Carlotti di CyberArk quindi vedete un'agenda veramente interessante e piena inoltre voglio ricordarvi che saremo insieme anche domani domani sarà la terza e l'ultima giornata della Puglia Cyber Security Forum e l'intera giornata di domani ci vediamo solo in mattinata sarà dedicata alla presentazione ufficiale della terza edizione del Threat Intelligence Report redatto dall'osservatorio di Escrivia quindi domani sul nostro palco virtuale si avvicineranno tutti gli autori del report sia interni che esterni perché appunto il nostro report prevede anche degli interventi esterni quindi magari questo è un invito anche per voi non voglio dilungarmi oltre quindi vi ho dato qualche anticipazione per domani ma torniamo alla giornata di oggi e voglio ricordarvi inoltre qualche voglio darvi ancora qualche consiglio ricordarvi come possiamo interagire come possiamo ricreare questo dibattito virtuale che come abbiamo detto ieri è tipico del forum forum che noi vogliamo creare e quindi lo faremo attraverso questo dibattito virtuale lo faremo attraverso la tweet chat quindi la tweet chat sarà disponibile durante tutta la durata dell'evento potete in questo modo tutti noi partecipanti in questo modo possiamo interagire con gli speaker e come possiamo farlo? come possiamo sottomettere delle domande agli speaker? beh utilizzando i seguenti hashtag hashtag Apulia Cyber Security Forum hashtag ECSM Morfetta hashtag CyberSecMonth seguita dall'account tweet dello speaker in questione e dalla domanda che volete rivolgere a questo speaker sarà poi lo speaker a rispondere a questa domanda utilizzando la modalità retweet e qui abbiamo riportato un esempio l'esempio in questione è sugli hashtag di cui abbiamo parlato prima all'account twitter at Domenico Raguseo è stata posta la domanda when is it planned the event? e la risposta attraverso il retweet dell'account at Domenico Raguseo è stata appunto l'evento è stato pianificato bla 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 quindi questo esempio per riportarvi come è veramente semplice utilizzare questo strumento ma come è potente e come vi dicevo ieri questo strumento è importante sia per le persone che vogliono partecipare attivamente e sottomettere delle domande ma per tutti vi consiglio tutti di sintonizzarvi sulla tweet chat su questi hashtag perché potete prendere spunto dalle domande che hanno posto gli altri partecipanti oppure magari potete beneficiare delle risposte che daranno gli speaker quindi come vi dicevo ieri vi esorto anche oggi a partecipare attivamente al forum ovviamente per farlo avete bisogno degli account twitter degli speaker e qui sono riportati tutti gli account twitter degli speaker di oggi sono riportati in ordine di intervento quindi anche oggi vi chiedo di prendere velocemente nota degli account perché così potete poi utilizzarli durante l'evento vi ricordo inoltre dell'opportunità che avete durante la Puglia Cyber Security Forum di ottenere dei badge in particolare parliamo di due badge il primo è il badge l'attestato di partecipazione praticamente alla Puglia Cyber Security Forum e ovviamente per ottenere questo badge dovete superare un test e come vi dicevo ieri questo test si baserà su degli indizi che vi verranno dati durante l'evento già ieri durante l'intervento di Domenico abbiamo avuto qualche indizio oggi ce ne saranno degli altri e domani altri ancora quindi come dire siete attenti poi parliamo anche della possibilità di ottenere il badge Cyber Security Fundamental che è proprio inerente all'education che ci appassiamo ad avere oggi con Domenico Raguseo quindi anche qui le domande saranno il test da superare per ottenere questo badge sarà strettamente correlato agli argomenti che si andranno tra poco ad affrontare con Domenico i badge rilasciati saranno su piattaforma My Open Page e per ottenere il badge dovete scrivere mandare una mail a info.cybersecuritybadge at exprivia.com specificando il nome del badge a cui siete interessati specificando che volete sostenere il test per prenderlo direi che vi ho ricordato un po' tutto grazie ancora per essere qui con noi e a questo punto passo la parola a Domenico interrompo la mia condivisione e do a te Domenico la possibilità di condividere il tuo schermo e vado nel mentre ad annunciarti ufficialmente un onore per me annunciare Domenico Raguseo responsabile unit responsabile della unit di cyber security di Esprimia che oggi terrà un'education sulla cyber security fundamentals quindi torneremo a scuola a te la parola Domenico grazie Luisa mi ascoltate vero? sì perfetto quindi sono live allora faccio una piccola premessa questo qua è un corso di otto ore e in queste otto ore ci sono tutti quanti contenuti informativi che poi sono necessari a prendere la certificazione abbiamo deciso di utilizzare nell'erogazione di questo corso subject matter expert che sono che potevano parlare di argomenti specifici sicuramente in maniera più efficace di quanto posso farlo io sull'argomento specifico e per cui a me dalla giornata intera che avevo inizialmente preventivato mi sono rimaste quelle tre o quattro ore allora quindi tre o quattro ore io immagino che le integrazioni dovrebbero comunque andare a coprire gli argomenti e le domande che sono necessarie per prendere la certificazione però questo potrebbe anche non succedere in ogni caso alla fine del corso io cercherò in modo di indirizzare quelle che sono le tematiche che sono necessarie al superamento del test e se no pazienza insomma non è una tragedia l'importante è che siamo rimasti insieme a discutere di argomenti che immagino a voi interessano molto e soprattutto non avendo del loioso domenico che parla per otto ore continuamente ma intervallando la discussione con speaker di assoluta eccellenza nella materia fatta questa premessa ora io vi invito ad utilizzare la tweet chart così io poi quando per farmi delle domande così come in maniera tali che non parli sempre io ma io poi leggo qualche domanda magari cerco di dare anche qualche risposta quindi perché rispetto è una sessione molto lunga quindi parlare per tutto questo tema io comincio sempre le lezioni ricordando quello che è il è il è il nostro lavoro no? Il nostro lavoro è quello di spendere un centesimo per minimizzare la possibilità per una vittima di essere compromesso quindi riceve un attacco se ci pensate in questa in questa frase c'è parecchio di quello che poi alla fine è il è il corso che andiamo a fare un elemento fondamentale un elemento fondamentale che ci sta in questa in questa slide è che noi minimizziamo il rischio di una vittima questo ci ricorda un piccolo delle cose che ci differenziano moltissimo la cyber security da tante altre scienze nella cyber security questo l'ho accennato anche ieri ma ieri ne parlavo con riferimento all'internet otx in verità il concetto è vaio di generare in cyber security non esiste un vero ritorno di investimento a me piacerebbe dire datemi 100 euro o datemi un milione di euro e poi state sicuri ahimè questo non è possibile noi lavoriamo sempre per ridurre il rischio e ridurre il rischio vuol dire che una persona può spendere i migliori di euro e riceve un attacco e quindi avere un incidente il giorno dopo oppure non spendere nulla non ricevere mai un attacco e va anche bene che quindi non ci avrà nessun incidente questo qua è un elemento che differenzia totalmente la modalità con cui si acquista software con cui si acquista lo servizio in cui si fa la cyber security allora qualcuno mi potrebbe anche dire ma per quale motivo in cyber security non è possibile azzerare il rischio di un attacco una delle cose che faccio vedere io sempre tra un video questa volta ve lo risparmio a me piace molto quel video di Laerte non so chi di voi ha visto 900 o 300 il numero del film quel film dove Laerte dice incontro agli Atenesi penso e dice il capo degli Atenesi dice ma scusa io pensavo che voi foste venuti in milioni di persone invece vedo che siete solo e soltanto un pugno di Spartani e lui chiede agli Atenesi tu cosa farai tu cosa fai e uno dice io faccio un passagno e l'altro fa l'artista e l'altro va dopo lì chiede gli Spartani voi cosa fate noi siamo soldati no che o me adesso poi evito di fare la recitazione la recitazione completa dopo il senso della cosa che ci ha che appare questo con la cyber security il senso della cosa è questo chi attacca è una persona che è fortemente specializzata negli attacchi ok chi si difende è una persona che normalmente ha un altro tipo di mestiere sono basai sono medici sono mutai sono avvocati non sono persone che dedicano la loro vita a proteggersi da un attacco e qui già questo la dovrebbe dilungare su quella che è la sproporzione tra chi attacca e chi difende e poi c'è un'altra piccola sproporzione che ci dovrebbe far riflettere chi attacca ha un vantaggio enorme decide quando attaccare e ha tutto il tempo possibile per poter preparare un attacco chi si difende per evitare che un attacco si trasformi in un incidente ha solo qualche ora qualche secondo per poter rispondere ad un attacco di questo tipo quindi ci troviamo di fronte a persone che sono fortemente specializzate che hanno tutto quanto il tempo a disposizione per poter attaccare e dall'altra parte ci sono persone che sono bravissime a fare altre cose e non hanno tempo per poter rispondere ad un attacco ora è evidente che fra i due elementi c'è una sproporzione enorme noi dobbiamo lavorare per ridurre il rischio di un attacco e questo ci dovrebbe anche far riflettere su un altro tema nel tempo della cyber security così come spesso accade nel cyber crime la vittima tende ad essere criminalizzata la vittima stessa tende ad essere criminalizzata adesso non voglio fare i panologhi che possono sembrare un pochettino tristi cioè tu hai subito una violenza e sei un criminale perché ci hai sciocco ad aver subito questa violenza stessa cosa succede nel cyber crime molto spesso c'è stato viene annunciato si scopre che un'azienda è stata attaccata finisce sui giornali e si tende a far pensare che quest'azienda che ha ricevuto un attacco sono totalmente sproveduti no ma noi alla fine abbiamo un budget da poter utilizzare e con questo budget dobbiamo ridurre il rischio ma dall'altra parte ci sono persone che possono avere tutto il tempo a disposizione per poter fare un attacco e quindi e fanno questo di mestiere quindi è evidente che io pur spendendo un milione di euro alla fine posso essere attaccato ora noi lavoriamo quindi per ridurre questo rischio e se dico da un lato che non bisogna criminalizzare la vittima dall'altro lato bisogna anche cercare di ottimizzare gli investimenti perché poi non è che si da un lato c'è l'idea che io devo ottimizzare gli investimenti e dall'altro c'è l'idea che molto spesso basta avere che ne so un firewall ecco io parlo del firewall perché il firewall è l'antivirus che poi tra l'altro sono cose eccellenti ci mancherebbe altro però non si può pensare che la sicurezza è il firewall l'antivirus cioè la sicurezza è molto molto più complessa che il firewall e l'antivirus e di questo oggi vorrò parlare quindi il nostro mestiere qual è il nostro mestiere il nostro mestiere è suggerire al cliente cosa va fatto e cosa va fatto si divide in tre macro categorie controlli di sicurezza controlli di sicurezza all'americana vuol dire attività che devono essere fatte per ridurre il rischio ci sono tante attività che noi vedremo successivamente e andremo a classificare processi di sicurezza l'attività in quanto tale non produce un risultato consistente il processo è un insieme di attività orchestrate orchestrate che produce un risultato consistente faccio un esempio se io ho l'antivirus questa qua è un'attività se io ho qualcuno che questo antivirus me lo controlla mi assicura che viene aggiornato in continuazione e così via questo è un processo questo qua potrebbe essere un processo quindi io posso decidere di avere un antivirus ma non posso posso decidere di non avere un processo che mi gestisce l'antivirus i processi in genere vengono seguiti dalle organizzazioni ci sono diversi modelli organizzativi molto spesso quando si parla della cyber security si pensa al software il security operation center ma non è che io a tutti quanti posso fornire non solo l'attività non solo il processo ma anche l'organizzazione faccio faccio un esempio se ad un ad un notaio ad uno studio notarile no io posso offrire un processo posso offrire un'attività ma è difficile che un notaio possa avere un security operation center all'interno dello studio notarile diciamo se stiamo parlando di una grossa azienda di distribuzione piuttosto che ad una un'industria in senso latino del termine cioè quindi un plant probabilmente un security operation center potrebbe essere anche anche utilizzato anche anche suggerito quindi io devo suggerire non solo e soltanto controlli fare penetration test ma devo suggerire anche eventualmente che i controlli siano orchestrati nel processo e che il processo possa essere eseguito da un'organizzazione l'uno non implica l'altro sono tre cose abbastanza diverse come faccio come faccio a suggerire controlli processi o organizzazioni ci sono una serie di elementi che vanno presi in considerazione ieri ho parlato della centralità sia dal punto di processo che dal punto di vista di architetture del della conoscenza dell'industria specifica continuiamo io continuo a vedere che si parla di cyber security in maniera assolutamente trasversale e di questo è un grossissimo errore che porta a tantissimi problemi ho fatto ieri l'esempio dei treni e degli aerei quindi evito di parlarne ho fatto anche l'esempio delle architetture dei sistemi industriali architetture che si basano su sistemi scada quindi PLC controllore sensori attuatori e così via e protocolli che sono utilizzati per commettere per commettere tutti quanti gli altri non si può pensare di fare un'attività su questi sistemi se non si conoscono perfettamente questi sistemi questa è un'enorme differenza tra tra industria e industria c'è un'enorme differenza tra industria e industria per cui conoscere l'industria è fondamentale per selezionare controlli processi e organizzazioni adesso mi chiedo così ma io finisco ai dieci e mezza Luisa corretto? corretto? sì quindi tutto sommato io direi che dopo che hai dieci e mezza c'è l'intervento dell'amico e del guru della cyber security io mai mi potrei permettere arrogare il diritto di togliere anche un solo secondo al prossimo ospite quindi secondo me io per evitare di di parlare di uno degli altri topics che secondo me richiede un approfondimento a metà perché ripeto in anche un secondo io a questo punto mi fermerei qua e comincerai a lasciare te la parola per introdurre il prossimo ospite sì certo Domenico possiamo introdurlo se diamo qualche minutino o più perché si sta connettendo quindi va bene allora ne approfitto ne approfitto per un altro topic che secondo me un altro topic sì allora una delle cose che bisogna sapere è la conoscenza dell'industria un altro degli elementi che si deve assolutamente conoscere sono gli attacchi cioè pensare ci fu uno durante una conferenza ci fu un ragazzo che no un ragazzo un mio collega no che a questa conferenza a questa conferenza disse mi fa piacere che adesso parlino tutti di quanti scusate io poi sono anche un pochettino consentiti di essere provocative ma la mia età penso di potermelo permettere insomma c'era qui stavo in una con una piccola esperienza stavo in una conferenza e ad un certo punto tutti quanti avevano parlare di cyber security ad un certo punto arriva un ragazzo che dice mi fa piacere vedere tutte queste persone che parlano di cyber security mi piacerebbe capire quanti di loro saprebbe fare un programma in python che fa hello world e mi ha impressionato così tanto quella frase che continuo a raccontare tra l'altro ho chiesto ai nostri noi abbiamo nel nostro catalogo di servizi in catalogo di corsi un corso in python che insegna a fare hello world perché effettivamente c'è assolutamente ragione tu non puoi parlare di cyber security se non conosci come si fa ad attaccare e come chiede ad un poliziotto chiede ad un poliziotto di di difendere la comunità senza saper utilizzare la pistola è chiaro che la pistola è un mezzo di attacco ma se tu utilizza il difensore è un mezzo di difesa e il difensore non può prescindere dalla conoscenza delle tecnologie che l'attaccante può utilizzare quindi conoscere gli attacchi è fondamentale però ahimè conoscere gli attacchi non è una cosa semplicissima e questo se vogliamo è un'enorme differenza c'è un'enorme differenza tra l'automazione in generale tra l'IT in generale e la cyber security in particolare forse forse non so quando è successo forse è successo quando un malware Zeus in maniera diciamo non so se è volontaria o involontaria questo nella cyber security sono state informazioni che non saranno che non sono mai chiare è finita è finito su internet e come col suo sul score da quel momento in poi di malware se ne crea in continuazione perché nel momento in cui ho il sul score di un malware quel malware non lo posso creare non lo posso sviluppare tanti malware e tra l'altro sto parlando di malware che è solo una metodologia di attacchi di metodologia di attacchi si se ne creano tantissimo ogni giorno e questo ahimè è un vantaggio è un problema per chi lavora nel campo della cyber security e il problema dipende dal fatto che mentre nel resto della cyber del resto dell'automazione io capitalizzo su determinate conoscenze e ci posso campare per tanto tempo ahimè la cyber security non esiste cioè esiste sicuramente il background culturale di tutti quanti noi però poi noi dobbiamo tenerci in continuazione informati perché se oggi si sviluppano determinati attacchi se gli attaccanti utilizzano determinate armi io non posso prescindere di andare sul mercato ed utilizzare e difendermi da quegli attacchi che sono stati fatti oggi non dagli attacchi che sono stati fatti non dal modo di attaccare che si faceva ieri cioè se mi attaccano con i cannoni io non posso difendermi con le trombe gli scudi e le lance ok quindi noi che lavoriamo nella cyber security dobbiamo conoscere ogni singolo giorno cosa gli attaccanti e come gli attaccanti attaccano mi si appalso al secondo chapter informazioni oppure mi fermo qua dimmi te come vuoi la special guest della giornata è arrivata quindi non voglio fare tempo all'ospite per cui non voglio neanche toglierti l'onore di annunciare l'ospite quindi assolutamente no assolutamente no voglio avere l'onore come preferisci domenico se è già presente lo faccio mi fermo qui ok quindi domenico ti tolgo la parola per un attimo perché ho il piacere di introdurre a tutti quanti Pierluigi Paganini noi della Puglia Cyber Security Forum siamo davvero onorati di avere Pierluigi come speaker al nostro evento allora Pierluigi do innanzitutto a te la possibilità di diventare relatore così ok togliendola al domenico dopodiché vado ad introdurti come diceva domenico ufficialmente perché ho proprio l'onore di farlo e quindi diciamo che a breve avremo l'intervento di Pierluigi Paganini membro del gruppo Cyber Threat Intelligence di Enisa qui con noi Pierluigi Paganini ci parlerà della Cyber Security in tempo di Covid e per Pierluigi come dire non sono certamente io a doverlo introdurre perché lui è l'owner di Cyber Security Affair uno dei blog della Cyber Security più importante al mondo e lui è sicuramente una delle eccellenze italiane in assoluto riconosciuta anche all'evento mondiale e quindi per noi davvero lo ripeto è un grande onore e quindi passo a te la parola Pierluigi non ti sentiamo Pierluigi mi sentite? ora si forte e chiaro ah ok 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 ottimo 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 non so per quale motivo probabilmente allora innanzitutto grazie grazie per me è un onore oggi essere qui e sono tra amici perché conosco da tanto Domenico che seguo anche con estremo interesse cosa faremo oggi? oggi faremo una una disamina di come l'evento covid-19 la pandemia che stiamo vivendo abbia un un impatto sulla Cyber Security in realtà è un impatto mutuo come la quasi totalità degli eventi che che stiamo vivendo la maggior parte dei casi ci troviamo che c'è un overlap abbastanza significativo tra quella che è la la nostro vissuto digitale e quella che è poi la realtà che invece quotidianamente viviamo e l'osservazione di questi fenomeni può aiutarci nella comprensione come diceva anche Domenico di capire quali sono i fenomeni quali sono le minacce quali sono le possibilità che abbiamo di difenderci da queste minacce o quantomeno quali sono le mitigazioni che possiamo mettere in piedi vado a condividere un attimo lo schema allora un attimo solo ok riuscire a vedere la presentazione perfetto allora partiamo subito dallo scenario coerente lo scenario coerente è uno scenario appunto che vede la pandemia avere un impatto significativo su tutti gli aspetti della nostra società in particolare quello che è cambiato in maniera forte è la necessità di dover mantenere un distanziamento sociale e quindi la predisposizione di utenti anche non avessi allo strumento informatico ad utilizzare tutta una serie di tecnologie che consentono ad esempio di lavorare in remoto piuttosto che di erogare lezioni scolastiche anche a distanza quindi ci troviamo tutti quanti più o meno consapevoli a doversi confrontare alla tecnologia questa tecnologia ovviamente ha cambiato in maniera massiva le abitudini di tutti noi e di fatto sta allargando quella che noi definiamo in gergo la superficie di attacco questo ampliamento questo ampliamento della superficie di attacco ovviamente non è passato inosservato a gruppi criminali e anche ad altre categorie di attaccanti pensiamo ad esempio ad attori national state in questa presentazione vedremo cosa sta accadendo e come questi due gruppi vanno ad operare giusto per comprendere quanto sia aumentata la nostra esposizione digitale ho preso due infografiche che ci danno idea di quanto tempo stiamo spendendo in occasione della pandemia e come siano cambiate le nostre abitudini nell'accesso online in questa slide potete vedere quanto della nostra attività spendiamo quotidianamente dal momento in cui ci siamo trovati ahimè ad essere chiusi in casa o quantomeno ad estringere quelle che sono le nostre relazioni sociali e scopriamo ovviamente che vi è restato un incremento significativo dello smartphone dell'utilizzo di laptop perché magari furiamo le lezioni scolastiche piuttosto che accediamo ai nostri sistemi che sono in azienda e come vedete ci sono anche un utilizzo maggiore di tablet perché? per quale motivo? perché in casa magari abbiamo un pc un tablet un televisore uno smart tv e ce li dividiamo ecco nell'ambito di quello che è il nostro contesto ancora vediamo questo vedete è il tipo di attività per le quali poi utilizziamo questi risorsi sicuramente abbiamo un incremento legato all'attività lavorativa in remoto ma ci sono anche attività ludiche ad esempio l'accesso a servizi di streaming l'utilizzo ancora una volta di social media e l'utilizzo anche di sistemi di messaggistica ora mettiamoci spestiamo i panni degli esperti sicurezza per un attimo diciamo mettiamoci dalla parte degli attaccanti queste sono tutte opportunità da sfruttare è molto semplice oggi capire la buona fede di un utente che anche non ha rezzo lo strumento informatico vi dico vi parlo ad esempio dell'erogazione della didattica a distanza per quale motivo? perché mentre io sono qui ho nella stanza accanto mio figlio che sta facendo la didattica a distanza e dall'altro lato anche mia figlia ora immaginiamo non sempre gestisco io le comunicazioni che arrivano anche dalla scuola ma se io diciamo preparassi una campagna di spam malevola inviano mail scritte come si deve dicendo signora guarda da domani la didattica a distanza cambia e dovete utilizzare quest'altro link state sicuro che la quasi totalità delle mamme cliccherà su quel link la quasi totalità delle mamme aprirà un documento che ho allegato e questo significa io potenzialmente ho una orda di macchine da poter come dire coinvolgere in un'attività malevola proprio in questo modo perché vi dico questo perché è la dimostrazione di come stia aumentata la nostra superficie di attacco e come stia coinvolgendo persone che non erano non sono preparate inevitabilmente a gestire gli aspetti di sicurezza di questa innovazione tecnologica abbiamo sicuramente aziende che sono sempre più si stanno muovendo sempre più spesso verso l'utilizzo di connessioni remote leggevo stamattina su Repubblica che molte aziende addirittura non torneranno indietro quindi ci troviamo dinanzi a un vero e proprio cambiamento culturale ancora abbiamo le organizzazioni governative che stanno spingendo a tutta una serie di metodiche di accesso a servizi e fruzione di servizi online e tutto questo ovviamente è capito da attori criminali che cercano di massimizzare il proprio profitto facendo tutta una serie di attività illegali connesse a questa maggiore esposizione mi viene da pensare e quindi questo poi è stato confutato anche dai fatti che le organizzazioni criminali oggi stanno prendendo di mira con maggior profitto grandi imprese per notizia delle ultime ore per esempio è un attacco subito dal gigante Mattella ma se ci guardiamo in casa abbiamo visto Enel abbiamo visto Piaggio abbiamo visto Luxottica queste grandi aziende diventano obiettivo di gruppi criminali perché in questo momento continuano a essere più vulnerabili ma a spaventare sono sicuramente gli attacchi ad infrastrutture critiche allora infrastrutture critiche per capire quanto è aumentata la nostra esposizione digitale andiamo a guardare quanto stiamo esponendo i nostri dispositivi online e in questo ci può venire d'aiuto il motore Shodan Shodan è un motore come Google che consente però di censire quelli che sono i dispositivi le macchine che sono esposte in rete e ci fondisce una serie di informazioni bene Shodan ci dice che dall'inizio della pandemia è aumentato del 41% il numero di end point che accettano connessioni attraverso il protocollo RDP ovvero macchine che sono gestibili in remoto via RDP questo ovviamente è una risposta delle aziende alla pandemia peccato che molte di queste macchine spesso sono protette con credenziali vulnerabili quindi con attacchi di forza brutta è abbastanza semplice per un attaccante accedere a una macchina entrare nella macchina la macchina all'interno di un'organizzazione la comprometto da lì faccio una serie di movimenti laterali ovvero comincio a spazzolarmi l'intera struttura e vado a infettare macchine magari inoculando un ramsware piuttosto che utilizzando le macchine di una struttura per attività illegali che possono essere crypto mining frutto di credenziali e quant'altro cosa sta accadendo perché le grandi imprese perché le grandi imprese utilizzano tutta una serie di dispositivi ad esempio sistemi VPN che sono diciamo per le quali sono note delle falle però in molti casi è fallito quello che è il processo di patch management in questa slide che ho estratto da un rapporto caspeschi si vede proprio come in questo punto vedete il punto in cui abbiamo dei picchi siano aumentati gli attacchi di forza blu nei confronti di questi sistemi esposti ad il dp online ed è palese quindi che siamo passati in uno stato passatemi il termine di emergenza qual è lo scenario corrente qual è l'approccio delle società di sicurezza bene abbiamo due approcci ci sono alcune aziende che dicono occhio non è il numero di attacchi ad essere aumentato ma è cambiata la modalità di attacco ovvero diciamo gli attaccanti stanno sfruttando il tema covid per colpire un maggior numero di obiettivi dall'altro lato invece ci sono aziende di sicurezza che dicono no attenzione gli attacchi sono sicuramente ampliati la verità come al solito è nel mezzo perché oggettivamente essendo aumentata l'esposizione di aziende e di individui sono aumentati in maniera proporzionale anche gli attacchi è pur vero che molti la grande maggioranza di questi attacchi è aumentata e sfrutta il tema covid ma quando parliamo di attacchi vi dicevo due sono i grandi gruppi di attaccanti crimine informatico e attori nation state se ci riferiamo al crimine informatico ovviamente non possiamo non riferirci all'interpol che è una autorità di eccellenza nel contesto al crimine bene l'interpol ci dice sostanzialmente che abbiamo un numero considerevoli di attacchi qui vi ho portato giusto per statistica con i dati condivisi da un loro recente rapporto parliamo di 907 mila messaggi di spam 737 mila incidenti relativi a infezioni diciamo di malware e oltre 48 mila url malevoli dette così non ci dicono niente queste informazioni però se andiamo nella slide successiva in cui cominciamo a metterli in termini percentuali capiamo qual è lo scenario che ci troviamo davanti ci troviamo uno scenario in cui gli attacchi sono aumentati gli attacchi di phishing sono aumentati al 59% abbiamo una fetta del 59% abbiamo poi attacchi ramsware sicuramente con un incremento sicuramente notevole e l'abbiamo visto in queste ore però esistono anche tutta una serie di attività come la creazione di domini malevoli e fake news che ovviamente preoccupano le autorità in tal senso e quindi le autorità ma quali sono le autorità pensiamo anche alla Nato l'alleanza atlantica l'alleanza atlantica innanzitutto ha condannato immediatamente gli attacchi mossi nei confronti delle infrastrutture critiche e immediatamente ha chiamato ha raccolto a tutte le diciamo tutti gli stati membri invitandoli alla condivisione perché uno degli aspetti fondamentali nel contrasto a qualunque tipo di attività fraudolenta e anche attività mossa da un attore di National State è la condivisione delle informazioni relative all'attacco e quindi abbiamo appunto la Nato che prende una posizione proprio in quanto organismo deputato alla difesa collettiva degli stati membri in particolare un focus è doveroso abbiamo l'health care quindi il settore della sanità che ovviamente è sotto attacco ne fa le spese quotidianamente recentemente le due agenzie americane l'FBI e CISA hanno questo parliamo della settimana scorsa se non ero hanno pubblicato un alert spiegandoci che un gruppo di attori di una gang diciamo che è la gang di UIC che è dedicata spende il suo tempo nella diffusione di un ransomware appunto che è il ransomware di UIC stia preparando una serie di attacchi imminenti contro infrastrutture critiche americane UIC diversamente da altri gruppi criminali specializzati nella diffusione di malware non ha dichiarato una cessazione o una temporanea cessazione delle attività contro le strutture ospedaliere e quindi diventa un problema serio tant'è vero che uno dei più grandi provider americani Universal Health Services è stato costetto a chiudere completamente i propri sistemi proprio a causa di un attacco qualche settimana fa notizia invece di qualche giorno fa che un subcontractor indiano di diciamo che coinvolto nella lo sviluppo del vaccino covid-19 per conto di un'organizzazione russa è stato anche esso colpito dall'attacco ma quali sono le tipologie di attacco beh come abbiamo visto è in accordo a quello che ci diceva anche il rapporto prima dell'Interpol la maggior parte degli attacchi oggi attacchi di phishing vediamo in questo grafico che ci troviamo alla nostra destra che c'è proprio uno scalino c'è una discontinuità forte per quale motivo abbiamo che gli attori criminali cominciano a muoversi cercando di seguire l'opportunità e abbiamo una forte localizzazione dei fenomeni cosa significa oggi è uscito il dpcm mi potrei aspettare di qui a qualche minuto una campagna che comincia a mandare fuori ecco cosa è cambiato nella tua regione magari con un account spuffato che potrebbe essere quello del governo o di un istituto di un'istituzione governativa e a quel punto molte persone che sono in cerca di informazioni di come sia cambiato il loro vissuto di qui alle prossime settimane potrebbe essere tentato o di cliccare sul link o aprire su un file che poi dà via a un processo di infezione quindi questo vedete è un aspetto del crimine il crimine serve un'opportunità ma si localizza cioè cerca di sfruttare le occasioni che sono proprie di alcuni settori questi dati sono confermati anche da Google che parla di centinaia di milioni di messaggi di spam e questo accadeva in giugno quindi possiamo capire quando vi parlavo di localizzazione vi dico che esistono alcuni paesi che hanno immediatamente sofferto attacchi per quale motivo? perché si sono trovati ad affrontare la pandemia con un'emergenza ancora più pressante della nostra e questi attacchi per esempio come confermato da alcuni rapporti di Google erano Brasile UK India quei paesi in cui l'emergenza era in atto ma soprattutto oltre all'emergenza in atto ci trovavamo a dover fronteggiare tutta una serie di novità abbiamo anche i casi italiani vedete sulla destra ci troviamo la famosa mail del medico dell'OMS l'organizzazione mondiale della sanità che ci forniva informazioni che allegava poi un documento che una volta aperto dava via a un processo di informazioni sicuramente le infezioni sono stati un aumento delle infezioni poi è stato anche confermato da altri giganti internazionali per esempio pensiamo a Microsoft qual è uno dei fenomeni che più preoccupa? sicuramente la pratica estorsiva abbiamo osservato un aumento significativo della diffusione di ransomware e l'abbiamo detto poco anzi ma anche di attacchi di Stable per quale motivo? se io ho necessità di essere online in questo momento più che mai pensiamo ad esempio a un negozio di e-commerce un attacco di questo tipo mi va a saturare le risorse mi rende non operativo e quindi questo potrebbe costringere la vittima potrebbe forzare la vittima a pagare un riscatto questo è un altro dato un altro slide che ho preso da un rapporto di ESET anche qui vediamo come siano cambiati da dicembre a maggio il numero di attacchi contro sistemi LDP esposti online stiamo parlando di circa 30.000 in dicembre e sforiamo la soglia di 100.000 più volte a maggio e posso dirvi che questo trend poi è continuato sono aumentati gli attacchi ma qual è la modalità di attacco più comune? l'abbiamo detto phishing e che modo operano? bene tipicamente avviene o la condivisione di un documento o la condivisione di una mail con un link allegato che promette una serie di informazioni o addirittura è collegato anch'esso ad un repository dove scaricando un file ed eseguendolo o abilitando semplicemente le macro posso dar vita a un processo di infezione e questa è la modalità con la quale abbiamo visto per esempio un numero cospicuo di attacchi anche di alcuni trojan famosi penso a Emotet che è uno di quelli più attivi proprio in questo periodo nonostante le numerose campagne delle forze dell'ordine in questa slide poi ho cercato di sintetizzare alcuni fenomeni che possono essere di utilità in questo caso per esempio parliamo di un 667% che era visto all'indomani dell'avvio della pandemia di febbraio dagli esperti di Barracuda Networks in attacchi di spear phishing ovvero immediatamente l'attore malevolo cerca di sfruttare l'FBI che ci dice che il numero di attacchi online e i crimini online sono qua duplicati e perché no per esempio abbiamo questo dato in basso a destra quello di Zscaler che ci dice attenzione gli attacchi a tema covid sono aumentati del 30.000% e questo succedeva in marzo vale a dire ancora una volta si segue l'opportunità e quale quale migliore diciamo occasione se diciamo di quella del covid da parte di attori diciamo per gli attori di National State gli attori di National State sappiamo essere quei gruppi che operano per conto di governo questi attori ovviamente lavorano con diverse modalità ma con tipicamente due obiettivi o il sabotaggio o la raccolta di informazioni quello che abbiamo visto oggettivamente è più legato alla seconda aspetto cioè molti gruppi legati a governi hanno operato per raccogliere informazioni che siano in qualche modo in linea con gli interessi dei loro paesi e quindi ecco gli attacchi ai numerosi centri covid ancora tra i più attivi riconosciamo gruppi APT quindi Advanced Persistent Treat legati alla Russia ma anche alla Cina e esso sono stati coinvolti in numerose campagne di spionaggio soprattutto diciamo connesse a entità che operano nel diciamo in Occidente quindi pensiamo alla Gran Bretagna agli Stati Uniti alla Canada ma ci sono stati anche casi in Europa casi importanti di attacchi sono stati osservati in Repubblica Ceca e in Spagna se ricordo bene qui ecco alcuni dati condivisi dal gruppo Google Tag che è un gruppo dedicato e nato proprio con la volontà di analizzare i fenomeni legati a Tori National State e ci confermano quello che dicevamo un poc'anzi un numero significativo di alert che sono condivisi con la popolazione abbiamo circa 33.000 alert a account Gmail che sono stati forniti nei primi tre trimestri di quest'anno attori che sono tipicamente da Cina e Russia e Iran ma si stanno affacciando in maniera prepotente e preoccupante anche attori dalla Nord Corea per esempio ieri proprio scrivevo di un rapporto che è stato pubblicato legato a un nuovo malware di un gruppo che opera per la Nord Corea che si chiama Kim Tsuki e quindi questo gruppo sta operando con modalità non dissimili da quelle di altri gruppi però è la Cina quella che ha spaventato tantissimo al punto di far sì che le autorità internazionali soprattutto le americane condividessero informazioni legate agli attacchi sono sicuramente documentati una serie di attacchi contro centri di ricerca uno di questi era appunto in Spagna e ne diede notizia in settembre appunto il Paese contro un laboratorio che era impegnato ma come fanno questi gruppi quali sono vi ho detto all'inizio che affanne le spese sono tipicamente le grandi aziende quali sono le vulnerabilità che vengono colpite allora la US National Security Agency l'NSA ha pubblicato di recente una lista delle 25 vulnerabilità più sfruttate da attori cinesi bene io ho preso questa lista e sono andato a vedere in effetti quali sono gli attacchi invece attribuibili ad attrattori national state e che in qualche modo ci fanno ricondurre anche alla possibilità di offendere direttamente i grandi imprese bene le tre vulnerabilità ai quali imputo la maggior parte degli attacchi sono una vulnerabilità nelle VPN Pulse Secure quindi per quale motivo beh aumenta la necessità di connettersi quelle grandi aziende che utilizzano queste vulnerabilità se non hanno patchato i propri sistemi si trovano esposti abbiamo sicuramente l'utilizzo di dispositivi load balancer proxy di big IP di F5 e poi abbiamo sicuramente tutta una serie di appliance che sono i gateway di Citrix che si trovano in grosse aziende che purtroppo se non patchati e quindi se affetti dalla vulnerabilità la 19781 aprono necessariamente le porte ad un attaccante che potrebbe sfruttare quel server per eseguire codice in remoto e quindi compromette l'intera infrastruttura bene stiamo volgendo al termine vedo che il tempo scuro è rapidamente e niente un altro fenomeno che è estremamente preoccupante è quello degli insider di fatto la pandemia sta creando le condizioni ideali perché vi siano attacchi addirittura dagli insider e quello che procuro è che le aziende non sono pronte a fronteggiare questi attacchi ci sono vittime illustre pensiamo a Twitter pensiamo ad Amazon Shopify che sono state vittime di queste tipologie di attacco e interessante è una survey che è stata organizzata da da un da Forrester il quale ci ci ammonisce ci cercherà attenzione signori che nel 2021 probabilmente un terzo degli attacchi potrebbe essere riconducibile ad attori interni quando parliamo di attori interni parliamo di partner commerciali dipendenti e adesso vediamo per quale motivo ma vi vorrei portare l'attenzione su questi due grafici che ci troviamo alla destra della slide vedete l'82% delle aziende si professa vulnerabile ad un attacco di insider ma è la cosa preoccupante che si è cosciente al 55% che c'è stato un attacco che è aumentata il rischio di attacco ma ancora più importante ed eloquente questa slide per quale motivo gli attaccanti diventano interni beh esistono diversi motivi sicuramente le difficoltà finanziarie possono spingere un individuo a voler aggirare dei controlli e cercare per esempio di capire informazioni e rivenderle sicuramente aumenta il malcontento il fatto che si lavori da casa in effetti ti espone a tutta una serie di influenze e non solo alcuni addirittura hanno la paura di poter perdere il proprio posto di lavoro e quindi questo poi porta a un comportamento che è quello tipico dell'insider sono sufficienti oggi gli strumenti che abbiamo ad esempio sistemi di data loss prevention o i PAN famosi no assolutamente è necessario aggiungere più livelli di sicurezza è necessario utilizzare dei sistemi basati su machine learning che in qualche modo riescano a tracciare un pattern di comportamento utile e non malevolo di un insider anche perché come dicevamo all'inizio della presentazione a cambiare sono soprattutto i processi delle aziende cioè il covid ha avuto un impatto devastante sui processi interni dell'azienda anche l'approvazione di un budget diciamo che prima era fatto attraverso anche lo spostamento l'interlocuzione diretta a trattori nello stesso ufficio oggi non è più così passa ad esempio per una validazione attraverso mail ed è lì che si può inserire un attaccante l'attaccante che può essere interno o esterno concludiamo la nostra rapida carrellata su un altro aspetto fondamentale beh le campagne di disinformazione tipicamente attribuite ad attori di National State ne sono state osservate diverse tra quelle più interessanti e connesse al tema coronavirus c'è stata per esempio tutta una serie di campagne organizzate dal governo russo contro il 5G per quale motivo? beh sapete che la Russia diversamente da ad esempio Nord Corea Corea del Sud Stati Uniti e Cina è molto indietro nello sviluppo di questa tecnologia e quindi ha organizzato campagne più o meno nascoste dico più o meno nascoste perché ha utilizzato anche la tv nazionale lanciando degli show contro il 5G uno si chiamava Apocalisse 5G altro esperimenti umani quindi capite che addirittura una tv di stato all'estero comincia a fare a diffondere delle notizie che non hanno nessun fondamento ovvero il link il legame tra 5G e coronavirus purtroppo di campagne del genere sono state associate sono state osservate tante non tutte associate alla Russia per esempio la Cina ha cercato di muovere delle campagne affinché si potesse in qualche modo distrarre l'attenzione dal tema Wuhan che è stato ritenuto da molti l'epicento della pandemia per far sì che invece si pensasse ad un attacco mosso qualcuno che ha portato il virus a Wuhan in occasioni e quindi abbiamo osservato diverse campagne simili concludiamo ebbè l'abbiamo detto all'inizio c'è stato un impatto assolutamente sì qual è la motivazione abbiamo un overlap significativo tra vissuto digitale e vissuto reale un overlap che ormai è imprescindibile diciamo che è diventato parte diciamo della nostra consuetudine e qual è un altro fattore che ha avvantaggiato questo fenomeno sicuramente l'utilizzo della tecnologia il livello di penetrazione è aumentato in maniera disarmante dalle famiglie dalla massaia dai nonni che vogliono vedere i nipoti e che non possono vederli di persone quindi sono costretti a utilizzare dei mezzi bene tutte queste persone sono immediatamente esposte senza alcun livello di protezione manca anche un processo di awareness di base ovviamente abbiamo altre emergenze in questo momento però attenzione nel momento in cui la tecnologia diventa così pervasiva nelle nostre case nel nostro vissuto quotidiano sarebbe opportuno poi fare una serie di procedi cercare di spiegare alla nonna alla mamma ai genitori alle maeste come è possibile proteggersi e difendersi e purtroppo invece dal lato aziendale molto spesso la sicurezza è ancora considerato un costo da ridurre un budget da tenere contenuto per evitare ovviamente di finire nell'occhio del management alto quindi è necessario proprio che vi sia un commitment importante e questo avviene solo in poca realtà beh lasciatemi dire che probabilmente quelli fenomeni che vi ho descritto adesso sono solo appunto dell'iceberg e che la maggior parte di essi sono ancora a divenire grazie grazie a te per Luigi per questo intervento dall'alto attualissimo e ti volevo dire che praticamente noi abbiamo con i partecipanti messo su una tweet chat quindi volevo ricordare ai partecipanti che possono interagire direttamente con te e fatti delle domande utilizzando appunto il tuo account twitter che ricordo essere at cyber security affair quindi vi invito e vi esorto a comunicare con Pierluigi e Pierluigi ti ringrazio ancora vedo anche Domenico Domenico lascia a te ora innanzitutto saluto Pierluigi grazie Domenico mi approfitto durante il tuo intervento ho ricevuto questa domanda adesso te la faccio vai vai e la domanda è questa Domenico ma devi proprio riprendere tu a parlare dai perché non lasci Pierluigi grazie mille Pierluigi grazie a te grazie a voi perché mi ha fatto veramente piacere grazie mille ciao Pierluigi ciao ragazzi se potresti stare però voglio dire immagino che voglio fare qualcos'altro grazie ancora grazie ancora benvenuto ciao caro ciao ciao allora Domenico sì ti do la ragazzi ricominciare dopo Pierluigi la possibilità di condividere ci provo diciamo è uno dei dei traumi più grossi che ho avuto da quando sono piccolo cioè parlare dopo che ha parlato uno che tu stimi tantissimo mi mette sempre soggezione no capito che adesso mi toccherà riprendere la discussione dopo spero di essere all'altezza va bene allora ragazzi ricominciamo da dove da dove ce ne avevamo ce ne avevamo lasciati io ho parlato di un di problemi che abbiamo nella cyber security e il problema è che non non riusciamo a capitalizzare gli investimenti in termini di competenze ma anche in termini di investimenti proprio no perché il fatto che l'attacco cambia continuamente che l'attacco è soggetto alle tecnologie che vengono inventate no io dicevo anche tutti quanti quando pensano alle tecnologie pensano sempre no sfruttiamo questa nuova tecnologia per la difesa adesso l'artificial intelligence come l'artificial intelligence modifica il panorama della cyber security senza sapere che l'artificial intelligence ha modificato da tanto tempo il panorama del cyber attack quindi ahimè noi dobbiamo conoscere gli attaccanti e conoscere tutto quanto quello che succede nel mondo faccio tanto questo qua è un concetto che nella difesa non è manco così nuovo faccio un piccolo esempio questo anche fa parte del mio ormai canovaccio diciamo comunicativo quindi chi ha assistito le mie lezioni le mie presentazioni al 99% questo esempio qua lo conosce allora conoscete avete visto che ci sono due tipi di castelli no castelli con la le torri tonde e i castelli con le torri quadrate ora quali sono quelli più vecchi sono quelli con le torri quadrate perché consentivano alle truppe sulle mura di correre da una parte all'altra molto molto velocemente e correre in linea dritta retta cioè spostare i mezzi in linea retta è molto più efficace che girare diciamo attorno ad un cerchio a meno che non si usa in bolt però è chiaro che correre in linea retta è più efficace che correre in linea circolare per tanto tempo questi castelli quindi si costruivano castelli squadrati poi ad un certo punto poi ad un certo punto nasce viene inventata la polvere da sparo ora la polvere da sparo cosa si faceva proiettava su queste mura dritte queste palle di piombo e la palla di piombo arrivava sul muro che era che era dritto piano insomma e creava dei danni devastanti si è scoperto che facendo dei muri che sono tondeggianti la forza inerziale della palla danneggia il muro molto meno perché questo è successo un pochettino perché distrutti un pochettino perché i nuovi ingegneri hanno cominciato ad adattare i vecchi castelli insomma i castelli da essere quadrati hanno cominciato a trasformarsi a tondi ed ecco perché voi vedete anche che ci sono tantissimi castelli che sono metà in metà quelli quadrati erano prima e quelli tondi erano dopo quindi nel mondo della difesa questo concetto di aggiornarsi in continuazione è abbastanza noto nella cyber security un pochettino perché la cyber security è la scienza IT quindi si tende a molte competenze molte persone ma anche molti processi vengono traslati dall'IT si tende a fare un investimento in funzione del ritorno di investimento per avere un ritorno di investimento tu hai bisogno di avere una visibilità del tempo in questo ritorno ci sarà cioè quindi io investo 100 lire 100 euro in cyber security mi aspetto che per i prossimi 3-4 anni questo investimento continui a garantire lo stesso risultato ahimè no perché dipende da quello che succederà successivamente quindi la cyber security è un processo continuo non è un qualcosa che io faccio un firewall faccio un antivirus scusate se non parlo di firewall di mir ho un grandissimo rispetto per i firewall tra l'altro stanno evolvendo questi antivirus stanno evolvendo quindi grandissimo rispetto per queste tecnologie però non si può pensare che io faccio un investimento X e sto apposto per sempre in continuazione devo fare investimenti regolamentazioni e direttive io mi devo preoccupare dagli attaccanti o mi devo preoccupare di rispondere ad una regolamentazione o ad una direttiva stessa cosa cioè se io c'ho guidun'anto mi devo preoccupare di non fare un incidente o mi devo preoccupare che non mi faccio una multa perché non ho la cintura di sicurezza questo è un dilemma vecchio ora perché la domanda provera è per quale motivo gli stati si preoccupano di sapere se io ho un antivirus installato sulla mia macchina cioè che gli frega ad uno stato di sapere se io sulla mia macchina ho l'antivirus gli ho fatto ieri un esempio se la mia macchina è esposta su internet e la mia macchina viene catturata da un attaccante la mia macchina può essere utilizzata per per fare per fare un attacco verso terze parti potrebbe essere utilizzata per bloccare un aeroporto e se si viene bloccato l'aeroporto non partono tutti i servizi che ai viaggi delle persone a cui erano collegati vengono danneggiate per cui c'è un impatto devastante per tutta quanta la comunità per cui lo stato dice visto che tutto sommato sulla sicurezza non c'è un ritorno di investimento visto che la sicurezza è un bene da un valore intrinseco sapete che vi dico nelle eventualità che voi non vogliate investire vi dico io dovete per forza investire in cyber security il principio è molto simile a quello della cintura di sicurezza sicuramente quando lo stato ha detto che le cinture di sicurezza erano fondamentali si preoccupavano si preoccupava del non so non un politico non è un registratore però immagino che chi ha fatto quella legge si preoccupava della salute del cittadino però si preoccupavano e sono abbastanza sicuro del fatto che senza cintura di sicurezza le persone avevano facevano che avevano un incidente le persone potevano avere dei danni molto grossi collegati a quell'incidente e se avevano dei danni molto grossi andavano a pesare sul costo del servizio sanitario locale quindi per ridurre i costi del servizio sanitario locale sapete che vi dico tutti quanti devono avere forzatamente la cintura di sicurezza se no io vi faccio una multa ora e più io come CISO mi devo come responsabile della sicurezza mi devo preoccupare di più di una multa oppure di più di ricevere un attacco beh effettivamente io non posso prescindere dal fatto che se arriva una multa il mio budget è impattato perché alla fine io mi preoccupo di un attacco perché ho paura che l'attacco mi comprometta il servizio e se mi compromette il servizio io ci perdo dei soldi però anche se non rispetto determinate regole io ci rimetto dei soldi perché arriva la multa e con GDPR soprattutto come ben sapete le multe sono molto 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 sensibili e poi ovviamente una volta che conosco attacchi o conosco le informazioni di contesto regolamentazioni e direttive ovviamente con conoscenza dell'industria ovviamente se devo suggerire quale controllo di sicurezza quale processo quale organizzazione suggerire devo conoscere se i controlli che i processi che le organizzazioni allora qualche domanda ricordo qualche domanda che ho accennato ieri cosa vuol dire che la sicurezza è un bene lavoro intrinseco non può essere calcolato un ritorno di investimento questa è la risposta che io ritengo la più corretta ora andiamo quindi ad analizzare tutti quanti quelli che sono gli elementi che dovremmo conoscere per decidere quale controllo quale processo e quale attività e quale organizzazione ho fatto quindi parleremo di attacchi di alcuni degli attacchi Pierluigi ne ha parlato ne ha citati e menzionati tanti io proverò per andare per differenza così provo a risparmiare del tempo controlli di sicurezza processi di sicurezza proveremo a parlare di qualche di qualche organizzazione e tecnologia informazione e conoscenza dell'industria insomma questo è il panorama completo io cercherò di toccare quelli che sono i punti fondamentali fondamentali del corso ovviamente rimandando a chi vuole seguire tutto il corso all'esecuzione del corso completo però durante questa presentazione toccherò una serie di concetti fondamentali alcune definizioni evento attacco incidente di sicurezza queste sono tre definizioni che dobbiamo sempre avere in mente perché molto spesso in letteratura si parla di queste definizioni ed è importante non mischiare l'una con l'altra allora un evento di sicurezza è un evento che viene generato da un dispositivo di sicurezza cioè antivirus c'è un firewall c'è un prevention system e tutti questi strumenti oltre a proteggere l'infrastruttura quello che dovrebbero fare è mandare un evento che viene collezionato da tecnologie che collezionano eventi per capire se l'infrastruttura è sotto attacco oppure meno ora molto spesso si tende a considerare il numero il crescere degli eventi come un problema che è conseguenza del fatto che crescono il numero di attacchi la realtà è che il numero di eventi crescono in funzione del fatto che crescono i numeri di dispositivi come facciamo un po' visto che facciamo un parallelo col covid il numero dei positivi aumenta perché si aumentano i malati si aumentano i positivi veri ma anche si aumentano il numero dei controlli quindi il fatto che aumentano gli eventi è sicuramente un problema vuol dire che stanno aumentando i dispositivi poi il responsabile della sicurezza non può ignorare il fatto che aumentano gli eventi cioè se il numero degli eventi non vuol dire necessariamente che stanno aumentando gli attacchi però il fatto che aumentano gli eventi non vuol dire che non è un problema per il responsabile della sicurezza perché se aumentano gli eventi il responsabile della sicurezza deve preoccuparsi di avere un'infrastruttura dei processi uno staffing adeguato al numero di eventi perché se no se abbiamo 8 milioni di eventi e nessuno va a controllare che eventi cosa dicono gli eventi che ci abbiamo a fare tutti quanti i dispositivi che generano gli eventi l'attacco è un tentativo di compromettere un servizio un incidente di sicurezza è un un attacco che ha successo ora a dare la sensazione di quanto volatili di volatili e quanti sono i concetti non volatili di quanto possono essere mal interpretati i numeri e i concetti nella cyber security se io vi dovessi chiedere ma il numero degli attacchi secondo voi aumenta o diminuisce voi cosa rispondereste ecco questo è un problema perché secondo me se io faccio una domanda di questo tipo in genere la platea si alza e tutti quanti vogliono dire a loro in questo caso temo che non riusciate a comunicare con me quindi vi ridoglio una possibile risposta una possibile risposta è che è evidente che la sensazione degli attacchi che la sensazione è che gli attacchi aumentano la realtà se poi andiamo a guardare i rapporti di cyber security dal 2014 su 2013 ad oggi scopriamo che di fatto il numero di attacchi che vengono importati diminuisce perché diminuisce e perché nel 2013 2014 il concetto di attacco era collegato all'idea del dispositivo compromesso quindi se io conquisto la mia macchina il mio computer per fare un attacco verso un'altra macchina nel prima del 2015 una situazione di questo tipo veniva contata come due attacchi perché era stata compromessa la mia macchina e quindi la mia macchina aveva ricevuto un attacco e poi c'era stato un altro attacco verso una terza macchina che era stato fatto utilizzando la mia macchina quindi due attacchi due incidenti da quando si è cominciato a da quando abbiamo cominciato a raccontare attacchi di tipo distributed denial of service cosa vuol dire distributed denial of service io comprometto milioni di macchine e questi milioni di macchine vengono utilizzate per lanciare transazioni verso un unico punto un unico servizio quindi in questo caso cosa vuol dire che io ho contato milioni ci sono milioni di dispositivi che sono stati catturati e da questi milioni di dispositivi viene lanciato un attacco verso un'unica sorgente quindi io dovrei col vecchio modo di calcolare le cose dovrei contare un milione di attacchi è un milione o meglio un milione e uno di attacchi la realtà è che dopo il 2015 il numero di attacchi di tipo distributed denial of service è così aumentato che a questo punto contare tutti quanti disposti collegare l'attacco al dispositivo compromesso diventava non efficace e quindi si tenta a contare gli attacchi dall'attacco più grosso che ha avuto successo per cui alla risposta alla domanda attacchi o incidenti aumentano o diminuiscono la risposta corretta come spesso accade in cyber security dipende dipende da come incontriamo questi attacchi e questi incidenti quindi state molto attenti a capire come gli attacchi vengono contati e come gli incidenti vengono contati se volete poi analizzare i dati andiamo invece a capire quando parliamo di attacchi di cosa stiamo parlando ora sulla sinistra ho un piccolo prontuario degli orrori della galleria degli orrori cioè molto spesso quando si parla di attacchi si pensa al malware così come dal punto di vista della difesa si pensa al firewall e all'antivirus dimenticando che il firewall e l'antivirus sono solo e soltanto alcune delle attività che possono essere utilizzate attività non processi non organizzazioni sono attività che possono essere fatte con il rischio di un attacco però se immaginate dal punto di vista dell'attacco invece quando si parla di attacco uno pensa semplicemente al virus o al malware che è un'evoluzione sostanzialmente invece ora effettivamente sulla sinistra vi renderete conto che il malware è sì una metodologia per poter attaccare ma ci sono tantissime metodologie di attacco che prescindono totalmente dal malware ci sono attacchi tipo brute force disfranchising code injection che prescindono cross-site scripting che prescindono totalmente dal fatto che ci possa essere un malware sulla propria workstation ok quindi questo ovviamente rende molto molto più complesso chi si deve difendere chi si deve difendere non si deve difendere dal malware un'altra andiamo a sfatare un altro mito quando si parla di cyber security si pensa sempre al al bad boy no che vuole attaccare che vuole attaccare forte a pace ok il cattivo che è quell'esterno quello che è buono è quell'interno poi dall'altro anche cattivo è buono sul cattivo è buono c'è anche da fare tutto quanto una discussione no non so se avete notato quando parlo di cyber security parlo sempre allora c'è una va beh visto che c'è una domanda Luisa di pazienza non è che me la potresti leggere la domanda che io mi è apparsa c'è una domanda oppure non c'è una domanda oppure c'è una considerazione c'è un commento domenico sì a cosa ti riferisci scusami ho ricevuto una domanda una domanda che dice dove si possono trovare le definizioni dei vari attacchi allora risposta nelle prossime slide qui l'ho fatto una piccola sintesi poi nelle prossime slide ci sarà sicuramente una spiegazione non sono non sono definizioni sono descrizioni descrizioni dei vari attacchi poi ci sta una informazione parlando di quanto le informazioni sono utili ci sta il MITRE che è un'istituzione che classifica gli attacchi ma anche le chi fa gli attacchi no che ha una descrizione molto più dettagliata e poi ci sono i blog di cyber security ci sono i security analyst uno dei blog io sono diventato amico amico di di Pierluigi perché leggevo spesso il suo blog lui spesso fa analisi di attacchi i nostri ricercatori che abbiamo all'interno di Esprimia fanno analisi degli attacchi e li descrivono nel nel report quindi purtroppo gli attacchi sono così tanti che il MITRE ne descrive qualcosa io citerò le macro categorie poi se lei domani verrà presentato il prossimo rapporto il rapporto del terzo quarto quando analizziamo degli attacchi gli attacchi più importanti per il quarto specifico li descriviamo anche all'interno del nostro report della cyber security quindi se vuole avere informazioni sugli attacchi sicuramente il MITRE o l'informazione è una sorgente di informazioni sicuramente i blogger che scrivono su di cyber security è un'altra eccellente sorgente di informazioni sicuramente il nostro osservatorio ormai da questo da ieri abbiamo deciso di attivare un account twitter con cui condivideremo tutte le informazioni su attacchi novità che ci sono nel campo della cyber security quindi io vi invito a seguire anche il nostro account twitter comunque dopo parlerò anche di un po' di informazioni sulla cyber security allora ritorniamo penso di non avere nessun'altra domanda però Luisa se per caso ci sono delle domande magari interrompimi così io provo a dargli una risposta ovviamente c'è sempre la tweet chat aperta così magari se qualcuno se l'è perso può rivederla allora un altro mito dicevo che dovevo dalla compliance ne ho già parlato compliance e le regolamentazioni quindi di questo ne ho già parlato gli attacchi che vengono dall'esterno è questo mi sembra abbastanza ovvio chi si preoccupa di server security si deve preoccupare di attacchi che arrivano dall'esterno ahimè però c'è anche un altro piccolo particolare è che gli attacchi che vengono dall'istanza sono due particolari che gli attacchi che arrivano dall'esterno voglio dire espandano mi devo preoccupare di questo ma gli attacchi molto spesso arrivano dall'interno adesso spesso volentieri io vedo statistiche è una delle statistiche che è più comune è quella degli 80-20 no? 80 paradossalmente si pensa che il 20% degli attacchi arrivano dall'esterno e l'80% arrivano dall'interno e questo è già qualcosa che ci dovrebbe far preoccupare e la seconda cosa che ci dovrebbe far preoccupare è il fatto che poi non è così scontato che arrivi dall'esterno un attacco piuttosto che arrivi dall'interno come dicevo prima nella cyber security dipende è la risposta più corretta nella maggioranza dei casi io faccio un esempio chi lavora in cyber security avrà prima o poi sentito parlare di Stacksnet Stacksnet è diventato famoso per una serie di ragioni comunque sostanzialmente si dice che è un malware che è stato creato da un paio di stati per ritardare il programma nucleare di un altro stato come si è fatto a ritardare il programma nucleare dello stato si è deciso di infettare delle chiavette usb lasciarle da qualche parte vicino alla centrale nucleare di questo stato sperando che questa chiavetta usb da fuori entrasse all'interno di questa centrale nucleare ora la letteratura lo storytelling su questo evento Stacksnet ci fa sembrare le persone che sono state vittime di questo attacco quasi come delle persone con l'anello al naso perché hanno preso una chiavetta usb e l'hanno inserita all'interno di un di un proprio laptop quindi hanno preso una chiavetta all'esterno e l'hanno inserita all'interno del proprio laptop ora io quando quando racconto questa cosa qua ricordo sempre che sta cosa questo attacco è oramai abbastanza datato stiamo parlando più di dieci anni e che dieci anni fa utilizzare una chiavetta usb sarà abbastanza comune dico dieci anni fa oggi continua ad essere abbondantemente comune anzi dico di più se andiamo nelle conferenze di cyber security ahimè uno dei gadget che viene più spesso dato continua ad essere la chiavetta usb per cui non è che dieci anni fa e sono stati tra virgolette sfortunati come spesso sono sfortunati le vittime di un attacco ma non è stato commesso cioè una grossissima ingenità e poi c'è da rispondere alla domanda era un crimine era un attacco interno o esterno allora anche qua mi piacerebbe lanciare la domanda anzi se volete rispondere tramite commento mi fa anche piacere se non rispondete mi do io qualche elemento per poter rispondere perché dipende se nell'azienda se nella centrale nucleare c'era una polis che diceva ai dipendenti non potete inserire la chiavetta usb all'interno del del laptop sicura o del computer chi lo ha fatto ha violato una regola in maniera consapevole o in maniera inconsapevole gli americani mi chiamano inadvertent acto cioè persone che fanno delle cose per mancanza di conoscenza delle leggi che sapete che comunque la mancanza di conoscenza di una legge non giustifica il fatto che il crimine venga fatto per cui la legge non ammette ignoranza per cui in quel caso se esistevano delle regole e stiamo parlando di un attacco che arriva dall'interno perché vuol dire che un dipendente in malafede o in buona fede ha violato una regola se questa regola viceversa non esisteva cosa è successo? è successo che qualcuno dall'esterno ha preso una chiave assolutamente in maniera regolare come dieci anni fa si faceva tranquillamente ha inserito questa chiavetta nel proprio dispositivo quindi quando parlo di Staxnet dove si sa oramai se ne parla da tantissimo non c'è conferenza di cui non si parla di Staxnet e molti dicono hanno per scontato tantissime cose la realtà che oggi come oggi non siamo neanche sicuri al 100% se stiamo in presenza di un attacco interno o di un attacco esterno non c'è un'altra domanda no? no al momento no perfetto perché mi riapparsa la domanda prima quindi non so per fare andiamo ad analizzare anche l'idea di chiuceno vi ho detto prima che l'attaccante c'ha tutto il tempo per organizzare un attacco ora l'attacco tutti gli attacchi hanno diverse fasi però non è che l'attacco non è una pistolettata l'attacco viene costruito l'attaccante poi il danno normalmente è un attacco è una cosa molto veloce ad ogni attacco è associata è associata una sequenza di attività che vengono fatte per portare un attacco se i controlli di sicurezza sono attività che vengono fatti per difendersi la keychain sono tutte quante le attività che vengono fatte per attaccare andiamo a vedere questa qua è una keychain che è associata all'attacco tipo malware la realtà la realtà è che questa keychain è molto databile ha tantissime molti tipologie datate si comincia con la parte di reconnaissance cioè l'attaccante non è che ha tempo da perdere l'attaccante deve studiare l'attacco perché deve fare degli investimenti e questi investimenti gli devono portare dei profitti allora questa è una cosa che normalmente in azienda viene fatta da coloro che si occupano di offer management cioè studiano il mercato per decidere quali sono le potenziali vittime che strumenti utilizzare e così via ma offer in management sono persone che non hanno una specializzazione estremamente tecnica possono averla anche tecnica ma normalmente hanno a che fare con materie di carattere economico questo lo vi dico perché in genere quando pensiamo all'hacker pensiamo a persone col cappuccio che stanno là chissà perché su tutti gli hacker sono col cappuccio vengono rappresentati col cappuccio forse vengono dal nord dove fa sempre molto doveva fa sempre molto freddo però diciamo l'immaginario che l'hacker è un developer e il developer serve sicuramente per costruire lo strumento d'attacco che poi è una fase successiva poi dopodiché l'attacco una volta che si è costruito si è pensato di fare l'attacco l'attacco deve il malware o l'oggetto dell'attacco deve arrivare deve raggiungere il target la vittima come lo faccio? lo faccio con società che fanno sono abituati a mandare email allora che vuol dire che tutte quindi attività che fanno marketing comunicazioni sono attività sono criminali perché distribuiscono dei malware o fanno campagne di phishing o malvertisement certo che se lo fanno in maniera scientifica è chiaro che ci sta del toro ma immaginate che i ricercatori dedicano del tempo giorni mesi talvolta anni per capire che un programma è un malware ok come fa una persona che fa un altro tipo di business ad identificare che un programma è un malware quindi immaginate che qualcuno si rivolge ad una società che fa distribuzione e gli dice carissimo ti pago x distribuisci questo file distribuire file è il loro business perché dovrebbero dire di no vanno a vedere fanno una ricerca vedono che questo malware non è un malware non viene tracciato come malware dopo di che partono con la distribuzione ricordo da una parte ci sono attaccanti dall'altra parte ci sono bassi ci sono dottori ci sono persone che fanno il loro mestiere il loro mestiere è anche quello di fare di fare marketing e poi ho parlato di malware no? secondo voi il malware è legale o illegale? anche qua mi piacerebbe avere una risposta così provate rispondi anche tramite chat tanto il posto anonimato viene garantito ma il malware sarete sconcertati dal saperlo se non siete esperti di cyber security ma il malware non è illegale come in parecchi stati non è illegale avere una pistola e l'uso che ne fai della pistola che rende l'utilizzo della pistola illegale stessa cosa del malware e poi la pistola tutto sommato è uno strumento di offesa chiaro ma nel malware c'è un problema oltre al fatto che è uno strumento non è per quanto tale illegale o meno l'utilizzo di quello strumento che lo rende illegale ma poi come fai a capire se un malware fa del male oppure no cioè una pistola si capisce che se tu spari può fare del male ma un programma va a capire se questo programma fa del male o no quindi alla fine questa attività qua viene fatta spesso e volentieri utilizzando strumenti legali cioè noi stiamo parlando di attività illegali che molto spesso utilizzano attività legale altra fase e questa è una fase molto molto interessante molto molto interessante è la parte di exploitation cioè tutti quanti tutti quanti gli attacchi vengono fatti sfruttando delle vulnerabilità tra l'altro avete notato che prima quando parlavo di Stacksnet mi sono un pochettino impallato perché non mi ricordavo una cosa che secondo me mi piace raccontare di Stacksnet Stacksnet è passato alla storia per aver sfruttato quattro vulnerabilità software la realtà è che poi con grandissima probabilità ha sfruttato anche una vulnerabilità di processo quindi le vulnerabilità non sono soltanto software e hardware ma sono anche vulnerabilità che hanno a che fare con la competenza e la consapevolezza delle persone ma anche hanno a che fare con i processi se non esisteva un processo che costrugeva le persone a non inserire una chiavetta USB all'interno del laptop l'attaccante ha sfruttato quella vulnerabilità di processo torniamo all'exploitation quindi in genere se io per creare un attacco sfrutto le vulnerabilità chi fa il mestiere di scoprire questa vulnerabilità è appunto un mestiere che sta nel campo della cyber security e del cyber crime perché se tu scopri una vulnerabilità e la comunichi a un legittimo proprietario dell'applicazione affinché questa applicazione possa essere corretta è un'attività legge se tu viceversa la comunichi all'attaccante ahimè per farla sfruttare ahimè questa attività diventa un'attività illecita in verità adesso si lanciano vedo lanciati sempre più spesso programmi da una parte e dall'altra da una parte dei buoni e da una parte dei cattivi che si chiamano bug bungee che sono delle sfide delle sfide che tendono a far scoprire le vulnerabilità l'idea è è meglio voglio conoscere quanto prima possibile la vulnerabilità per poterla scoprire per poterla sfruttare per poterla risolvere ovviamente posso anche conoscere un mi piacerebbe conoscere una vulnerabilità come attaccante che non è stata ancora scoperta ma poterla sfruttare perché se la sfrutto senza che nessuno la conosce i danni che posso fare sono molto alti sono molto alti tra l'altro questa fase qua quella di sfruttare le vulnerabilità di malware molto spesso noi conosciamo i nomi i macronomi di malware ad esempio sono sicuro che tutti quanti noi conosciamo malware che si chiama WannaCry che ha fatto tantissimi dati che è un ransomware che ha fatto particolare cioè un malware che criptava i dati molti molti sanno non sanno che effettivamente WannaCry come strumento per sfruttare le vulnerabilità utilizzava un programma che si chiama EternalBlue malware che veniva sfruttato non solo da WannaCry ma anche da un altro malware che si chiamava NonPetya quindi NonPetya e WannaCry ricordatelo questo NonPetya e WannaCry entrambi sfruttano lo stesso exploit di una vulnerabilità specifica e questo exploit si chiama EternalBlue dopodiché il malware va installato normalmente visto che l'attaccante vuole averne un vantaggio la prima cosa che viene fatta quando il malware viene installato è stabilire una sessione di command and control verso l'esterno stiamo parlando di specializzazioni totalmente diverse command and control richiede determinate specializzazioni lo sviluppatore è un'altra specializzazione offering management quindi stiamo parlando di specializzazioni che sono totalmente diverse infine io cripto i dati e una volta che ho criptato i dati ho fatto un'altra cosa cosa voglio cioè l'attaccante cosa vuole ottenere dalla vittima l'attaccante questo è un business qualunque cosa fa l'attaccante poi ci sono anche altri tipi di di criminali quindi oppure altri tipi di attaccanti cioè sono gli stati ci sono che si specializzano ovviamente anche a combattere non solo soltanto su terra aria e acqua ma anche dal mondo del cyberspazio beh in generale chi fa gli attacchi vuole avere dal denaro non posso altro che il mondo finanziario è quello più sempre il più soggetto all'avanguardia sia da un punto di vista che dall'altro insomma l'attaccante vuole ottenere dal denaro come fa l'attaccante ad ottenere dal denaro chiede della criptovaluta ora ci sono molto spesso tentativi di criminalizzare la criptovaluta no? la criptovaluta viene spesso disegnata come qualcosa che è anonima e quindi o o o e per questo viene utilizzata i criminali ma la realtà è che i criminali utilizzano la criptovaluta perché la criptovaluta ha a che fare con i computer è una qualcosa che ha a che fare con i computer sul fatto che sia anonima è fortemente anonima ma è sicuramente meno anonima nel cash il cash è anonimo il chi fa transazioni con le criptovalute può essere anonimo fino ad un certo punto veramente fino ad un certo punto però non è sicuramente questo l'obiettivo cioè non è sicuramente questo l'obiettivo della mia talk l'obiettivo della mia talk è che una volta che il criminale ha la cripta e ha in mano un bitcoin no? che ci fa con questo bitcoin? certo ci sono a Roma mi sa che sono quattro bank che accettano criptovaluta ma quattro ma con un bitcoin che fai? vai al bar e ti prendi un aperitivo vai in vacanza col bitcoin sì probabilmente si può anche andare in vacanza col bitcoin ma la tua possibilità di fare le spese è molto molto ridotta sostanzialmente il bitcoin la criptovaluta una volta che sia ottenuta viene trasformata in voluta normale e questo non è qualcosa che viene fatto dallo sviluppatore col cappuccio viene fatta da persone che sono specializzate in transazioni finanziarie allora quindi pensavate che l'attaccante era una persona col cappuccio l'attaccante è qualcuno che riesce a mettere su un'organizzazione un'azienda estremamente complessa che fa tutte queste fasi qua ecco perché il mitre oltre a descrivere gli attacchi sempre più spesso descrive la specializzazione delle varie gang criminali che diventano famose tanto quanto gli attacchi specifici cioè oggi come oggi paradossalmente se fino a qualche tempo fa si conosceva il virus oggi sono più famose le gang che mettono che sono specializzate in command and control piuttosto che sono specializzate in exploit exploitation piuttosto che sono specializzate nel mettere insieme tutti e quanti pezzi caro Luisa io un attimino mi devo riposare che facessimo 15 minuti di break cosa ne pensi domenico hai ragione hai ragione quindi sì assolutamente sì facciamo procediamo con il break quindi sono 11 e 40 sì vediamo alle 11 45 ci vediamo alle 12 perfetto poi al 12 quanto tempo posso parlare alle 12 puoi parlare ancora fino alle 13 e 30 fino alle 13 e 30 non c'è un altro intervento a metà no 13 e 30 sì tutto per te il tempo sarà tutto per te per l'education sì mi sto specializzando dai va bene dai allora ci riprendiamo alle 12 a dopo a più tardi ragazzi vi lascio questa immagine vediamo un pochettino se è l'immagine successiva no l'immagine successiva no vi lascio questa immagine ciao perché non vediamo un pochettino no attiva video ecco perfetto ci sono dei malware che nella cyber security diventano più famosi di altri malware basta per basta per perché ad esempio uno dei malware e quindi chi lavora nella cyber security non può prescindere dal conoscere determinati malware ad esempio Mirai Mirai è un malware è diventato famoso perché ha dimostrato tutto che le telecamere di video sorveglianza potevano essere compromesse la verità è che sì è anche quello un motivo per cui è diventato famoso cominciamo a dire che questo malware è riapparso l'ultima settimana di ottobre effettivamente era stato sviluppato molto prima però il primo evento grosso che si ricorda è l'ultima settimana di ottobre il mese europeo della cyber security e questo malware comprometteva delle telecamere di video sorveglianza è chiaro che l'attaccante ci aveva anche un certo senso dello humor ora la peculiarità è che le telecamere di video sorveglianza continuavano a funzionare perfettamente e questo è quello che mi ha fatto pensare all'idea di definire la sicurezza come un valore dal bene intrinseco perché perché non cioè Mirai ci ha fatto capire non tanto che i sistemi IoT sono non sicuri ma questo più o meno potevamo anche immaginare e il problema è che le telecamere non hanno un valore forniscono un servizio che è molto molto limitato per cui alla fine della storia perché bisogna investire in telecamere se non c'è un ritardo di investimento ed ecco perché però ho detto se io non proteggo le mie telecamere milioni di telecamere vengono compromesse ed ecco perché è stata scelta la telecamera perché era distribuita sul territorio non sicuro in quel caso la verabilità era che l'utenza e la password era inserita all'interno del firmware della telecamera perché ovviamente chi usa la telecamera non ci vuole mettere tutte le volte utenze e password ma si mettiamo direttamente quindi all'interno del firmware ma ripeto non è un problema del produttore è un problema della domanda la domanda è dei dispositivi che non siano cyber security cyber security ma che siano funzionari che facciano quello che devono fare e la telecamera di videosorveglianza deve riprendere le persone che passano le stanze e non che deve essere sicura e questa qua è una cosa che interessa quindi mettendo delle volte in tutte queste telecamere si fa partire un ping verso un DNS che forniva delle applicazioni molto 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 importanti nel campo del messaging e collaboration io non cito mai i nomi né i nomi delle vittime né i nomi degli attaccanti ok vedete conquisto delle telecamere di videosorveglianza faccio partire un attacco verso un DNS il DNS va giù non riesce a rispondere più alle richieste legittime l'applicazione che si cuoce su questo DNS va giù ad ottobre del 2017 fatto il sottoscritto e poche riviste specializzate pochissime pochissime persone hanno parlato di Mirai però poi di Mirai se ne è parlato veramente tantissimo non c'è conferenza a cui io vi ho assistito in cui non si sia parlato abbondantemente di Mirai quindi voi direte vabbè ma se ne è parlato tanto quindi oggi di Mirai attacchi tipo Mirai non ce ne possono più essere ahimè no giugno di quest'anno o maggio di quest'anno il nostro osservatorio ha osservato un nuovo attacco di tipo Mirai quindi vuol dire che di tanto se ne è parlato tanto così come per le chiavette USB però di fatto oggi il problema è ancora quello è ancora quello che le telecamere di videosorveglianza ahimè non sempre vengono gestite dal responsabile della sicurezza cyber vengono gestite dai responsabili della sicurezza fisica che ovviamente si preoccupano che si preoccupa del fatto che le telecamere funzionano ma il fatto che ci sia un malware su quelle telecamere non vuol dire che le telecamere non funzionino non funzionano apro una piccola parentesi mi è stata fatta la domanda come si fa a riconoscere un malware domanda risposta risposta breve controllate che non ci sia nessuna anomalia in cyber security quindi questo è il suggerimento più comune i malware la prima cosa che fanno è rimuovere altri malware sulla workstation perché ovviamente loro sanno quali sono per cui la percezione che io posso avere installando quando io ho il malware sulla mia workstation è che il sistema funziona addirittura meglio perché? perché sono stati rimossi tutti quanti gli altri malware ok? per cui diffidati di tutto quanto quello che è anomalo anche in positivo nel caso delle telecamere il Mirai non faceva nessun danno alle telecamere però grazie a quelle telecamere un servizio molto importante è stato bloccato quindi e questo è quello che per cui Mirai secondo me passerà la storia sta passando la storia non si possono più fare investimenti solo e soltanto considerando il ritorno di investimento quindi valore dell'asset e valore del servizio altro malware che è diventato famosissimo Staxnet è diventato famosissimo perché ha dimostrato tra virgolette che un ambiente anche chiuso industriale quindi può essere attaccato la verità è che poi di Stax se ne parla tantissimo e come come vi ho già detto prima si sa veramente poco non si sa neanche se è un attacco interno piuttosto che un attacco esterno non si sa neanche questa chiavetta USB dove si è stata messa c'è chi dice in un bar c'è chi dice nel parcheggio probabilmente saranno veri entrambi si pensa che l'attacco abbia a che fare con il PLC di un sistema scada ed è vero però le vulnerabilità che sono state sfruttate sono vulnerabilità su Windows 4 vulnerabilità su Windows ora che ci fa Windows all'interno della città nucleare il motivo è molto semplice un sistema scada di quella vecchia maniera che comunica che ha una interfaccia molto particolare quelle interfacce che vediamo bene con i caratteri verdi insomma piuttosto che comunica che le cui comunicazioni all'interno avvengono tramite protocolli delicati ovviamente è attaccabile ma richiede competenze specifiche per attaccarlo il problema è che oggi come oggi i protocolli utilizzati molto spesso sono protocolli che vengono tunnelizzati su protocolli IP standard quindi stiamo parlando di dispositivi esposti su talvolta di tu esposti su internet vedremo una ricerca che è stata fatta dall'osservatorio molto molto interessante su questa materia quanti dispositivi noi abbiamo oramai disposti esposti direttamente su internet le interfacce oggi come oggi chi lavora con queste interfacce vecchie tutti quanti preferiamo utilizzare sistemi open per accedere a questi dispositivi quindi linux windows e ahimè questi dispositivi open sono estremamente distribuiti sul territorio e ovviamente non esistono sistemi perfetti tutti i sistemi sono in qualche modo vulnerabili nel momento in cui io scopro una vulnerabilità su windows posso attaccare milioni di dispositivi quindi Staxner conosco tutto però ricordiamo quello che è importante un sistema industriato industriale attaccato tramite quattro vulnerabilità su un sistema su un sistema aperto ricordiamolo quando dobbiamo andare a proteggere il sistema industriale preoccupiamoci di fare un'analisi dei vari protocolli che vengono utilizzati però preoccupiamoci anche del fatto che questi sistemi industriali comunicano utilizzando spesso e volentieri sistemi utilizzano con sistemi IP classici allora cominciamo a raccontare un po' di tecniche di attacco Pierluigi ha parlato di tante tecniche utilizzate quindi ho deciso di rimuovere molto velocemente le tecniche già utilizzate da Pierluigi mi focalizzo su quelle per differenza ora Secure Injection Secure Injection è la più antica tecnica d'attacco che non ha nulla a che fare con il malware sfrutta il fatto che nei linguaggi interpretati non c'è differenza tra dato e istruzione quali sono i linguaggi interpretati molto particolari in questo caso sono i linguaggi interpretati che hanno a che fare con l'accesso database e i database sono necessari per conservare le coppie di utenze e password quindi come funzionano i sistemi di autenticazione si inseriscono utenza e password nel back end nell'interfaccia nel back end c'è normalmente un programma SQL che è interno del database e va a cercare all'interno di questo database se esiste la coppia utenza e password quindi inserisco domenico la mia password per accedere a Facebook o ad un'altra applicazione ci sarà un programma che va a controllare la database utenza e password lo sto facendo semplice questo database si chiama LDAP e esiste la coppia esattamente utenza e password così come l'ho inserita io se si mi viene dato accesso se no l'accesso mi viene rifiutato ahimè l'SQL che interpretra che interpretra il il l'invito scusate ho ricevuto una telefonata e ho dimenticato di mettere l'invito l'SQL che interpreta il linguaggio che esegue il linguaggio il back end che esegue il linguaggio SQL non fa distinzione tra dato e comando per cui io invece di mettere l'utenza e la password posso inserire direttamente un comando da fare seguire dicevo prima che è importante conoscere il Python è importante conoscere la programmazione in generale è chiaro che un meccanismo di tipo SQL injection è facilmente comprensibile da chi conosce la programmazione difficilmente digeribile da chi la programmazione non ce l'ha però io la sintesi è questa io inserisco nel campo utenza o nel campo password non un utenza o una password ma inserisco un comando che il programma di back end eseguirà e questo comando magari può essere un comando che mi dice non eseguire il comando successivo ma ritorna semplicemente la risposta vera facendo così riesco a violare il sistema di autenticazione che mi viene messo a disposizione dall'applicativo a cui voglio accedere tecnica vecchissima sarebbe sufficiente proteggersi andando a controllare gli input che vengono inseriti nelle applicazioni però questa qua è una tecnologia che ancora oggi molto spesso viene utilizzata stessa SQL injection è la più famosa di queste tecniche poi ce ne sono tante altre command injection e così via tutte quante tecniche che vanno a sfruttare il fatto che ci sta il programma o una parte del programma che non distingue dato da comando disfranchising cosa vuol dire questa tecnica questa tecnica è usata per cosa vuol dire la tecnica la tecnica vuol dire che se io devo attaccare un target molto importante immaginate ad una banca non attacco la banca nel paese in cui questa banca è più forte attacco questa banca in un paese in cui lei è meno forte e quale potrebbe essere questo paese che è meno forte potrebbe essere ad esempio l'Afghanistan immaginate che una banca italiana acquisisca una banca in Afghanistan quindi da domani in Afghanistan ci saranno dei branch office degli sportelli della banca italiana allora cosa fa l'attaccante attacca la banca italiana in Italia dove ci saranno delle mura fantasmagoriche assolutamente no le attacco l'attacco in Afghanistan scrutando magari che cosa questa è una vulnerabilità tipica in Afghanistan probabilmente il linguaggio il sistema operativo utilizzato non è quello inglese ma è quello afghano cosa vuol dire vuol dire che quando una vulnerabilità viene annunciata viene normalmente risolta molto velocemente sui sistemi in lingua sui sistemi non in lingua quindi l'afghano e altre lingue la fix per questa vulnerabilità arriverà qualche minuto dopo l'attaccante questo è la vulnerabilità che va a sfruttare l'attaccante va stando a osservare a quando viene annunciata la fix per una determinata vulnerabilità se viene annunciata una fix per una determinata vulnerabilità vuol dire che la vulnerabilità esiste ancora per quei sistemi che la patch non l'hanno installata quindi vado a cercare numero uno quei sistemi che la patch non l'hanno installata e non l'hanno installata perché magari per installare una patch ci vuole tanto tempo perché remotamente questa patch è più complicata da installarla ma probabilmente anche perché questa patch probabilmente non esiste il fornitore ha fatto la patch per il sistema in lingua ma non l'ha fatto la patch per il sistema non in lingua se non esiste la patch a quel punto io posso sfruttare la vulnerabilità che è presente ora mi chiederete ma quanti attacchi vengono fatti in Afghanistan effettivamente disfranchising quanto è stato fatto è stato fatto citando esplicitamente non l'Afghanistan ma lo storytelling che ho detto io attaccare un headquarter remotamente la realtà è che poi io vado ad analizzare spesso e volentieri i sistemi presenti anche in Italia e spesso e volentieri noi ci troviamo noi ci troviamo di fronte a sistemi che non sono in lingua nella stessa lingua del fornitore perché? perché probabilmente noi in inglese non parliamo perfettamente quindi preferiamo comunque che l'end user sia certo delle operazioni che sta facendo ora possiamo risolvere questo problema sicuramente è un problema che ci dobbiamo porre cioè quando andiamo a fare gli analisi quando andiamo a suggerire che tipo di controlli vanno fatti andiamo a controllare le applicazioni che ci sono le applicazioni che ci sono sono applicazioni sviluppate in casa sono applicazioni sviluppate da un produttore queste applicazioni vengono tradotte non vengono tradotte perché è chiaro che l'attaccante sarà lì ad osservare quando determinate vulnerabilità potranno essere rispondibili undefined questa non è una metodologia di attacchi però mi ricorda spesso mi ricorda un evento che mi è successo all'inizio della mia carriera quando feci il mio primo programma e nel primo programma io sostanzialmente mi ero focalizzato sul workflow normale del programma dopo di che qualunque cosa succedeva io mandavo un errore che si chiamava un recupero un recupero e così via quindi c'erano centinaia di situazioni in cui il mio programma veniva tradotto come errore non recuperabile allora il mio capo mi dice Domenico ma non puoi rilasciare un programma che qualunque tipo dei problemati da un errore di tipo non recuperabile allora io comincia a mettere una serie di errori zero voleva dire questo uno voleva dire questo due voleva dire questo e poi ovviamente nei vari if alla fine se nessuna delle cause precedenti era utilizzata l'ultimo errore era un recoverable contento do il programma al test e poi al test mi dice Domenico ma effettivamente si capiamo che abbiamo messo tutti questi errori però noi continuiamo a vedere solo e soltanto al recoverable ecco questo qua più o meno è l'undefined in tutti i report di cyber security troverete che ci sono centinaia di migliaia di attacchi e classificazioni di questi attacchi e poi c'è una categoria undefined cioè io so che c'è stato un attacco ma non so esattamente come l'attacco viene fatto scoprirete che questa categoria è una categoria che è molto comune nei report di cyber security come ci si può difendere da qualcosa senza che si conosca esattamente come l'attacco viene fatto ora da questo punto di vista il machine learning l'artificial intelligence sta aiutando parecchio in campo della cyber security io imparo quello che è il comportamento normale per segnalare anomalie se c'è un'anomalia vuol dire che non sono sicuro che c'è un attacco ma è sicuramente qualcosa che va osservato ovviamente quando parlo di anomalia parlo di anomalia in accesso di utenze parlo di anomalia sugli accessi anomalia sugli utilizzo dell'utenza parlo di anomalia sui processi anomalia sui file anomalia addirittura anche sul modo in cui il mouse viene utilizzato questa è una delle tecniche che ho visto anche sviluppare cioè io riesco a rendermi conto che la persona che sta inserendo un'utenza e password è lui oppure qualcuno che ha rubato l'utenza e la password in funzione del fatto che il mouse di come il mouse si muove nei momenti precedenti a quando io inserisco l'utenza e password quindi a modellizzare i comportamenti è fondamentale quello di identificare anomalie al comportamento stesso cross-site scripting cosa vuol dire io inserisco nel portale un una un qualcosa che mi ridige che ridirge la persona che sta reggendo il portale su un altro portale quindi io come utente penso di stare a lavorare sul mio portale immaginate che accedete ad una banca accedo alla banca inserisco utenze e password perfetto sto lavorando su questo mio portale però la banca potrebbe essere stata attaccata e nella banca l'applicazione della banca io ho inserito qualcosa che ha ridiretto la mia attenzione la mia attenzione le mie transazioni verso un altro portale che sono quelle di proprietà dell'attaccante quindi quando accedete un sito guardate sempre l'url che si trova nel browser se l'url cambia potrebbe essere una cosa legittima ma se l'url cambia totalmente ponetevi problema stiamo sempre nella legittima applicazione della banca o agli altri oppure in altre cose water in gold cosa vuol dire cosa vuol dire water in gold testualmente vuol dire buco cioè perdita d'acqua in un tubo fa riferimento a quanto alla sciabana quando ci sono delle o delle pozze d'acqua oppure delle perdite di acqua all'interno di un tubo tutti quanti gli animali per abbeverarsi si rivolgono a queste pozze d'acqua a queste perdite di acqua all'interno all'interno dei tubi come si fa per abbelenare una popolazione degli animali basta abbelenare quindi la sorgente dell'acqua io abbeleno la sorgente dell'acqua tutti si vanno ad abbeverare a questa sorgente tutti quanti se io voglio attaccare il general manager di una banca a volte bruttante probabilmente attaccare la banca o attaccare lui in banca sarà complicato quindi cosa faccio però vado ad attaccare i suoi figli oppure vado ad attaccare i portali che vengono spesso utilizzati da questi figli perché il figlio prima o poi manderà un messaggio il figlio prima o poi sarà in contatto con questo personaggio della banca e quindi a quel punto io attaccante cosa faccio dal figlio mi sposto al padre quindi watering go vuol dire non focalizzarsi sulla vittima direttamente ma attaccare delle persone che sono vicine per poter incontrare l'attaccante finale redirection attack ci sono diversi tipi di redirection attack un tipo molto semplice è quello di modificare la configurazione del dns della propria macchina cosa vuol dire dns io dico sempre che la cyber security ha a che fare con due elementi programmazione e conoscenza della rete se non si hanno questi due elementi è molto molto complicato essere efficaci nella cyber security voi sapete che internet non è fatto di host name ma è fatto di numeri questi numeri sono gli indirizzi però noi comunichiamo con internet tramite nomi tramite host name tramite url quando inseriamo un url all'interno del browser non mettiamo il numero 1.4.5.7.8 che è l'indirizzo IP metteremo www.exprilia.com chi mi traduce www.exprilia.com in un indirizzo IP sono i dns ora la mia macchina normalmente utilizza dei dns sono io che gli devo dire alla mia macchina quali sono i dns che devono fare questa produzione guarda accanto cosa può decidere di fare va nella configurazione della rete della mia macchina e modifica il dns e dice guarda dice la macchina da questo momento in poi la traduzione non ti verrà fatto dal dns legittimo ti verrà fatta da un altro dns che incidentalmente ti porterà su un sito che oltre a fare la traduzione ti ruberà anche qualcosa ora uno degli modi per accorgersi di questo è appunto verificare che internet sia funzionato troppo bene perché i dns normalmente devono fare anche un controllo sul fatto che il sito è legittimo o non è legittimo cioè se ci sono dei siti che sono taggati come siti cattivi il dns nell'eventualità che io sto andando verso questo sito blocca l'applicazione dice non andare ad esempio su questo sito perché potrebbe essere taggato con materiale pornografico questo lo fa il dns legittimo l'attaccante questo tipo di controllo non deve farlo l'attaccante l'unica cosa che vuol fare è portarti sull'applicazione che tu vuoi raggiungere rubandoti dati ulteriori controlli non gliene frega niente per cui se io noto che internet sta funzionando molto bene andiamo a controllare il dns e controllato come è è stato per caso modificato la configurazione con cui è stato impostato precedentemente è stata modificata se sì probabilmente sono sotto attacco quando dico questo poi la domanda che faccio sempre ma voi andate a controllare il dns ogni tanto perché inutile parlare di cyber security e poi non controllare il proprio dns continuamente questo è qualcosa che va sicuramente va sicuramente fatta e questa deve diventare parte della cultura digitale che noi dobbiamo avere noi utilizziamo i computer ma non sappiamo che i computer comunicano con internet utilizzando il dns è come non conoscere che è come poter portare la macchina e non conoscere cosa succede se io spingo il freno allora andiamo su delle determinate ho parlato prima io di informazioni ci sono due tipi di due tipi di informazioni a cui io posso voler attingere informazioni informazioni su quello che sta accadendo sul territorio o sull'industria specifica ci sono tanti tanti report che vengono fatti sulla cyber security qua io ne cito alcuni il clusit che è il report sulla cyber security italiana ci sta il libro bianco che è un altro report che viene fatto dal dal cimri che è il consorzio dell'università ci sono diversi fornitori che fanno dei report noi ne abbiamo uno il 3 dell'intelligent report il prossimo numero verrà rilasciato domani ci sono tantissimi blog uno dei problemi dei report è che normalmente raccontano le cose non in tempo reale perché perché hanno bisogno di elaborare di validare queste informazioni ci sono una serie però di blog che possono fornire delle informazioni immediatamente vi do qualche esempio però ce ne sono veramente tanti altri per esempio il blog di Piermici Paganini è sicuramente uno dei blog più seguiti al mondo non in Italia quello di security affairs per non far torta a nessuno qua io cito il mio quello di Expriga che è attivo da ieri e che comunque verrà utilizzato anche per condividere informazioni su attacchi specifici con l'obiettivo di poter aiutare la comunità a difendersi dai attacchi e poi ci sono informazioni che vengono forniti da strumenti che fanno thread intelligence questi qua sono strumenti che sono normalmente a pagamento ma che condividono informazioni anche in maniera gratuita se utilizzate con determinati limiti il BMX è sicuramente uno di questi un'altra informazione su cui io ritengo importante è quello relativo alle vulnerabilità dicevo prima le vulnerabilità normalmente devono essere condivise la realtà è che non esiste uno standard per condividere le vulnerabilità e probabilmente spesso non è manco così normale il condividere una vulnerabilità comunque ci sta una community common vulnerability and exploit che raccoglie tutte quante le vulnerabilità che i fornitori sono tenuti a fornire quando acquistato un'applicazione una delle cose che vi suggerisco è di verificare se il fornitore aderisce ed è commesso a pubblicare le vulnerabilità sul CVE perché è importante perché se il fornitore è commesso a comunicare le vulnerabilità al CVE mi dà anche l'opportunità di poter risolvere le vulnerabilità nell'eventualità che questa vulnerabilità venga annunciata e se non comunica la vulnerabilità sul CVE il rischio qual è? Il rischio è che un attaccante scopra questa vulnerabilità e la sfrutti senza che io ne sia conoscenza dove posso sapere se il fornitore aderisce o meno al CVE lo trovo sull'OPSIRT il PSIRT è una documentazione che descrive come l'azienda fornisce sicurezza per i servizi e per le applicazioni che vengono generate che vengono fornite parliamo di controlli di sicurezza i controlli di sicurezza sono attività che devono essere fatte per ridurre il rischio di un attacco le attività si dividono in 5 macroarie identify protect detect respond recover identify sono tutte quante quelle attività che tendono a capire quali sono i controlli di sicurezza che devono essere applicati quindi attività di consulenza di risk assessment attività di education anche fanno parte di questa categoria attività che hanno a che fare con il penetration test vulnerability assessment sono tutte attività che rientrano in questa categoria protect tutte quelle attività che io devo fare per proteggere un'infrastruttura quindi segmentazione della rete micro segmentazione gestione degli accessi gestione del gestione delle gestione dell'identità tutte queste attività tutte queste attività fanno parte della categoria protection detection ho detto prima che quando un'attività quando un servizio viene deve proteggere un'infrastruttura oltre che a proteggere deve comunicare e generare eventi che vengono collezionati da chi si preoccupa di fare detection la detection è un processo la detection viene fatta tramite un processo che si chiama security information and event management che mette insieme una serie di eventi e verifica che questi eventi non coincidono con qualche tipo di attacco è chiaro che quanto più efficace sono io nell'identificare una serie di eventi e corregarlo ad un attacco tanto prima io posso essere efficace nel poter rispondere ad un attacco ed evitare che l'attacco venga fatto l'ICM normalmente viene considerato come un controllo quindi come un'attività o come un processo anche perché il CM se è orchestrato all'interno di un processo quindi assegnando il CM anche associando il CM anche KPI persone competenze trasforma il CM in un processo quindi detection è il processo che ha a che fare con la racconta di eventi che arrivano della protection per correrare questi eventi ad un attacco e decidere quella che è la risposta più opportuna ad un attacco chi si preoccupa di rispondere all'attacco e chi si preoccupa di risposta cosa vuol dire preoccuparsi di risposta ad un attacco vuol dire definire dei workflow che sono workflow specifici a violazione di normative ad un attacco specifico quindi se è WannaCry per poter rispondere a WannaCry ho bisogno di una serie di workflow specifici per rispondere a Stack ho bisogno di altri workflow specifici la risposta ad un attacco tutte le tecniche di risposta ad un attacco tutte le attività di risposta ad un attacco il client è la categoria Raspond e poi c'è la categoria Recover Ripristino del servizio questa serie di attività in genere non fanno parte della Cyber Security anche se poi la Cyber Security fa attenzione a queste parti perché? perché tutto sommato l'agente comune dice ma scusa si tratta di ripristinare il servizio se io devo ripristinare il servizio ripristinare il servizio a seguito di un attacco è la stessa cosa più o meno che ripristinare il servizio a seguito di un grosso incidente la realtà è che c'è una grossa differenza tra ripristinare il servizio per un allagamento di una zona di una sala server e ripristinare il servizio perché c'è stato un attacco hacker la differenza tra il fatto che l'attacco è un attacco che è perpetuato nel tempo prima di fare un attacco avete visto quante fasi ci sono comando e controllo vengono rubate le informazioni intorno all'infrastruttura uno dei comandi ad esempio che tutti quanti si incontrollano e che il comando Nmap non venga lanciato o se viene lanciato deve essere lanciato da chi è autorizzato a farlo con Nmap io raccolgo informazioni sull'infrastruttura conoscere l'infrastruttura è qualcosa di importante per essere un'attacco quindi quando io devo ripristinare il servizio non devo solo e soltanto preoccuparmi del fatto che il servizio stesso funzioni di nuovo ma mi devo preoccupare di rimuovere tutto quanto quello che ha a che fare con l'attaccante e che l'attaccante anche sa della mia infrastruttura perché se no una volta ripristinato il servizio l'attaccante potrebbe rifare l'attacco successivamente un esempio di controllo di sicurezza parlavo prima di Assets Management Assets Management cosa vuol dire calcolare il rischio di una transazione quando io accedo a Facebook inserisco utenza e password se l'utenza e password si trova all'interno dell'edapp il rischio della transazione viene considerato probabilmente 1 e quindi l'applicazione mi autorizza ad entrare la realtà è che ci sono il workflow autorizzativo possono dipendere dal rischio che viene calcolato il rischio che viene calcolato può essere calcolato in tantissime modalità non solo e soltanto inserendo utenze e password utenze e password è quello che normalmente io dovrei sapere ok lo definisco lo so molto spesso il calcolo del rischio viene calcolato non solo e soltanto in funzione in funzione di quello che si sa ma anche di quello che si ha ad esempio un cambiamento bancario può essere può essere il token quindi io inserisco utenze e password poi mi viene mandato un numero e questo numero io lo devo inserire per poter per poter per poter accedere dopodiché il programma di back end dirà ok questo ragazzo ha inserito utenze e password però purtroppo il token è sbagliato che faccio lo faccio entrare lo stesso non lo faccio entrare oppure lo faccio entrare se mi inserisci nella capo utenze e password corretta oppure se c'è la password di ricambio e così ora quindi i meccanismi di autenticazione si basano su quello che io so su quello che io ho ma anche su quello che io effettivamente sono ad esempio l'iride dell'occhio ad esempio l'impronta digitale o ad esempio il movimento del mio mouse no è chiaro che se io ho qualcosa con l'ascutenza la password e il computer riconosce effettivamente che io sono io se tutti questi elementi vengono dando risposta a positivo il rischio sarà molto basso se qualcuno di questi elementi non è positivo il valore che mi verrà calcolato di rischio è un po' più alto e in funzione di quel valore specifico io come gestore gestore dello strumento di access management posso decidere di attivare un workflow particolare che ne so io sto accedendo un'utenza di facebook da un paese inusuale allora facebook può decidere di mandare un'email all'utenza email con cui ho fatto una registrazione su facebook dicendo carissimo io ho scoperto che tu ti stai collegando da un paese non usuale vuoi collegarti vuoi contarmi che tu sei effettivamente quindi questo è qualcosa che normalmente voi siete abituati a farlo la verità è che questo viene fatto in funzione di un workflow autorizzativo che è stato associato ad un rischio specifico quando si utilizzano diversi elementi di autenticazione si dice che si sta utilizzando un sistema di multifactor authentication cioè se io inserisco più volte utenze e password sto utilizzando uno strumento di multifactor authentication se io utilizzo diversi livelli di autenticazione cioè non sono soltanto basati su quello che io so ma uno su quello che io so uno su quello che ho e così via allora si parla di strong authentication cosa vuol dire strong authentication ad esempio quando se io inserisco utenze password che si basa quindi utenze password è quello che io so poi devo fornire anche un'informazione che mi viene fornita dal token e quindi il token è uno strumento di autenticazione che si basa su quello che io ho quello che io so su quello che io ho quindi in questo caso posso parlare di strong authentication step up authentication vuol dire accedere ad una risorsa e poi utilizzare un meccanismo di autenticazione successivo per accedere ad una risorsa particolare ora non bisogna confondere la step up authentication a quando c'è mancanza di federazione di identità non ho parlato qua di federazione di identità e quindi devo fare una piccola divagazione spesso e volentieri le applicazioni vengono sviluppate mettendo insieme diversi pezzi e spesso e volentieri questi diversi pezzi hanno dei strumenti di autenticazione dedicati se io non unifico lo strumento di autenticazione molto spesso cosa succede che io sto accedendo ad un'applicazione e poi accedendo a questa applicazione devo reinserire utenze password magari anche la stessa perché? perché sto approdando ad un altro ramo dell'applicazione questa non è step up authentication è semplicemente cattiva programmazione andrebbe fatta una federazione di identità quindi nel momento in cui accedo all'applicazione tutte quante linee di codici di quell'applicazione devono continuare ad utilizzare la stessa utenza e password step up authentication è quando io accedo ad un'applicazione poi perché no devo entrare in un'area particolarmente riservata e in questo caso mi viene richiesto nuovamente una diversa utenza e password processi di sicurezza vi cito qua questi link link che descrivono i processi di sicurezza non avrei tempo per poter andare nella descrizione di questi processi e comunque la certificazione non fa riferimento a questi processi in ogni caso i processi sono attività a cui vengono associati KPI e integrazioni tra le varie attività che hanno l'obiettivo poi di raggiungere risultati specifici organizzazioni i processi vengono eseguiti da organizzazioni il security operation center è un'unità all'interno dell'azienda che normalmente gestisce processi ripetitivi la detection quindi il processo il controllo di sicurezza di detection che poi vengono descritti dal processo di security information e management sono uno dei processi che sono rispettivamente quelli ripetitivi quindi il security operation center cosa fa? controlla tutte le informazioni che vengono tutte le informazioni e tutti gli eventi che vengono forniti dai controlli di sicurezza firewall sicurezza dei dati e così via e lì inserisce all'interno e cerca di fare correlazioni tra questi eventi il security information and event manager è un processo ma molto spesso ci si fa riferimento al SIEM come tecnologia perché questo è un processo che capite bene che senza tecnologia non consiste quindi il SIEM come processo è il processo che gestisce gli eventi che arrivano dai controlli di sicurezza protection come tecnologia e quella tecnologia che serve per poter per poter fare correlazioni dei vari eventi quando una serie di eventi malevoli viene identificata a questo punto si decide di rispondere chi risponde all'evento è un gruppo che si chiama il computer security incident response team che può stare all'interno del security operation center ma può stare anche all'esterno del security operation center la risposta di un incidente quale può essere può essere ad esempio quella di installare una patch uno di analizzare l'incidente anche l'analisi di un incidente per identificare ad esempio se siamo in presenza di un attacco complesso o se siamo presenti di un attacco semplice anche questa è un'attività che viene fatta da che può essere considerata una risposta di un incidente quindi il security operation center identifica che ci sono degli eventi anomali poi dopodiché ci sono i security analyst che analizzano l'incidente per identificare se questa serie di eventi anomali effettivamente fanno parte di un attacco piuttosto che non allora avevo promesso che avrei fatto un ricapitolo per decidere quelle che sono per ricordarvi quelli che sono dei punti salienti della mia presentazione vediamo un pochettino se siamo riusciti a coprire tutti allora l'information security management è l'arte di decidere come spendere un centesimo per minimizzare la possibilità di essere vittima di una minaccia ricordate che la risposta è sì penso di averla detta cos'è un attacco è una sequenza di attività per compromettere un servizio o di catturare un dispositivo cos'è un incidente un attacco che ha successo gli attacchi sono sempre esterni assolutamente no possono essere sia esterni che interni staxnet è un attacco interno o esterno dipende sapete che non lo sappiamo il responsabile della sicurezza deve investire per ridurre il rischio di un attacco o per essere compliant a direttiva e a regomentazione entrambe ricordatevi la keychain ci potrebbero essere diverse domande su questo vi ho parlato di EternalBlue EternalBlue è l'exploit utilizzato da WannaCry e da Nopetia i dispositivi compromessi durante Mirai delle camere di videosorveglianza vulnerabilità sfruttate su Windows sfruttate su quale sistema operativo su Windows poi ci sta anche qua di processo però ricordate di questo spoofing di spoofing vi ha parlato Pierluigi Paganini spoofing è quella tecnica per cambiare qualcosa nell'email per dare la sensazione che quando si riceve l'email quello che sta ricevendo l'email è legittimato a pensare che effettivamente l'email è stata mandata alla persona giusta si cambia una lettera nell'email ci sono delle tecniche di spoofing molto e molto molto e molto sofisticate SQL injection ah questo di questo non vi ho parlato di questo non vi ho parlato e ve lo dico adesso è buono che ho fatto questo ricordo questo ricordo come dicevo prima è una tecnica molto molto a parte di qua aspetta ci sta una di troppo allora dicevo l'importanza di ricordare un paio di elementi molto importanti probabilmente numero uno l'importanza di conoscere come gli attaccanti fanno gli attacchi e il SQL injection io ve l'ho banalizzato tra l'altro io e il mio amico Giuseppe Marullo abbiamo scritto un po' di tempo fa un articolo su CT Security che Giuseppe Marullo mi ha ricordato ultimamente dove appunto scrivevamo tutte quante le sequenze di script che possono essere inserite per poter fare attacchi di tipo SQL injection la verità è che oggi come oggi l'SQR injection viene fatta con strumenti di artificial intelligence c'è un tool che si chiama Deepak un tool che impara a fare SQL injection senza che nessuno gliel'insegna non puoi difenderti da SQL injection senza sapere che l'attaccante potrebbe utilizzare un tool che tra l'altro è un tool legittimato legittimo perché è un tool che viene utilizzato spesso per fare penetration test e penetration test è un'attività legittima se autorizzata quindi chi si difende non può prescindere dal fatto che esiste una tecnologia che impara a fare SQL injection ok se io devo fare penetration test lo devo fare utilizzando le tecnologie che esistono quindi esistono tool di artificial intelligence che hanno imparato a fare SQL injection senza che nessuno gliel'ha insegnato assolutamente sì esistono in questo punto brute force e anche di questo non ve ne ho parlato può sostanzialmente vuol dire provare tantissime volte le varie combinazioni di utenza e password finché io indovino quella giusta cross-site scripting di questo vi ho parlato sono degli script che una volta acceduti vi spostano in programma da un'altra parte advanced persistent trans di questo non ve ne ho parlato però vuol dire vuol dire non fare un attacco incidentale ma vuol dire pensare ad una vittima e studiare tutte quante quelle tecniche che sono necessarie per contromettere quella vittima specifica di redirection attack di questo viceversa vi ho parlato vuol dire ridirigere il traffico tramite la modifica del DMS su un altro da un'altra parte phishing di questo mi ha parlato Pierluigi vuol dire mandare delle mail che inducono a fare delle cose sconsiderate tipo che ne so ti arriva un email che dice guarda c'è qualcuno che ha che ha ceduto il tuo conto un email che sembra mandato dalla tua banca che ti dice guarda c'è qualcuno che ha ceduto il tuo conto ha fatto un previo da 40 milioni di euro tu ovviamente terrorizzavano informazioni di questo tipo vai immediatamente a controllare su un link che incidentalmente ti viene fornito da questa da questa email fai quello poi scopri che nessuno ti ha rubato 40 milioni e torni a casa tutto tranquillo senza sapere che è proprio quello che ti ha fregato allora diffidate di qualunque cosa di anomalo è anomalo che ti arrivi un email che ti dice che hai vinto 40 milioni di euro è anomalo che qualcuno che abita in un paese dell'Arabia Saudita si chiami come te ha ricevuto un'eredità ma purtroppo non può ereditare tutti questi soldi perché c'è scritto perché nell'eredità c'è scritto che ci vuole il tuo blessing e quindi ti viene chiesto di mandare un'email con le tue informazioni di conto corrente su cui poter rilasciare l'eredità che è stata lasciata da questo parente milionario di cui tu non conoscevi ecco è assolutamente improbabile ma ahimè ho parlato di cose che effettivamente succedono cioè se ricevete email di questo tipo è chiaro che anche chi non vorrebbe ricevere un'eredità da un emilo arabo ma è assolutamente improbabile che questo accada se succede pensateci 40 milioni di volte prima di spingere quel dannato tastino distribuire il deny of service catturare milioni di dispositivi e faccio un attacco verso la terza parte common vulnerability and exposure della comunità con cui vengono comunicate le vulnerabilità security control si dividono in 5 aree access management si basano su quello che si sa si sa si ha o si è grazie mille allora se mi seguite mi fate veramente piacere sia per farmi delle domande sia per perché io a me piace discutere di cyber security allora io ho provato vediamo un pochettino se è andata a lui si domenico visto che eravamo in clima di domande ce n'è una per te vai allora che ci viene da uno dei partecipanti allora dice una domanda per il dottor Raguseo pensa che Mirai abbia sponsorizzato un approccio convergence alla security Mirai poi voglio dire no io non vorrei neanche più di tanto se di Mirai se ne parla io penso che in qualche modo sicuramente sicuramente oggi come oggi avere la sicurezza immagino che quando si dice si parla di approccio convergence si riferisca al fatto che la sicurezza fisica è totalmente diversa dalla sicurezza cyber e dal 2017 si parla di una convergenza che questi due mondi dovrebbero avere e per una serie di ragioni perché il mondo della sicurezza fisica utilizza spesso e volentieri protocolli HMI che hanno a che fare con sistemi di sistemi T classici ma anche perché i sistemi T classici normalmente hanno una forza interazione con 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 l'infrastruttura ad esempio di Mirai è diventato famoso attacco di tipo di DOS ma la stessa botnet che viene utilizzata per Mirai è stata utilizzata tantissime volte anche per fare dei movimenti laterali all'interno dell'infrastruttura e non è sufficiente dire eh ma quell'infrastruttura è totalmente diversa dalla mia infrastruttura su questo voglio essere chiaro cioè se io do ad una ad un dipendente dall'azienda la possibilità di accedere ad una telecamera magari tramite questa VPN ma tramite un cellulare che poi viene utilizzato per accedere anche ad altri sistemi all'interno dell'azienda in questo momento sto creando una connessione tra le varie due tra le due infrastrutture quindi è evidente che è necessario affinché i due ambienti vadano a convergere e questo è valido per le telecamere e quindi per la sicurezza fisica della sicurezza cyber ma anche per tutta quanta la gestione dell'ambiente industriale e ambienti non industriali quindi integrazione tra OT e integrazione T integrazione tra sicurezza fisica e sicurezza cyber noi dovremmo arrivare sempre di più ad un' integrazione di questi due sistemi la verità è che c'è tantissima strada da fare il fatto che Mirai ha colpito quest'anno esattamente come ha colpito due anni fa vuol dire che tutto sommato ancora molto c'è da fare e ancora oggi i responsabili delle due aree sono spesso personaggi assolutamente assolutamente distinti grazie domenico e abbiamo anche un'altra domanda magari puoi chiedere le domande sono arrivando tramite twitter oppure tramite no queste stavano arrivando proprio tramite la chat della webx io dovrei vederle io perché non le sono arrivate a te per qualche giorno le vedo dimmi queste domande ok domanda per il dottor raguseo magari se poi gli chiedi se ho risposto a questo punto la domanda sì chiedo sì anche se la risposta è stata accolta la domanda ok domanda un'altra domanda domanda per il dottor raguseo il phishing può contenere anche un attacco di cross site scripting assolutamente sì tenete presente queste tecniche d'attacco phishing watering golf io ne ho parlato come utilizzando quelle che poi sono le definizioni che finiscono sui report di cyber security ma molto spesso sono attacchi che contengono un attacco cioè il watering golf il business email compromise ad esempio è una metodologia d'attacco che utilizza tecniche di social engineering e tecniche di hacking molto sofisticate il phishing può essere utilizzato per per puntare ad un link che è quello che quello che è un link sbagliato oppure puoi contenere un malware quindi in verità il cross site scripting perché cioè tu con il cross site scripting quello che fai è modificare il portale magari tu con il phishing non posso escludere che tu ti indichi visto che io ti ho modificato il portale suggerisco di andare su quel portale in questo momento sapendo che il portale è modificato in verità il phishing molto spesso ti dirige su siti che sono totalmente copiati identici identici a quello originale e che però non sono quelli originali ne abbiamo identificato proprio uno la settimana scorsa e l'abbiamo segnalato non ad un nostro cliente perché ci sembrava giusto che questo nostro non cliente venisse informato da questa cosa cioè c'è cungurano siti che vengono copiati che sono identici a quelli dell'originale e poi dopodiché ci sono campagne di phishing che vengono fatte suggerendo di posizionarle di ridiriggere tutto quanto il traffico di accedere il link che si trova che fa riferimento non al link legittimo ma al link che è un altro link il cross-site scripting invece si tratta di quando si parla di cross-site scripting vuol dire andare a modificare il sito legittimo che però a quel punto è quello sbagliato che contiene il materiale sbagliato spero di essermi spiegato penso di sì domenico perché comunque poi oltre alle domande c'è stato anche un ringraziamento perché è molto interessante l'intervento spero di però poi col phishing tu col phishing può ingannare quindi qualunque cosa può essere anche tu su twitter io l'unica volta ve l'ho confesso l'unica volta che ho stato vittima di un attacco ormai siamo qua di dieci anni fa quando su twitter fortuna che allora avevo solo pochi follower adesso ce ne ho più di dieci mila quindi oggi sarebbe molto più grave allora ce ne avevo chiesto un centinaglio e su twitter ricevo un messaggio che mi dice caro domenico stanno parlando male di te su twitter e la persona che mi mandava questo twitter è una persona che io stimavo moltissimo quindi non ho avuto dubbi nel cliccare quel link ahimè purtroppo quello che è successo è che cliccando su quel link è stato mandato un messaggio a tutti quanti i miei follower dicendo cara Luisa caro Arturo caro Francesco stanno parlando mai di te su twitter e in più faceva una pubblicità ad un'azienda che faceva ridurre il peso chissà perché hanno uscierto proprio me come testimonia di questa campagna di phishing insomma sono in genere sempre moderatamente sovrappeso non tantissimo ecco l'ultima mi sono reso conto 5 microsecondi dopo di aver schiacciato quel pulsante dal fatto che avevo fatto una sciocchezza ma non era troppo e ripeto era un'anomalia per quale motivo per quale motivo questa persona che mi potrebbe alzare il telefono e chiamarmi mi sta comunicando una cosa via twitter era un'anomalia non ci ho fatto caso sì e sì abbiamo chiesto anche se Domenico la domanda su Mirai la risposta circa la domanda su Mirai diciamo era stata esaustiva il sì come adottato il dottor Raguseo per Convergence alludevo esattamente alla necessità di capar convergere il mondo della sicurezza fisica alla sicurezza cyber è stato molto perspicace ok grazie e io allargo anche il mondo della sicurezza dell'OT Operation Technology perché là il problema è lo stesso al mondo dell'IT là stiamo parlando esattamente la stessa cosa è bello accedere i PLC tramite cellulare poi attenzione tramite cellulare se io ti accedo anche l'IT quindi se qualcuno mi ha compromesso l'IT poi va a finire l'OT quindi anche con i due mondi la videosorveglianza è Mirai però i due mondi o TIT sono anche quelli da assolutamente integrare Controllo se abbiamo anche qualche domanda sul tweet chat Grazie mi sembra al momento questa forse non so Domenico se hai già risposto qual è il significato per per la Cyber Security di essere intesa come valore intrinseco questo penso di aver lo ripeto i valori valori questo come ho detto anche ieri qual è un esempio di bene dal valore intrinseco che non sia Cyber Security la Cyber Security penso è una cosa che forse ho cognato addirittura io anche se poi vedo che ne parlano in diverse e lo cognai appunto ad ottobre quando parlai di Milano un altro esempio di bene dal valore intrinseco è l'ossigeno fateci caso l'ossigeno è un valore importante per fornire un servizio enorme però noi quando facciamo il ritorno di investimento per un servizio andiamo a calcolare quanto ossigeno consumiamo cioè l'essigeno il ritorno dell'investimento il valore del ritorno di investimento dell'ossigeno è vita o morte cioè il ritorno di investimento è così alto che io non lo posso calcolare quindi un bene dal valore intrinseco è quello in cui il ritorno di investimento è molto alto è impossibile da calcolare e quindi non si include negli studi di ritorno di investimento che vengono ovviamente fatti sul valore dell'asset e sul valore del servizio uno dei problemi dei beni dal valore intrinseco è che ahimè dal momento che il ritorno di un investimento è così alto tutti pensano che fare investimento è qualcun altro cioè quando io uso internet dico ma figurati se questo cioè io sto usando internet ma vuoi che nessuno si sia preoccupato della sicurezza di internet ahimè ma no la sicurezza di internet dipende da tutti quanti noi se nessuno se ne occupa nessuno di noi noi corregoriamo rischio di avere un internet non sicuro sull'ossigeno tutti quanti noi quando consumiamo ossigeno mai qualcuno di noi si preoccupa del fatto che consumenze tutti quanti noi continuano a consumare ossigeno senza senza regolamentazione senza regole l'ossigeno non ci sarà più e quindi noi moriamo ma moriamo realmente così come oggi come oggi moriamo senza che ci sia niente assolutamente no questo è uno dei problemi dei ben lavoro intrinseco tutti quanti pensano che gli investimenti li devono fare qualcun altro infatti chi è che oggi se noi troviamo accordi su tutto no ma sull'ossigeno riusciamo a trovare accordi che siano accettati da tutti quanti eppure mi sembra qualcosa di così banale come lo si fa come si fa a non essere in accordo sul fatto che dobbiamo proteggere l'ossigeno perfetto grazie domenico vedo qua un'altra domanda vedo un'altra domanda perché ci sono domande che vedo io e ci sono domande che non vedo io questo non lo capirò però sono fatte direttamente personali da parte di hacker sono quasi sempre allora adesso qua ne sono avuto parecchie domande domande per noi esistono strumenti aziendali difese abbassati esistono allora vediamo qua che esistono strumenti aziendali di difesa abbassati su artificial intelligence intelligenza artificiale allora devo dire che l'artificial intelligence oggi come oggi è molto 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 utilizzata per la difesa vi do qualche esempio per dare vi do giusto qualche esempio allora prima ho parlato di D-PAC che è uno una tecnologia che serve per imparare a fare attacco di secure injection però uno strumento di difesa è il penetration test quindi D-PAC è uno strumento di artificial intelligence che può essere utilizzato la difesa incidentalmente può anche essere utilizzato dall'attacco l'analisi dei comportamenti quindi il machine learning che tende a modellizzare i comportamenti normali è qualcosa che viene molto 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 utilizzato nella difesa in tantissimi strumenti gli antivirus gli antivirus oggi come oggi sempre più spesso non lavorano su signature ma lavorano su modellizzare il comportamento dei processi e segnalano anomalie nell'eventualità che i processi stanno comportando in maniera diverso nella rete in molti intrusion protection system controllano e modellizzano il comportamento della rete per identificare eventuali anomalie cioè se io comincio ad osservare che un computer sta lanciando diversi pacchetti ad un altro computer e questo computer non lo faceva probabilmente è un'anomalia su ICM i ICM ci sono spesso volentieri delle tecnologie che si chiamano user behavior analytics che vanno a controllare tutte quante le attività che vengono fatte da un utilizzatore di un dispositivo per verificare che quell'utilizzatore sta facendo delle cose normali perché se quell'utilizzatore sta facendo qualcosa di anormale probabilmente sta facendo un errore probabilmente non è lui cioè se io accendo un'utenza da un un'area geografica che non è quella che usualmente utilizzo questo qua potrebbe essere un rischio un rischio che un SIR potrebbe catturare e poi un analista di sicurezza potrebbe analizzare e dire no guarda visto che Domenico è andato in India quindi sta accedendo l'applicazione dall'India perché è là in vacanza oppure no guarda Domenico sta accedendo l'applicazione dall'India ma Domenico per quello che so io sta ancora a boffetta e quindi per quale motivo si potrebbe spostare l'India quindi probabilmente qualcuno che ha rubato un utente se passa allora questa è la seconda domanda poi ce ne sta un'altra allora salvo gli attacchi da parte di hacker sono quasi sempre finalizzati a tranne un profitto un ritorno economico oppure sono frequenti i casi di un semplice esercizio a dimostrazione di bravura allora secondo me se noi qua parliamo di cyber security cioè la cyber security è un tema di discussione di un tema che riempie le conferenze e perché c'è del denaro perché se non ci fosse del denaro sarebbe una specie di video game sarebbe un esercizio di stile poi sicuramente ci sono altri ci sono gli hacker che lo fanno per guadagnarci dal denaro poi ci sono gli hacker gli attaccanti perché poi gli hacker andiamo a distinguere tra gli hacker buoni cioè gli ethical hacker e gli hacker cattivi gli hacker cattivi cioè quelli che attaccano senza autorizzazione che lo fanno perché vogliono dimostrare che un determinato servizio non è sicuro e quindi dal loro punto di vista vogliono fornire un servizio alla comunità quindi dico guarda caro target io ti sto informando che tu spedizzi dei dati personali in maniera diciamo spregiudicata non lo dovresti fare quindi io il fine ultimo è quello di fornire un servizio alla comunità certo ci sarebbe dobbiettare sul fatto che il servizio alla comunità mi piacerebbe che venga venisse fatto dalle istituzioni perché sennò diventa il far west quindi coloro che dicono di essere motivati da obiettivi buoni esercizio pure io più che esercizio pure qua bisogna stare più che attenti molto attenti errori cioè persone che magari non compromettono dei servizi non avendo la conoscenza reale del fatto che compromettere un servizio è un reale è un reato io faccio che ne so accedo a una telecamera di video sorveglianza per il gusto di accedere una telecamera di video sorveglianza magari perché no guardare cosa succede nella camera da letto di un amico piuttosto che di una mia amica questa potrebbe essere una cosa una cosa che tu dici io non ho fatto nulla di legare sono entrato dentro dentro ad una stanza su internet non mi veniva chiesto penso e passo ce l'ho fatto e sono entrato questo poi è un reato così come il reato quando c'è una porta aperta entrare all'interno di questa casa e mettersi ad osservare dallo spioncino quello che succede nella camera di letto di un mio amico o di un mio amico oppure di una persona che non conosco se la porta è aperta questa non ti autorizza ad entrare e ad osservare se lo fai stai commettendo un reato se tu accendi una telecamera che non è tua il fatto che non è inserito utenza e passo vuol dire che pirla chi l'ha fatto così come pirla o disattento chi ha lasciato la porta aperta a casa però non vuol dire che questo ti autorizza ad entrare quindi più che esercizio io penso che spesso ho avuto a che fare con la mancanza di presa di coscienza che una cosa del genere è un reato in certe nazioni un reato molto grave domenico un'altra domanda ma poi c'è pranzo posso pranzo oppure no non si mancia oggi ma non si mancia posso pranzo sì assolutamente posso pranzo no ragazzi mettiamo alla prova i nostri partecipanti con la protezione anti-spoofing significa che si sarà protetti da tutti i tentativi di phishing tutti quelli conosciuti dall'applicazione anti-spoofing non facciamo l'errore di delegare a qualcun altro la cyber security la cyber security è qualcosa che richiede un continuo aggiornamento ce ne sono tantissime sulle tecnologie di spoofing però poi ci sono delle situazioni in cui queste tecnologie possono essere efficaci o non efficaci a prescindere dal fatto che che la soluzione di anti-spoofing sia tecnologicamente efficace o non efficace a numero uno bisogna verificare che la la tecnologia selezionata sia incontinuamente aggiornata con quello che si conosce con quello che si conosce è già questo non è una cosa non è una cosa semplicissima e poi bisogna verificare che io come utente non ricevo normalmente situazioni che possono essere riconducibili non a spoofing ma a messaggi che io non dovevo ricevere ma ricevo lo stesso non sono stato molto chiaro in questa risposta lo chiediamo lo chiediamo al partecipante altrimenti si può risottomettere la faccio un esempio faccio un esempio se tu Luisa mi mandi una serie di messaggi che sono normalmente anomali che ne so caro Domenico andiamo a prenderci un aperitivo o andiamo a mangiare a cena a Milano e poi torniamoci nel Roma stasera quindi approfittiamo di questa cosa qua quindi tu Luisa mi mandi un sacco di volte un qualcosa dove per il sottoscritto Domenico modellizzare un tuo comportamento anomalo è abbastanza complicato in questo caso se qualcuno mi manda si finge che e mi manda qualcosa che è anomalo ma io da te ricevo normalmente messaggi anomali la tecnologia di spoofing verrà istruita che se Luisa Colucci mi manda un messaggio lascia perdere cioè non lo bloccare perché sennò se Luisa Colucci mi manda 100 messaggi e tutti i 100 te li blocchi se io poi devo comunicare per forza con te è chiaro che si bloccherebbe totalmente il servizio la comunicazione il servizio allora è chiaro che Luisa Colucci non mi manda mai messaggi massaggiano anzi non mi dice manco di andare a pranzo quindi già andare a pranzo sarebbe un messaggio anomalo per Luisa però però immaginate se io che ne so faccio mi faccio mandare informazioni informazioni formali da da player non usuali costantemente nel cloud è molto è molto usuale cioè io affido un sacco di servizi al cloud servizi che normalmente faccio in azienda ma questi servizi vengono fatti ma vengono fatti dal cloud dal service desk fino all'asset manager ma è chiaro che se tutti questi servizi vengono fatti da player diversi l'utente in azienda può cominciare a ricevere email da terze parti da quarte parti non ha la percezione effettivamente che queste terze parti quarte parti poi effettivamente sono persone legittimate o non sono legittimate e quindi come faccio a distinguere cose spoofing e cose non spoofing è chiaro che se io ti mando un email scritto in italiano cattivo è spoofing però gli hacker non è che sono persone come la danza adesso penso di essere fatto più chiaro carissimo Domenico inoltre ci chiedono un po' di delucidazioni su come fare l'esame posso anche riproiettare la slide di stamattina così lo rivediamo ulteriormente io lo sintetizzo bisogna rispondere alle domande in maniera corretta scherzo consentitemi adesso Luisa vi lo manderà comunque voi dovete mandare un email a quell'indirizzo che che dà Luisa e chiedete di ottenere i due badge partecipazione Luisa l'hai tolto? sì mi sono resa conto ok chiedete due badge a pure Cyber Security Forum e Cyber Security Fundamental badge a questo punto questa a questo punto riceverete una email con il link per poter fare il test al superamento del test riceverete le istruzioni per poter ottenere il badge sono stato bravo Luisa perfetto perfetto in particolare il badge collegato all'education di domenico è Cyber Security Fundamental badge invece l'altro è la partecipazione è una specie di partecipazione dove abbiamo messo delle domande molto 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 semplici che giusto ci riescono a far capire se voi avete partecipato avete seguito tutto l'evento è stato semplicissimo il secondo è un pochettino più complesso però diciamo che con che avete rivisto insieme un po' di domande se avete seguito non pensate a un po' di domande spero sia chiaro questo magari non so se l'abbiamo detto Luisa poi ricordiamo ahimè per una questione di carattere tecnico anche per una questione di carattere economico da parte nostra per noi avete i badge hanno un costo noi diamo la possibilità di fare un solo tentativo quindi questo è gratuito se fate il primo tentativo al secondo tentativo non è quello che chiediamo ovviamente di fare per la Puglia Cyber Security Forum non c'è un secondo tentativo avremo difficoltà ad identificare però per il Cyber Security Fundamentals noi contiamo che si possa che possiate superare normalmente si può ci costare il fatto che non si supera per qualche ragione è quel caso quello che chiediamo è quello di partecipare ad un'altra di quelle sessioni dove noi facciamo questo corso in maniera talvolta gratuita talvolta per la mia insomma perfetto spero sia tutto chiaro altrimenti fatecelo sapere tanto ci vediamo anche nel pomeriggio e direi che ora ci siamo finalmente siamo arrivati alla pausa pranzo quindi vi do appuntamento alle andiamoci rivediamo alle 14.30 quindi fra un'ora praticamente vi auguro buon pranzo e vi aspetto qui ciao ragazzi a domani grazie domenico grazie a domani come oratore ma sono con voi fino alla fine ciao ragazzi dopo ciao a tutti era stato trafugato un exploit molto potente per Windows chiamato Eternal Blue quindi un oggetto creato dallo Stato per tentare di proteggere e attaccare eventualmente gli avversari nel caso di invasioni o quant'altro che era stato individuato dagli hacker e portato via e poi cosa ci hanno fatto lo vedremo quindi ci siamo accorti a questo punto che la situazione che l'amitario Rogers responsabile dell'NSA ha dovuto giustificare questa situazione e l'ha fatto in maniera un po' scioccante se volete ma molto ficcante per la situazione attuale dei danni che si possono fare con la cyber paragonando di fatto il furto di un'arma cyber al furto che potrebbe succedere su un arsenale qualunque con le conseguenze anche come si può vedere qui sanguinari quindi di attentati che possono essere equivalenti quindi in questa fase sta la percezione dell'importanza di questo tipo di armi e del fatto che ormai non si può considerare la cyber semplicemente legata a danni economici ma si collega purtroppo a danni anche di salute e quant'altro perché in questo caso è così vera l'affermazione della Miraglia Rogers che appunto paragona il danno che possono fare gli hacker ha un attentato che si può fare con un pick up della Toyota che è stato imbottito di esplosivo perché in questo caso particolare Eternal Blue è stato copiato ed utilizzato dagli hacker per fare l'attacco WannaCry e North Korea quindi come vedete in questa slide da una soluzione fatta dai buoni per proteggere la propria nazione i cattivi l'hanno rubata e hanno fatto una marea di danni in particolare WannaCry se ricordate ha avuto un impatto non soltanto economico ma anche sulla salute delle persone perché fu messa in ginocchio la sanità in particolare UK perché aveva dei computer che non avevano con gli aggiornamenti e questa vulnerabilità individuata dall'exploit appunto di Eternal Blue inchiodava di fatto questi computer e quindi non permetteva di funzionare alle macchine che tenevano in vita le persone quindi vedete che questa linea bianca questo confine tra l'oggetto che è creato dalle società governative e l'oggetto che viene usato dagli hacker e dai cattivi è veramente molto labile perché è molto labile perché probabilmente al momento non si ha modo di proteggere gli arsenali che sono delle strutture cyber che sono delle strutture virtuali come si ha modo invece di proteggere gli arsenali fisici in cui ci si mettono i soldati per le recensioni e le telecamere e questa è una cosa molto molto grave quindi lo stato dei fatti è che il terreno 2 è stato grado dei contribuenti americani e poi di fatto dopo il furto quindi la cattiva gestione di questo arsenale si è ritorto contro i cittadini stessi cioè i taxpayer che avevano pagato per fare questo tipo di arma ricapitolando questi quattro punti sono il punto chiave della svolta che si è avuto con questo tipo di furto quindi è stato reso evidente a tutti forse noi specialisti già lo sapevamo ma magari le persone non strettamente interessate alle cyber non erano ancora stati resi considerati di questa realtà impressionante quindi che gli hacker non sono gli unici a fare lo studio di vulnerabilità ma anzi ci sono intere strutture governative dedicate a questo ci sono ormai notizie sui giornali di agenzie governative che cercano gli hacker che poi diventano hacker etici tra i 15 anni tra i 14 anni proprio che hanno bisogno di avere le menti più sveglie sull'argomento perché sanno quanto è importante avere un'arma cyber prima delle altre nazioni tant'è che il punto 2 meno zero day considera un'arma di grande valore strategico ma vado a immaginare quanto è più facile fermare una centrale elettrica e quindi fermare magari le comunicazioni all'interno di una nazione con un attacco hacker da cui è anche difficile difendersi rispetto a fare magari un bombardamento o un'azione di comando che va direttamente sulla base e poi il punto 3 che è quello più drammatico forse quindi si è rivelato che rubare un virus è molto più facile di rubare testate atomiche con il punto 4 che in evidenza l'effetto ancora più dirompente rispetto ad un'arma fisica che è il fatto che quando si ruba un oggetto digitale purtroppo se ne possono fare milioni di copie con un solo clic e quindi se a differenza della testata atomica io ce n'ho una e posso fare danni con una paradossalmente quando un virus è pubblico può dilagare in maniera catastrofica fino a che non si trovano le patch e quindi in questo senso avere la cyber threat intelligent diventa ancora più importante nel senso che se io verifico che c'è stato un furto di un attacco cyber di un exploit che sfruttano quelle realità di alcuni sistemi per di questi processi bisogna fare in modo da patchare queste vulnerabilità il prima possibile e evitare che quindi la capacità del virus stesso sia esplicitata dai cattivi chiamiamoli così ecco che la società civile e diciamo delle strutture economiche tipicamente si adevano alla nuova realtà quindi al momento per fortuna esistono delle polizze assicurative quindi uno potrebbe dire va bene certo il danno ci sarà ma quantomeno contengono il limito e i danni che possono esserci quindi questa è la prima risposta che si ha dalla società economica in un mondo dinamico in cui le soluzioni vanno dietro alle richieste ormai quasi tutte le agenzie assicurative permettono di fare le polizze ad hoc ma qui arriva la sorpresa proprio la Merck che è una delle più grandi società di farmaceutiche del mondo che fattura miliardi di euro l'anno è stato attaccato da questo virus notpeia e ha avuto nel maggio 2017 dei danni per 310 milioni di euro perché ha dovuto pagare il riscatto per poter avere le proprie le proprie strutture operative di nuovo operative quindi abili allora uno qui si vedono un argomento importante che ormai il ransomware non si rivolge soltanto all'IT ma come vedete in questo caso anche all'AOT perché si rivolge anche verso l'AOT perché tipicamente la percezione dell'importanza della debolezza della rete scala e quant'altro è molto minore di quella delle rete di data center quindi tutti noi abbiamo corso ormai siamo consapevoli che dobbiamo proteggere i nostri computer i nostri dati personali molto spesso la parte di rete di automazione industriale è meno protetta e quindi gli agri in questo caso sono andati a colpirgli da dove sapevano che c'era una debolezza e dove sapevano confermando i successi produttivi avrebbero ottenuto comunque il danno allora questa potrebbe non essere una sorpresa ma la sorpresa è tenendo conto che la Merck in quel momento era gestita dal CEO che vedete qui che è in Frazier che già da tempo aveva deciso di stipulare un'assicurazione Sager quindi ci va bene hanno avuto l'attacco hanno avuto i danni dovrebbe andare tutto liscio ma la cosa la risposta che gli viene l'assicurazione mi metto una slide in cui si vede un film del 2004 incredibile in cui uno dei supereroi era un agenti assicurativo e questa dicchiettina andava a chiedere rimborso e lui come tutti i bravi agenti assicurativi non me ne volete insomma tentava di trovare tutti i capelli per fare in modo di rimborsarli quindi di fatto quello che è successo a Merck è una cosa molto simile perché il rimborso non fu pagato perché la natura dell'attacco fu considerato dall'assicurazione stessa come un'azione di guerra così come confermato anche dalla Casa Bianca perché che cosa era successo che nel 2004 l'agenzia GRU russa aveva rubato appunto il sistema Eternal Blue agli Stati Uniti e l'aveva messo in atto per aggerare i computer dell'Ucraina una delle fabbriche della Merck era in Ucraina quindi il virus è entrato in quei computer e dopodiché si è diffuso in tutta la rete e qui iniziamo a vedere un altro dei problemi non basta essere assicurati ma bisogna anche avere sotto controllo tutta la propria rete vedere il momento per momento cosa succede quindi questa immagine fa il confronto visivo di come un attacco hacker sia costituito dalla stessa strega di un attacco militare quindi per l'auto che vedete sopra cartocciata sicuramente non sarà stata ripagata dall'assicurazione perché bombardata e allo stesso modo l'azienda Verne non ha avuto rimborsi perché ha considerato che nello stesso ambito oltre a lanciare missili di due macchine si lanciavano anche attacchi hacker ai computer della rete della nazione sotto attacco arriviamo a questo punto alle conclusioni quindi che cosa vediamo in un mondo in un mondo sempre più dinamico e sempre più digitale come sappiamo non possiamo trascurare il rischio cyber quindi continuare a ricevere queste telefonate da clienti che si rivolgono ad aziende specialiste soltanto nel momento in cui sono stati attaccati inizia a sembrare un po' troppo ingenuo diciamo un vero imprenditore capisce che c'è bisogno di proteggersi e questa produzione non passa soltanto per mettere in atto tutte le azioni per rendere meno vulnerabili il proprio sistema ma probabilmente anche assicurandosi quindi una gestione di un'assicurazione è diciamo necessaria perché non è sufficiente soprattutto quando la rete è estesa per la Merck una rete internazionale multinazionale è chiaro che avere la protezione potrebbe non bastare avere l'assicurazione potrebbe non bastare perché l'assicurazione potrebbe non essere disposta a pagare danni se la gestione stessa della sicurezza non era sufficiente nel caso della Merck un attacco hacker sui computer dell'Ucrania potrebbe essere contingentato quindi potrebbe essere magari relativo soltanto a quell'industria e a quel punto forse l'assicurazione verrebbe pagato è stato ritenuto non sufficientemente cauto l'atteggiamento di una multinazionale che non si rende conto che qualcosa sta succedendo da una parte del mondo e non lo isola correttamente perché questo è il primo punto per noi imprenditori è fondamentale fare l'assicurazione e avere tutto sotto controllo quindi non ne basta una delle due ci servono purtroppo entrambe non siamo neanche sicuri che questo sarà sufficiente relativamente le compagnie assicurative che cosa succede le compagnie assicurative si sono dotati di tutti gli operatori che permettono di misurare il rischio quindi di stilare la quantità di soldi che bisogna pagare per le polizze per le auto per le case e quant'altro ma si trovano sempre in difficoltà a stimare il rischio tecnico di un'azienda che richiede un'assicurazione cyber quindi in questo caso ci sentiamo di consigliare a questo punto di avere dei partner anche all'assicurazione per poter stimare il rischio cyber con dei sub-ger ma per questa materia lo saprete meglio di me insomma o si è dentro o non si capisce veramente neanche il linguaggio il secondo punto è ancora più delicato proprio vedendo quello che è successo non possiamo evitarci valutare il rischio e quindi la quantità di soldi che va passato per il premio con il mero rischio tecnico ma alcune aziende pur avendo la stessa vulnerabilità tecnica possono essere più o meno sottoposti ad attacchi io faccio l'esempio di un'azienda che può produrre visioni per esempio quindi potrebbe avere tutti gli attacchi degli animalisti o un'azienda che è nel settore oil and gas e quindi la cui percezione da parte di alcuni potrebbe essere del male del mondo e quindi bisogna valutare l'ambito e il momento mi aspetto per il periodo in cui per esempio Greta Thunberg abbia fatto tutte le sue iniziative che avvengano per capire che sono tra i primi ecologisti ci si può aspettare che il premio di assicurazione che dovrà pagare un'azienda come la SNAM o aziende che lavorano anche per il gas in quel periodo magari debbano essere più alti perché ci si aspetta che tra gli hacker possano avere l'obiettivo anche senza colere i soldi ma semplicemente per danneggiare o per far vedere che tutte le aziende che lavorano con produzione di CO2 debbano essere comunque ammessi alla berlina e quindi in questo senso non basta soltanto guardare la rete di per sé e tutto ciò che c'è dentro ma bisogna vedere l'ambiente quindi quella che in maniera forse un po' altisonante che chiamiamo cyber track intelligence quindi non guardare soltanto gli attacchi come sono fatti in questo caso l'eternal loop bisognava sapere che era un pericolo che si sia arrivata ma anche come quella singola azienda in quel momento abbia una sua vulnerabilità per l'immagine che dà verso il resto del mondo ovviamente la stessa cosa avvale del danno quindi quando ci sono i cocci perché come ci sono le frodi sugli incidenti delle macchine quindi la gente va a farsi rimborsare dall'assicurazione incidenti che o non sono mai avvenuti o gonfe i valori o nasconde delle evidenze di propria colpevolezza lo stesso e a maggior ragione perché ancora in un contesto può succedere sulla cyber quindi i rimborsi per le protezioni cyber devono essere valutati da persone esperte che fanno la classica analisi forensica che visualizzano le situazioni accantiche e quindi permettono di determinare quanto è vero e quanto no di quello che ci viene chiesto dal nostro cliente come assicurazione quindi diciamo che in questo intervento abbiamo voluto fare un pochino una panoramica più economica che tecnica che fa capire quanto questo benedetto quinto dominio la cyber quinto dominio sia ormai entrato dentro anche i calcoli che deve fare l'assicuratore e come si chiama quello che fa le statistiche di assicurazione cioè ormai il mondo ha anche questa dimensione è inutile che non lo riconosciamo e questa dimensione può essere ancora più grave proprio perché come abbiamo visto i governi fabbriano queste armi e pare che non le controllino abbastanza bene perfetto grazie Enrico molto interessante sì e poi interessante anche il parallelismo che è stato fatto tra un attacco cyber con un attacco come dire terroristico praticamente quindi sì poi detto dalla voce di un governativo quindi insomma è quello che gli dà ancora più rilievo addirittura un soldato diciamo che fa il paragone di un esplosivo con un attacco cyber fa capire che ormai non danno più distinzione probabilmente gli investimenti che fanno su quel settore per proteggerci e per eventualmente attaccare sono del tutto paragonabili con la drammatica verità che dicevamo prima che un'arma di quel tipo poi messa nelle mani sbagliate si moltiplica per un milione nel giro di pochi secondi e quindi bisogna controllare cyber threat intelligence cyber threat intelligence assolutamente assolutamente perfetto quindi rinnovo la come dire la l'invito a porre delle domande vi ricordo che l'account twitter di allora è praticamente allora allora l'account twitter di Enrico è chiocciola cy4gate scritto cy4gate underscore cyber quindi per tutte le domande così magari salga qualcuna in diretta possiamo anche anche leggerla e risponderla ovviamente ci sono anche io qui a controllare la la chat se avete delle domande possiamo sottoporle vediamo su allora abbiamo una in diretta come si effettua la stima per il rischio tecnico cyber riguardo le compagnie assicurative allora per il rischio tecnico è la parte diciamo un pochino più facile tipicamente si dedicano a seconda della complessità della rete se la rete è soltanto IT o anche OT quindi se si ha soltanto dati o se anche controlli si fanno il cosiddetto vulnerability assessment sulla parte tecnica quindi si fanno dei girare dei programmi si fanno dei tentativi di penetrazione che possono essere più o meno lunghi a seconda della profondità che si vuole quindi si verifica il livello di aggiornamento dei vari software che sono in rete il livello di protezione dei file e quant'altro e si suggeriscono tutte le remediation che sono meramente tecniche quindi qua aggiungi un firewall qua devi aggiornare tutti quanti i software togli questa porta perché ci dà un accesso troppo facilitato e quindi cambia anche la struttura fisica dei tuoi switch e così via a questa prima fase seguo una seconda che riguarda le procedure e i processi quindi sapete benissimo che la cyber non è soltanto computer firewall e antivirus ma è anche e soprattutto esseri umani la truffa più grossa che è andata in giro nel 2020 la conoscete meglio di me è la truffa del cielo quindi le mail che arrivano quando qualcuno studia le mail di tutta la struttura e arriva al momento giusto quando bisogna pagare un fornitore con una mail inviata all'amministrazione o all'ufficio acquisti dicendo di pagare su un altro conto bancario e la mail è stata inviata quindi questo per dire che la seconda fase riguarda l'analisi dei processi si vedono i processi cosa è scritto cosa si fa si fanno anche delle interviste e quindi si capisce laddove può esserci una vulnerabilità o una non corrispondenza completa alle normative che sono abbastanza stringenti non per tutti non dobbiamo avere tutti il dpo per carità però comunque sia a seconda della delicatezza e riservatezza dei dati che vengono gestiti nella rete ci sono dei livelli molto chiari di processi da rispettare il terzo step è anche questo con intervista verificare la consapevolezza e preparazione dei dipendenti stessi in particolare quelli che sono esposti al perimetro di attacco quindi si procede con delle interviste mirate alle persone che sono esposte alle mail o ai siti web esterni e si capisce quanto ci sia consapevolezza con questi tre dati il più delle volte la mediation è sia fisica sia si riscrivono le procedure non c'è quasi mai capitato di lasciare le procedure così come erano e soprattutto si effettua un corso di formazione il più delle volte corto due ore bastano a tutte le persone che sono esposte per aggiornarli e fargli capire che devono cliccare su tutti i link che capitano o quantomeno sui link ci sono dei trucchi molto semplici da fare perché le possibilità di essere evocati sono moltissime quindi si lavora sempre su tre livelli il livello tecnico è quello sicuramente più costoso perché bisogna mettere i file lo bisogna cambiare la rete ma non è l'unico perché poi c'è quello procedurale in cui quindi il corso sta in descrivere le procedure e il terzo che tipicamente serve a misurare la consapevolezza e che consiste in un corso che consigliamo sempre di ripetere annualmente tanto sono corse talmente veloci che la gente si dimentica facilmente esatto quindi bisogna essere sempre aggiornati e sempre al passo in modo che si evolve molto più veloce di noi quindi assolutamente sì l'attaccante evolve anche nel modo di attaccare quindi bisogna essere aggiornati anche su quello e si deve andare dietro è la continua lotta di spada e scudo che va avanti da decine di migliaia di anni e non si ferma mai arriva la spada più dura e il scudo deve essere più forte ma noi siamo qui anche per quello assolutamente assolutamente va bene Enrico ti ringrazio ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento è stato un piacere averti qui con noi e non so se vuoi dicci qualcosa altro altrimenti io passerei la parola al prossimo speaker sì diciamo la cosa che possiamo dire è che la prospettiva anche dal punto di vista legale di proteggere le nostre infrastrutture è diventata legge dal decreto 105 all'inizio anno mi sembra di capire dai legislatori che la strategia che si sta adottando è quella un po' che si usa in tutta Europa quindi bisogna essere obbligati ad essere protetti e se l'infrastruttura è critica bisogna essere certificati per la protezione e questo va un pochino in linea con la mission che si è posta da sempre Cyphergate dal 2005 in cui vogliamo essere un po' anche con qualche un bricio di presunzione un po' i campioni della cyber nazionale perché siamo convinti che avere il codice proprietario sia una delle cose fondamentali in un mercato che sempre di più diventa la protezione nazionale perfetto grazie grazie a te controllo se ci sono altre domande per il momento no quindi comunque ti chiedo la cortesia di rimanere vigile sulla tweet chat in modo da dare risposta alle eventuali altre domande che ti arriveranno e grazie ancora grazie ancora per l'intervento allora abbiamo un cinque minuti che possiamo usare come una breve pausa vediamo il prossimo intervento ci sarà a partire dalle quindici con Paolo Florian che vedo già collegato Paolo possiamo di sicuro provare provo a darti la possibilità di cerare il contenuto grazie ci prepariamo perfetto ok spero possiate vedere la mia presentazione vediamo vediamo aspettiamo quindi cinque minuti di se vuoi sì altrimenti possiamo anche iniziare come preferisci per me possiamo iniziare tanto inizio a raccontare così magari hai qualche po' di minuti tono in più oppure accortiamo dopo il tempo per fare un break più lungo ok allora io ti presento vado a presentarti ufficialmente quindi abbiamo noi è un piacere averti qui Paolo Florian Sales Engineer Italian di Teneball e l'intervento sarà su un identifico che previtizza e valuta il processo di gestione delle vulnerabilità e la parola grazie grazie Luisa buongiorno a tutti innanzitutto grazie dell'ospitalità in questo evento per noi come te avrà un piacere parto iniziando a raccontarvi che Teneball per chi non so non lo conoscesse siamo famosissimi con il nome Nessus Nessus siamo gli inventori di Nessus ormai 25 anni or sono Teneball è l'azienda che ha inventato Nessus il primo strumento di vulnerabilità a sesto nel mercato facile da utilizzare è tuttora a storia del più diffuso nel mercato da questa comunità open source è poi nata una società commerciale che ha iniziato a sviluppare soluzioni enterprise per gestire non solo il vulnerabilità a sesto in un giorno fotografia dell'architettura ma tutto quello che è un ciclo di tal vulnerability management all'interno dell'azienda considerate che è un'azienda ormai adesso quotata in borsa con un portacollo importante con una presenza mondiale assolutamente rilevante siamo un 1.5 cento del mondo e la nostra unica focalizzazione è quella del vulnerability management cioè identificare e gestire le vulnerabilità all'interno dell'infrastruttura giusto due informazioni anche a livello di posizionamento di mercato faccio riferimento a due recenti mercato una forest wave che è stata rilasciata lo scorso anno con l'analisi del mercato dove Tenavel viene riconosciuto come l'azienda con la migliore strategia e la migliore capacità di esecuzione di fatto entrambi i parametri su cui vengono valutate le wave di forest Tenavel è stata riconosciuta come un'azienda assolutamente innovativa in questo senso altro studio che ci riconosce la bontà della nostra visione è uno studio di DC pubblicato a maggio di quest'anno dove viene fatto un'analisi di quello che è il mercato vulnerability manager del mondo il mercato in grande cresta questo è dato un mercato che a livello globale cresce mediamente del 20% anno dove anche qui Tenavel è assolutamente l'azienda con il maggior market share del mercato e anche qui ci vengono riconosciute una serie di caratteristiche peculiari per cui siamo appunto primi del mercato per cui è assolutamente un'azienda con storia con forte installato con soluzioni assolutamente importanti consolidati in costo mercato partiamo da qual è il problema a cui vogliamo dare una risposta questa è la domanda più semplice che un C o un C o un altro livello dell'azienda spesso 20 anni fa ma quanto siamo sicuri di questo momento in questa domanda non c'era un problema tecnico perché di fatto una persona a un C level vuole sapere quanto siamo sicuri vuol dire quanto siamo esposti danno un indicatore facile di quanto oggi siamo messi spesso volentieri a questa domanda le risposte sono report che sono eccessivamente lunghi verbosi con un'essere informazioni che non colgono il problema nella sua essenza e quindi non riescono a dare degli indicatori chiari per capire dove posso andare a migliorare dove sono carente e dove invece sono eccellenti e quindi quanto sono sicuri in quel momento quello che fa Tena vuole andare a gestire il tutto quello che riguarda le vulnerabilità le vulnerabilità sono un problema estremamente ampio oggi vi do un dato statistico lo scorso anno sono state identificate oltre 17.000 vulnerabilità in un numero assolutamente importante stanno più o meno in linea con questo numero quello che ogni vulnerabilità ha una serie di indicatori che viene categorizzata un CVE è l'indicatore di severità dichiarato dal vendore un CVE è un indicatore invece mantenuto dalla comunità mitra che aggiunge una serie di valori sul tempo di esploitabilità da remoto per esempio la disponibilità di exploit per esempio che tipologie di permessi riesco a ricevere che tipo di danno posso fare sul sistema sono cento tanto specifici quello che però non ci dice il CVE è quanto è prioritario quella vulnerabilità il CVE è un ottimo indicatore di severità della vulnerabilità ma non di priorizzazione il problema che ci deve confrontare è che se io guardo lo scorso anno oltre al 56% delle vulnerabilità identificate lo scorso anno è classificata come Iocritical quindi circa 10.000 vulnerabilità identificate come Iocritical 10.000 vulnerabilità anche qui stiamo parlando di un numero assolutamente ingestibile per qualsiasi organizzazione ingestibile perché rimediare una vulnerabilità non è semplicemente deployare una patch quello è l'output di un processo tipicamente prima c'è la parte di identificazione della vulnerabilità capire quanto questa mitigazione che io vado a implementare all'interno della mia architettura può avere un impatto probabilmente se quella patch l'azione viene richiesta per mitigare quella vulnerabilità è compatibile con i miei sistemi capire quando posso farlo perché magari richiedo una finestra di servizio quindi di fatto ho un reboot magari banalmente su un sistema quindi ho una serie di verifiche che devo fare un processo da attivare per poter validare la mia remediation e poi metterla in campo e poterla applicare capite che se io faccio questo processo su 10.000 vulnerabilità Iocritical purtroppo perderei più tempo per quello che seguirei il mio business quindi questo approccio non funziona da qui l'idea di avere un approccio diverso al vulnerabilità di malattia cioè riuscire a focalizzarsi su un approccio differente per quanto io posso avere tutte le risorse disponibili non è un problema semplicemente di tempo di risorse riuscire a seguire a seguire un problema che non è possibile farlo bisogna cambiare la logica in cui si approccia il problema e vederle vulnerabilità in modalità diverse passare a quello che noi chiamiamo risk-based vulnerability management quindi non un vulnerability management qualcosa che periodicamente controlla è un'evidenza basandosi il cibo stesso ma ragionare attraverso un processo diverso di risk-based vulnerability management riuscire a dare contesto alle mie vulnerabilità avere informazioni più accurate su quant'è la threat intensity cioè quanto è attenzionata quella vulnerabilità in quel momento sono vulnerabilità che paradossalmente hanno peso elevatissimo ma che non sono mai state esploritate nella loro storia da quando sono state validate all'opposto ci sono vulnerabilità anche di basso livello anche i video spesso ci può essere che invece sono incluse in un malware e quindi facilmente utilizzabile comunque la cui probabilità di avere un danno da questa vulnerabilità è molto più elevata per cui un processo di risk-based vulnerability management mi permette di avere contesto mi permette di capire qual è il rischio qual è la probabilità per ogni vulnerabilità e quindi avere un indicatore che dice da dove devo partire rispetto a quel 56% potenzialmente di vulnerabilità o critica quali sono quelle veramente importanti su cui devo remediare quelle su cui devi impegnare per poi evolvere per quegli ambiti ancora più maturi una piattaforma di cyber exposure management cyber exposure management cosa vuol dire? rispondere rispondere a una serie di domande apparentemente semplici oggi siamo al 4 novembre rispetto al primo di giugno per esempio io oggi sono più esposto o meno esposto sicuramente al primo giugno era la storia di peccia ad oggi ho cambiato il mio identificato non ho vulnerabilità e quant'altro ma il mio processo mi sta aiutando a ridurre il mio livello di esposizione o no? quanto sono esposto oggi comparandomi al primo giugno al primo aprile o quant'altro come sono messo rispetto al mio mercato quindi avere dei parametri dei cpi molto semplici per capire come sta funzionando il mio processo e dove posso andare a migliorarlo quindi non solo avere un approccio basato sul rischio quindi capire da dove partire ma anche una soluzione che mi permetta di valutare quanto è efficace il mio processo di vulnerabilità di margine la visione di come dire l'approccio tenable risk based vulnerabilità di margine è qualcosa totalmente sposato anche da una prediction dello scorso anno di Gapina contenuta in una guida appunto sul vulnerabilità senza soluzione in cui viene identificato come un risk based vulnerabilità di margine un processo basato sulla contestualizzazione sulla priorizzazione sia chiave per poter ridurre in maniera significativa le vulnerabilità all'interno di un'azienda e quindi ridurre i rischi di un breach e questo è qualcosa su cui teniamo il lavoro facciamo qualche esempio questo è un esempio di vulnerabilità di managine di molte aziende molte aziende chiamano vulnerabilità di managine dove però ha una una frequenza di scan non così non molto frequente passatevi in bestizio di parole dove di fatto magari controllo le mie vulnerabilità ogni tre mesi o le controllo la spot è evidente che in realtà io non ho una visibilità totale di qualsiasi non faccio le mie scansioni autenticandomi anche qui spesso io posso scansire il mio sistema di modalità autenticata quindi grey scan e dare visibilità e tutte le vulnerabilità anche quello locale e quel sistema con invece la modalità non autenticata io ho visibilità solo delle vulnerabilità esposte su una porta di comunicazione per cui in modalità black scanning io non ho visibilità per esempio di una vulnerabilità di un browser di una vulnerabilità magari di un applicativo che non viene esporto su una porta non ho una piena visibilità di quelle che sono le vulnerabilità di quel sistema quindi anche qui non autenticare è qualcosa che non mi dà una visibilità globale altra cosa spesso molte aziende intendono un processo di vulnerabilità di manager una scansione lanciata un report creato in XLS in Excel CSV o anche in PDF e mandato al team di operation dicendo buon divertimento per favore sistemate queste vulnerabilità questo è quello che noi chiamo un processo falso di vulnerabilità perché di fatto io ho una fase di analisi di indicazione di vulnerabilità non ho una fase di prioritizzazione in qualche modo o una reportistica o la prioritizzazione magari la faccio solo su CVSS però con numeri importanti e poi una volta mandato il report aspetto che qualcuno faccia le sue azioni non è un processo che riesco a misurare non è un processo che riesco a prioritizzare correttamente riesco a inserire correttamente l'interno azienda e vi da valore come tale idea nostra è che è un processo di limitazione molto di più un risk based problematical è molto di più vuol dire avere nella fase di assessment una validazione una prioritizzazione una contestualizzazione degli asset capire quanto è importante per me l'asset che sto analizzando è evidente che io potrei avere nel mio data center diversi server diversi servizi erogati alcuni sono critici altri hanno la diversa la stessa vulnerabilità su un servizio critico rispetto a un servizio meno critico ha una priorità diversa la stessa vulnerabilità diversi in ambiti diversi hanno vulnerabilità hanno priorità diverse quindi l'unione di queste due informazioni devi capire da dove devo partire devo riuscire a focalizzare la mia attenzione su un subset molto piccolo di vulnerabilità però quella è importante perché se riesco a identificare quelle azioni devo identificare le azioni urgenti se è tutto urgente nulla urgente mentre invece la logica del risk based vulnerability management la logica è di identificare quelle azioni veramente importanti che devo andare a fare a un tempo rapido capire come fare le mediation se è un patch manager se è quant'altro remediation non è solo il patch per noi remediation è iniziare un processo in cui magari c'è un rilascio della patch un modo di fare un sistema un'azione di mitigazione perché dico processo perché tipicamente un cambio di servizio tipicamente viene deve essere validato all'interno dell'azienda e quindi di fatto viene gestito magari uno sistema di ticketing quindi capacità di integrarsi con un sistema di ticketing esistenti che siano i vari service now o ticketing esistenti quant'altro in modo da poter attivare quel processo come oggi vengono gestiti tutti i ticketing aziendali quindi non aggiungere un effort ulteriore o un'altra procedura ma all'interno dello strumento normale aziendale riuscire anche a incastrare anche la parte di vulnerability management con ulteriore task di ulteriore processo di miglioramento aiutare anche a fare sviluppo nel risk-based vulnerability management costa molto meno fissare una vulnerabilità identificata in fase di sviluppo rispetto a quando viene rilasciata in fase di sviluppo andare a cambiare una versione una libreria piuttosto che andare a modificare un certo setting perché rende vulnerabile quell'applicazione ha un costo se lo faccio in produzione ha un costo decisamente superiore ho tempi da rispettare ho servizio un servizio regato uno slide da rispettare quant'altro e andare a validare questi due processi è molto complesso quindi aiutare che fa sviluppo è qualcosa importante che fa parte di un buon processo di vulgaritima e poi essere in grado di creare delle metriche delle reportistiche per tutti i livelli aziendali quando dico tutti i livelli aziendali vuol dire che devo avere reportistiche per livelli più operativi che vanno a rimediare vulnerabilità che magari accende uno strumento o quant'altro ma anche metriche che reportistiche per livelli più alti aziendali per dare la visibilità di come sta funzionando il mio processo qual è il rischio di cui vi sto esponendo in quel momento e questo è fondamentale perché dare evidenza di quanto la security come la security sta funzionando è qualcosa di veramente critico e spesso e volentieri è un aspetto che non sempre viene coperto talmente ci sono dei grandi investimenti ma non sempre c'è un ritorno di quanto efficace quell'investimento attraverso soluzioni non si riescono ad avere questi quindi come identificare le vulnerabilità teniamo una serie di diverse modalità di identificazione delle vulnerabilità per il mondo IT abbiamo tre modalità principali in modalità attiva gestendo delle soldi attive per andare a fare scarso di rete e quant'altro si tiene attraverso gli agenti gli agenti sono un'opportunità per quegli ambiti dove magari non hanno carrenziali dove magari ho finestre di servizio molto strette per far una scarsione in pochi minuti magari sistemi difficili da raggiungere perché sono diverse segregate piuttosto di serie sfortunata con con attività sfortunata oppure magari i miei smart worker quindi attraverso la gente io ho visibilità di quelle che sono le vulnerabilità di quel sistema la gente che passa tutta la sua vita stanzamente dormendo fino a parte quei tre minuti in cui va a fare una fotografia del mio sistema e mi dà visibilità le vulnerabilità ma non solo abbiamo una terza modalità per identificare vulnerabilità ed è il passive monitor cioè andando passivamente a analizzare il traffico di una retta facciamo due lavori da un lato identifichiamo nuovi asset questo perché perché abbiamo questa necessità l'attiscana è un processo schedulato una volta al mese una volta in due mesi quella che dice aziende se in quel momento la macchina non era disponibile io non ho visibilità delle vulnerabilità se la macchina viene installata un minuto dopo non ho visibilità delle vulnerabilità col passimometro si è in grado di evidenziare che c'è un sistema in rete identificato ma di cui non ho informazioni e quindi posso immediatamente attivare un task per poter fare la spersione automatica ma di più il passimometro va anche a identificare vulnerabilità analizzando il traffico di rete e questo mi va a coprire tutto quell'ambito IoT l'ambito medicale tutti quegli apparati dove magari io ho di partner commerciale dove io non posso fare scansione o non riesco a fare scansione ma che sono entro in rete io analizzando il traffico questi apparati fanno in grado di capire questi apparati hanno delle applicazioni che sono vulnerabili e quindi come tanno e danno evidenza per poter poi attivare un processo di remediation magari un processo che ingaggia altri team o altri vendor perché magari sto analizzando una macchina medicale piuttosto che un sistema di video di sorveglianza quant'altro però anche qui rischio di identificare vulnerabilità anche non avendo fatto una scansione attiva non avendo quindi toccato in nessun modo il sistema ma semplicemente iniziando il traffico quindi tre modalità differenti per identificare vulnerabilità cloud connector poi naturalmente per facilitare l'integrazione nel mondo cloud supportiamo qualsiasi tipo di gas per cui anche qui con AWS Azure Google Platform abbiamo un'integrazione di due spinta perché di fatto sono i tre maggiori del mercato ma di fatto non supportiamo qualsiasi altra cosa qualsiasi asset all'interno della nostra rete per noi è costalizzato che sia un asset di T o T o IoT poco contro perché per noi è un oggetto all'interno della rete o come un oggetto all'interno della rete è importante la visibilità conoscenza sapere quali sono i suoi punti di rigorezza non solo possiamo andare a verificare vulnerabilità anche sulle applicazioni web quelli siti web o applicazioni web pubblicate o interni attraverso lo standard Osborne per capire che tipo di vulnerabilità hanno queste applicazioni abbiamo una soluzione dedicata al container security per analizzare per aiutare che fa il sviluppo oggi si è virtualizzato lo sviluppo attraverso i container attraverso container security andiamo a integrarci con le varie pipeline che è anche in Kubernetes o quant'altro per analizzare i container che vengono utilizzati e quindi dare evidenza a chi sta facendo sviluppo attenzione in quel container che magari ha un MySQL particolare c'è del codice malevolo oppure c'è una vulnerabilità importante fermati aggiorno per andare avanti nel proseguo dello sviluppo e poi una soluzione dedicata al mondo OT ormai 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 le reti di fabbrica sono collegate con il mondo IT perché di fatto la necessità di controllo è una necessità ormai frequente e necessaria per tutte le aziende per cui da qui riusciamo a andare a revisibilitare quali sono i rischi di quel mondo rischi di quel mondo in termini di traffico nomano in termini di vulnerabilità in termini di cambi di configurazione e questo attraverso una soluzione dedicata al mondo OT specific il mondo OT perché richiede una soluzione dedicata è un ambito in cui spesso sono protocolli diversi non sono protocolli TCP ogni vendor è un protocollo nativo proprietario che deve essere analizzato non ho spesso venti non inventori non ho un tracking di quello che vengono fatte delle modifiche fatte localmente il ciclo di vita è un apparato OT molto diverso con l'IT nell'IT un ciclo di vita è intorno 4-5 anni mediamente nel mondo OT il ciclo di vita delle apparati è intorno ai 15 anni trovare macchine XP è frequentissimo in quel mondo lì ma anche PLC molto vecchi molto non aggiornati anche qui avere visibilità di questo mondo di quali sono i rischi di questo mondo è fondamentale per poterlo poi gestire correttamente perché ormai è un mondo collegato al mio mondo di T quindi un problema sul mondo di T può propagarsi e bloccare la produzione ma un problema sul mondo di T può avere un impatto quando parlavo di periodizzazione viene fatto attraverso un parametro che noi chiamiamo vulnerabilità e vulnerabilità letti per ogni vulnerabilità quotidianamente andiamo a capire qual è la threat intensity di quella vulnerabilità se ci sono incidenti che sfruttano quella vulnerabilità se esiste un exploit dove è disponibile l'esploit qual è la complessità dell'esploit se esiste un proof of concept dell'esploit se è validato o meno se esiste una discussione su quella vulnerabilità in base a quello dinamicamente quotidianamente diamo un valore di priorità voi in questo caso vedete che è una vulnerabilità con un valore CV55 resto al vendor un CVSS 8.0 quello che facciamo dinamicamente è andare a dire quanto questa vulnerabilità è priorità il WPR mi identifica la priorità l'urgenza di andare a mitigare quella specifica vulnerabilità quello che riesco a tenere attraverso il WPR è un abbassamento delle priorità fino al 97% questo vuol dire che se io faccio una scansione di una rete in cui identifico 10.000 vulnerabilità riuscirò a capire quali sono quelle veramente urgenti in quel momento il WPR raccoglie informazioni da reti intelligence terze a tutta la rete intelligence tenable che monitorano una serie di reti tipo dark web social network e quant'altro per capire quanto quella vulnerabilità oggi attenzionata e mi produce questo valore questo è un esempio preso da una scansione in cui ho oltre 10.000 vulnerabilità dove avrei avuto 1200 vulnerabilità critiche oltre 6.000 vulnerabilità hai come lo dice il WPR che 94 di quelle critiche sono quelle veramente importanti in questo momento di quelle hai solo 322 ma ne ho anche una medium devo assolutamente attenzionare perché quella medium magari oggi è incluso una nuova sua capite che se io mi presento al mio gruppo di operation dicendo eccoti la lista delle io critical sono circa 7.000 e questi mi guardano in 100 tempo di disposizione poco attraverso il WPR guarda è vero che sono 7.000 però su queste 420 dobbiamo lavorarci perché sono quelle veramente urgenti capite il livello anche di attenzione che riesco a dare riesco a avere chi fa operational perché di fatto gli chiedo un impegno corretto non gli chiedo un impegno non sovraimpegno per medicare delle vulnerabilità che in realtà in questo momento sono poco attenzionati quindi la prioritizzazione è qualcosa di fondamentale per poter gestire il meglio all'interno della soluzione Terabon inclusa la licenza base c'è anche tutta la parte complesso vuol dire andare a controllare gli apparati reti gli operativi tutti i database e quant'altro che siano complessi le cose standard CIS STIG DIS o best practice STIG perché se io ho un sistema anche con zero vulnerabilità ma sono riusciato con un istruttore locale con questo che ho non ho abilitato l'audit alcuni file o dell'accesso quant'altro è evidente che questa non è una vulnerabilità è evidente che questa è una misconfigurazione che potrebbe creare meno impatto e poter automatizzare questi controlli è critico e questo è qualcosa che può fare direttamente Terabon verso la console andando a verificare costantemente quel tipo di configurazione sui vari sistemi non basta tutto ciò quando io parlo di quando io ho una vulnerabilità apparentemente in questo caso una vulnerabilità semplicissima ho un pneumatico liscio ma di strada molto isolato questa è una vulnerabilità ma non ho contesto non so quanto questo è impattante perché se questa macchina è una macchina sportiva sono una macchina se questa macchina la uso per andare su fondi innevati oppure su fondo magari bagnato o l'uso su fondo asfaltato quanto veloce vado sono una serie di informazioni di contesto che non riesco a capire da questa immagine perché mi dicono quanto è oggi vulnerabile la macchina la mia vulnerabilità è il pneumatico del battistrada molto usurato ma non so qual è il rischio che non abbiamo in quel momento perché non so il contesto per cui quello che ho fatto il tema vuole andare a sviluppare un parametro che ho creato ACR oltre alla priorità la priorità la CRM calcola la criticità del mio asset quindi capendo il mio asset che è tipologia di asset tipo il servizio a bordo qual è l'esposizione una serie di parametri che mi permette di capire quanto quella macchina è quindi io posso poi aggiungere oltre i parametri di business e dall'unione della priorità e la priorità dell'asset ho creato l'asset esposio a scoccia quanto è critico verrà quella macchina lì quindi un valore un KPI semplicissimo dice quanto è esposta quella macchina in quel momento in unione di KPI mi genera un cyber esposio a scoccia un valore globale unico C2602 in questo caso mi permette di capire quanto è esposta la mia azienda oggi rispetto al tema dell'evolamento quanto è esposta globalmente posso monitorare questo valore nel tempo dicevo prima rispetto al primo di aprile come sono messo il primo di giugno io riesco ad andare a monitorare questo tipo di valore e capire quanto sta cambiando questa esposizione se ho un processo di funzionabili che mantieni a un livello adeguato o se il processo in realtà è fuori controllo o magari è eccellente come sono messi i miei competitor i miei competitor nel mio mercato il mio mercato è public service potrà avverso un finance potrà avverso un manufacturing potrà avverso abbiamo diversi settori che vengono applicati in questo ambito come il benchmark capire gli altri come sono messi rispetto a me quindi anche l'esposizione degli altri e il resto l'operazione interna non solo quindi avere dei KPI semplicissimi da comuniare per poter capire lo stato del mio processo quello che la soluzione è capire quanto sono esposto oggi capire dove devo andare a occuparmi prima perché ho sia il valore di cristal sia il valore di cristal dell'asset quindi sono esattamente dove esiste il primo sistema su cui do andare a attenzionare e poter mettere in sicurezza a passare il mio rischio e quindi dove devo andare a dedicarmi capire come sto agli stegno al mio rischio capire dove sono i miei competitor ma non solo avere un KPI potenzialmente di ogni divisione aziendale perché spesso ho un processo di vulnerability ma un agente unico però magari il mio processo di remediation è gestito a team diversi perché vuoi magari un team gestisce una sede vuoi magari un team gestisce un'applicazione vuoi magari un team gestisce un certo contesto per cui anche lì capire che magari in un contesto a Roma funziona molto bene rispetto magari alla sede che ho a Pescardo dove c'è un team diverso che invece magari zoppica un po' di più quindi capire perché a Roma funziona così bene magari avere gli elementi che lì funziona bene e capire che funziona e capire quali sono le cose che non funzionano magari in un'altra sede avere un'evidenza su quella che la mia sesta è matorti per me la sesta è matorti è capire quanti sono qual è la profondità dispersione di faccia cioè se la faccia autenticata se apri tutti i controlli quanti se uso le credenziali quanto frequente faccio avere i controlli e su quante la percentuale di macchine faccio questo tipo di controlli se è globale tra mia azienda sono a parte quindi avere anche qui un parametro sia mio che per il resto del mercato di riferimento rispetto a dove sono messo io quindi valutare anche questo tipo di approccio e valutare quanto è la mia remediation attorno quanto ci metto mediamente a rimediare una vulnerabilità quanto ci metto il mio competitor a rimediare una vulnerabilità per capire anche qui se il mio investimento in quell'area lì è in linea o è leggermente spoporzato o eccellente quindi attraverso la piattaforma cyber esposizione management riesco a avere una serie di cpi facilissimi predefiniti nella soluzione che mi permettono di misurare il mio processo capire dove sono e capire da dove posso andare quali sono gli ambiti in cui posso andare a migliorare e questo è fondamentale perché ci pensate nell'ambito security di soluzioni che vi propongono dei KPI embed ce ne sono veramente pochi sul quanto funziona la piattaforma è sempre sposa ma permette di fare quel tipo di arraggio questo è sicuramente un valore importante faccio giusto un recap in termini di offering per inquadrare un po' le soluzioni tenable è una soluzione che può essere on prem gestita o in cloud la parte di vulnerability manage gestisce sia la parte di agenti scanner attivi e scanner passivi soluzione tenable tip definita per il mercato operation technology che può essere integrata naturalmente è una soluzione delle nostre console tenable on prem tenable in cloud poi tenable security web application scan sono due soluzioni gestita solo da tenable io quindi in cloud per il controllo dell'applicazione e controllo dei security di box quindi controllo dei contenuti siamo certificati anche PCISV per quegli ambiti che hanno questa necessità on top a questo c'è un'altra soluzione in cyber spesso ma che può essere integrata come add-on ai nostri chips una cosa importante è la piattaforma tenable questo nasce un po' dall'olio dagli albori tenable essendo un'azienda che nasce come per il SUS è estremamente aperta abbiamo un set di API che permette nelle 10 abbiamo oltre 60 parte tecnologiche parte tecnologiche che vanno da sistemi di FAM cyber art ottica c'è forza abbiamo Biondraart sistemi di SIEM stemi di ticketing stemi di network integrati direzionalmente con noi con cui scambiamo informazioni che ci permettono di andare a integrarci almeno con questa soluzione per poter dare maggior valore all'azienda e dare visibilità di quello che sono la parte vulnerabilità e quindi migliorare il processo aziendale queste parte tecnologiche sono quelle quadri bidirezionali ne abbiamo molte altre unidirezionali essendo i nostri API aperti molti altri costruiscono anche integrazioni custom liberi di farlo non è nulla che noi abbiamo su cui noi abbiamo controllo come logica tenable essendo molto aperta permette di fare questa cosa integrarsi i vari CMDB e quant'altro senza costi aggiuntivi anche questo un valore aggiunto di questo io ho finito sono rimasto giusto giusto i tempi visto che sono finito giusto con un minuto di di paolo ti è stato perfetto grazie e come a tutti gli altri speaker ti chiedo di rimanere attivo sulla tweet chat in modo da rispondere alle eventuali domande che ti arriveranno dai partecipanti grazie ancora grazie a te buona giornata grazie vedo già Marzia vado a darti la possibilità di condividere le informazioni è un piacere vederti benvenuta alla Puglia Cyber Security Forum sapete che Marzia è una mia carissima collega quindi è un piacere davvero averla nostra ospite grazie Luisa grazie mille grazie grazie a tutti voi per questo invito soprattutto mi fa molto piacere essere con voi visto che il collega precedente parlava anche di collaborazioni che hanno con IBM Security e prima di condividere adesso provo a condividere innanzitutto la mia presentazione ti voglio presentare come si vede nel nostro prossimo intervento Marzia Largenio Security Service Sales Manager IBM e Marzia ci parlerà tra Cyber Security nella sanità Safety Security e privacy sa te la parola Marzia vedete il mio schermo si grazie il collega il collega prima parlava della collaborazione con la IBM Security mi sono sentita chiamata in causa come come Firouge è perfetto per io appunto come diceva Luisa sono il manager del per quanto riguarda la parte dei servizi di sicurezza per la divisione della Security dell'IBM Italia oggi non parlerò di tecnologie IBM non parlerò di tecnologie in generale vorrei soltanto fare una carrellata di quelle che secondo me sono le caratteristiche della Cyber Security per quanto riguarda l'ambito sanitario che è un ambito un po' particolare perché infatti la prima parola che è nel sottotitolo che è safety perché dobbiamo sempre ricordarci che al di là di tutto l'obiettivo primario della sanità è la vita dei pazienti è la sicurezza dei pazienti in termini proprio di sicurezza fisica quindi tutto quello che è collegato alla sanità e di elettromedicali tutto quello che gira all'interno delle amministrazioni sanitarie ha un focus specifico su quella che è la vita dei pazienti però cominciamo e andiamo avanti la Cyber Security ovviamente non riguarda soltanto la sanità è una sfida globale è un problema che tocca un po' tutte le industrie tutti i tipi di industrie con cui abbiamo a che fare tutti i giorni la differenza particolare con la sanità è che i dati sanitari sono molto molto appetibili soprattutto nel dark web e sono quelli che passano di più perché perché tendenzialmente il dato sanitario così come il dato personale di un paziente è un dato che non non muore mai se se qualcuno ruba la la carta di credito se ci rubano la carta di credito è semplice fare una denuncia bloccare la carta di credito magari abbiamo un problema perché magari una transazione è andata a buon fine però si riesce ad intervenire nell'immediato e si riesce comunque a tamponare il problema di sicurezza se qualcuno ruba il mio dato sanitario ha rubato anche il mio codice fiscale tendenzialmente e quindi comunque ha rubato un qualcosa che io non posso cambiare è impossibile cambiare quello che è il mio codice fiscale i miei dati ed è proprio ovviamente soprattutto nel mondo anglosassone impossessarsi di determinati dati come per esempio in America è la tessera di previdenza sociale significa diventare quella persona e significa poter utilizzare quei dati sia per azioni malevoli e quindi far incolpare qualcun altro nel caso in cui si venga intercettati ma posso anche comprare qualcosa accendere un mutuo posso fare di tutto con i dati con i dati che comunque non possono essere cambiati nel tempo altro problema che abbiamo nell'ambito sanitario è sicuramente un discorso di competenze in ambito cyber security in ambito tecnologico perché vengono spezzettate su quelli che sono il ICIO e quindi chi si occupa di T ma anche sulla parte dell'ingegneria clinica e tante volte l'ingegneria clinica per chi non lo sapesse è quella specializzazione che si occupa soltanto di tutto quelli che sono le apparecchiature elettromedicali all'interno di un ospedale quindi tante volte che indicano anche le gare d'appalto quindi diciamo che sono un braccio operativo specifico della sanità all'interno dell'infrastruttura tecnologica tante volte però tra la parte diciamo il CIO quindi chi si occupa di T e l'ingegneria clinica possono esserci delle scollature e quindi magari si può incappare in quello che è un buco normativo e quindi magari nessuno si occupa di quel problema questo succede magari con le apparecchiature elettromedicali quelle cosiddette dipartimentali ad esempio un ecografo che è un'apparecchiatura non particolarmente pregiata è comunque un'apparecchiatura abbastanza standard non sto parlando di una TC spirale che magari è un'apparecchiatura da milioni di euro ma un ecografo viene acquistato dall'ingegneria clinica utilizzato dai medici che però questo ecografo è collegato in rete nel momento in cui viene collegato in rete all'interno innanzitutto già quello può essere un veicolo d'attacco perché ovviamente amplifichiamo la superficie ma all'interno dell'ecografo c'è un hard disk e su quell'hard disk vengono immagazzinati i dati dei pazienti che poi vengono trasferiti all'archivio centrale che cosa succede? Succede che se questo ecografo deve andare in manutenzione deve essere smaltito qualcuno si deve preoccupare anche di fare di cancellare quell'hard disk lo fa l'ingegneria clinica o l'ingegneria ed ecco che lì magari può succedere se non è definito per bene la matrice di responsabilità all'interno di chi gestisce l'apparecchiatura elettromedicale e l'infrastruttore T ecco che lì può venire fuori il problema normative le normative sono tantissime non c'è soltanto il GDPR c'è la NIS perché ovviamente stiamo parlando anche di quelli che tendenzialmente i grandi sono diventati gli operatori essenziali gli operatori di servizi essenziali sono diventati OSE all'interno dell'Italia e quindi devono aderire la normativa NIS il common security framework il nuovo il nuovo decreto legge che applica il perimetro di sicurezza cibernetica se ne sono N di normative e anche quelle specifiche ad esempio sui gli elettromedicali tengo a precisare che anche un software può essere considerato un elettromedicale secondo quelli che sono gli standard della comunità europea quindi anche mettere un software all'interno del sistema IT comunque deve essere studiato con attenzione bisogna fare particolare attenzione a quelli che sono i requisiti di sicurezza vediamo se ok la to do list dei responsabili della sicurezza capisco che può fare impressione ho messo dentro un po' di cose che fanno i responsabili della sicurezza questi su tutti in tutti gli ambiti in tutti i settori in industria però è così ad esempio fornire indicazioni al team di sicurezza e i test per gli strumenti di criptografia ricordiamoci tutto quello che è la protezione del dato incontrare il CIO e tutti gli stakeholder per dare evidenza di quella che è la situazione e quindi fornire dei report aggiornati ma anche preoccuparsi di quelli che sono i capitolati di gara tutto questo ovviamente non fa altro che aumentare questa to do list di responsabili della sicurezza sulla sinistra vedete dei numeri 152 su 91 immagino vi starete chiedendo che cosa sono è la pressione arteriosa dei SISO che con tutto quello che c'è da fare aumenta sempre di più è una battuta ma non troppo perché soprattutto in ambito sanitario e in questo periodo particolare di pandemia dove gli ospedali sono comunque sottoposti a pressioni particolari chi si occupa di sicurezza informatica è comunque sotto pressione sempre di più perché come dicevo prima i dati sanitari sono appetibili sono i primi le amministrazioni sanitarie allora io non ho riportato dati però proprio per evitare di mettere dentro i soliti le solite torte le solite indicazioni a barre però se voi andate sul rapporto CLOSIT se andate magari anche sul rapporto del PONEMAN Institute quindi sui costi di un data bridge vedete che la sanità è sempre il primo della lista è sempre in alto ogni anno è l'anno peggiore di sempre quindi ogni anno è sempre peggio ma le spiegazioni ci sono a questo uno è quello che dicevo prima del fatto che i dati sono appetibili un altro è perché i ransomware e i malware sono sempre più sofisticati c'è necessità di una cultura della sicurezza cosa che tante volte manca e certe volte è anche logico perché chi si occupa di vita di un paziente la sicurezza informatica la vede come l'ultimo dei problemi è pure vero però che è di un mese e mezzo fa due mesi fa la notizia che c'era sui giornali che c'è stato il primo morto per ransomware in realtà poi ovviamente i titoloni sono facili da mettere però in realtà non è una morte indiretta è una morte indiretta tutto attaccato non indiretta nel senso nella diretta televisiva perché perché l'ospedale di Dusseldorf era stato attaccato da ransomware per cui c'era un problema di poter gestire l'ingresso di un paziente che era arrivato in codice rosso quindi il paziente è stato dirottato in un altro ospedale dove comunque funzionavano i sistemi nel frattempo il paziente è deceduto ecco lì il primo titolone primo morto per ransomware poi anche qui è una morte non dovuta un ransomware ma sicuramente il blocco di un ospedale ha causato anche questo il primo guanna cry che cominciò a diffondersi anche in Inghilterra aveva bloccato le ambulanze aveva bloccato tutto il servizio di ambulanza e quindi è naturale che diventa un problema diverso non è soltanto un problema di immagine non è soltanto di soldi ma diventa un problema di vita del paziente però ovviamente la necessità di curare i pazienti in questo in questo nuovo scenario complica molto l'equilibrio appunto tra la protezione del dato e la trasparenza per la cura però non ci si può fermare è fondamentale andare avanti sempre e comunque ripeto a maggior ragione in questo momento in questo momento di pandemia dove la possibilità di avere un confronto con i medici è anche complicata da tutto quello che c'è attorno la digitalizzazione può aiutare sicuramente a tenere sotto controllo determinate patologie è di poco tempo fa credo anche questo due o tre mesi fa la possibilità delle televisite finalmente la telemedicina è entrata ufficialmente come possibilità per i medici per programmare delle visite per pazienti coronici soprattutto quello che dicevo prima anni di mancanza di investimenti perché in risorse e strumenti dedicate soprattutto alla parte di infrastruttura tecnologica ad esclusione ripeto di quella degli elettromedicali sicuramente hanno limitato la capacità delle organizzazioni sanitarie in tutto quello che è l'evoluzione tecnologica in ambito sicurezza e infrastruttura l'ultimo punto a cui sono particolarmente affezionata è il problema dei dispositivi medici dell'IOMT e quindi l'Internet of Medical Thinking e dei Bring Your Own Device tanti medici e tanti pazienti io per prima comunicano con i propri medici di base o con i medici con gli specialisti attraverso Whatsapp o tanti medici fra di loro si scambiano le informazioni tramite Whatsapp questo è un problema è un problema perché amplifica amplifica di molto la superficie di attacco però è anche vero che non si riesce a limitare perché questi strumenti sono comunque talmente veloci talmente maneggevoli che diventa molto difficile ecco che bisogna a questo punto proteggere l'interno e non tanto l'esterno queste sono le sfide che i SISO del settore sanitario sono costretti ad affrontare praticamente tutti i giorni sicuramente appunto la safety la security e la privacy la sicurezza per i dispositivi mobili i dispositivi IMP le esigenze della trasformazione digitale e la conformità normativa questo diciamo che sono due aspetti che sono comuni a tutte le industrie ma un'altra cosa molto particolare è quella delle immagini mediche che devono essere rese sicure perché diventano un patrimonio importante per quella che è l'amministrazione sanitaria perché parlo di sicurezza delle immagini mediche perché perché tanti malware che stanno venendo fuori attaccano proprio le le apparecchiature di immagini di immagini sanitarie c'è dell'aprile del 2019 vi invito a guardarlo perché è simpaticissimo se lo vedete su internet simpatico ma anche allarmante uno studio di un'università israeliana che ha fatto vedere come era possibile attaccare una TAC con una semplicissima scheda raspberry quindi mettendosi tra l'apparecchiatura e il pc di chi dall'altra parte del vetro analizza le immagini facendo acquisizione di immagini fino al punto tale che con un algoritmo di intelligenza artificiale sono riusciti a ricreare dei dei tumori ai polmoni ma anche a togliere dalle immagini dei tumori ai polmoni questo ovviamente allora a che cosa serve sicuramente a danneggiare l'amministrazione a danneggiare l'ospedale che è stato attaccato perché ovviamente tutto questo significa che io non mi posso più fidare dell'ospedale in cui vado a fare determinate analisi ed è importante saperlo e sapere anche che la segmentazione delle reti torniamo a tutta una serie di aspetti tecnologici che poi possono essere messi in campo per evitare il problema la separazione delle reti ma anche guardando poi il filmato lo potrete vedere anche la parte di autorizzazione all'ingresso delle varie persone che possono accedere ecco che lì diventa molto molto importante riuscire a segmentare in maniera opportuna le reti interne per evitare che poi possano succedere queste cose e quindi diventare anche in questo caso un veicolo di attacco per poter riuscire ad arrivare a quelle che sono le immagini digitalizzate è ovvio che ripeto è un problema la digitalizzazione perché diventa come continuo a dire questa cosa aumenta la superficie di attacco ma perché perché comunque ai dati sanitari accedono tante persone autorizzate non è vero che qui parliamo anche dell'ambiente americano che è un po' più particolare per quanto riguarda la parte delle assicurazioni però in Italia anche sta diventando le assicurazioni sanitarie stanno diventando sempre più importanti nella vita di tutti i giorni tante volte per avere una prescrizione per avere una certa cioè la necessità di mandare l'assicurazione anche i propri dati sanitari ad esempio la diagnosi del medico o anche la tipologia e anche la tipologia di indagine che bisogna fare ecco che lì anche l'assicurazione a questo punto accede ai miei dati sanitari i medici le farmacie diventa un enorme numero di persone almeno 30 persone secondo quelle che sono gli studi del Carnegie Mellon ma almeno 30 persone e dobbiamo avere fiducia che queste 30 persone siano tutte 30 persone non solo diciamo non bad guys quindi comunque persone che siano che facciano il loro mestiere nella maniera più integra possibile ma che sappiamo anche come farlo questo mestiere perché perché tante volte i problemi di phishing i problemi di ransomware di malware arrivano non tanto per dolo ma per ignoranza quante volte si apre la mail con l'allegato che poi infetta tutto il resto non è per una questione non è perché voglio infettarlo perché non so che infettando prendo quell'allegato infetto poi tutto il resto arriviamo ai dispositivi medici che vengono anche che sono anche wearable tutti quanti noi abbiamo i fitbit fitbit comunque insomma questi strumentini che ci aiutano a tenere sotto controllo le calorie quanti passi ho fatto adesso che non ci sono neanche le palestre aperte ancora di più però tante volte soprattutto per i device di tipo consumer quindi questo questo che abbiamo noi al polso non ci si preoccupa di tutto quella che è la parte di sicurezza quante volte noi accediamo alle app senza nessun problema senza preoccuparci di tutto quello che c'è attorno mettendo i dati tutto quello che ci chiedono di mettere ecco quelli andiamo ancora di più ad aumentare le vulnerabilità e quindi aumentiamo ancora di più la possibilità poi attraverso l'app che risiede sul telefonino eccetera eccetera di mettere a rischio tutto quello che c'è attorno e quindi di raggiungere ovviamente questo parliamo delle reti delle amministrazioni perché naturalmente nel momento in cui questo viene utilizzato anche da medici e conosco dottori che che prescrivono che prescrivono come come terapia l'utilizzo di uno strumento del genere in che senso tante volte il dottor Hauss lo dice sempre nel telefilm tutti quanti mentiamo allora il dottore dice deve fare mille passi al giorno perché magari ha un problema di cuore li fa? sì assolutamente sì non è vero niente nessuno lo fa questo è l'unico modo per il dottore per poter tracciare se effettivamente le persone fanno determinate cose ovvio che è un esempio però comunque utilizzano anche questo tipo di strumento per verificare che quello che loro prescrivono si è effettivamente messo in campo questo però se non fatto con l'opportuna sicurezza può creare dei problemi anche alla rete poi aziendale in cui viene inserito come affrontare quindi l'incertezza? sicuramente c'è un problema di modernizzare i framework e i controlli di sicurezza penso che sui controlli di sicurezza poi ve ne parlerà a domenico immagino che lui parlerà anche di tutto questo ma per quanto riguarda l'ambiente sanitario sicuramente c'è bisogno di fare attenzione a determinate cose che in altri ambienti non si temono sotto controllo rispondere alla carenza di competenze sulla sicurezza è quello che dicevo prima tante volte ci sono poche persone che si occupano di sicurezza all'interno di un'amministrazione sanitaria identificare veicoli di attacchi informatici in aumento incluso l'IOMT quello che dicevo prima ci sono tante cose che tendenzialmente non si valutano quando si inserisce un IOMT all'interno dell'infrastruttura o anche come dicevo i telefoni quindi i telefoni personali e non aziendali va protetto il percorso verso il cloud e verso la trasformazione digitale perché ovviamente stiamo andando tutti verso il cloud sempre di più per perenne motivi ma anche questo percorso va sicuramente fatto in maniera sicura e l'ultima cosa per modo di dire ultima assicurare ovviamente tutto quello che è la riservatezza dei dati e la conformità normativa come dicevo prima sono comunque dati molto molto appetibili solo come spunto il security maturity model in sanità è un percorso è un percorso che va dalla doc e quindi di tipo manuale reattivo fino a quello che è automatizzato e proattivo ognuno è in un certo punto di questo percorso c'è sempre la possibilità di migliorarsi ed è quello che ci aspettiamo soprattutto come cittadini che c'è sempre la possibilità di migliorare tutto quello che è il maturity model in sanità come ultimo come ultimo spunto sono questi secondo me i dieci passi fondamentali per per una un'azienda sanitaria sicuramente costruire una cultura e un sistema di gestione attenti al rischio quello di cui parlavo prima la cultura della sicurezza deve essere fondamentale quindi programmi di awareness programmi di aggiornamento tutto quello che può servire anche per evitare l'incidente in quanto ignoranza stabilire delle operazioni di sicurezza e intelligenza è ovviamente una minaccia rapida alle minacce una risposta rapida alle minacce è ovvio che prima si interviene prima si riesce a mettere in sicurezza anche tutto quello che è già successo e quindi l'utilizzo di strumenti che possano dare una risposta immediata alle minacce è sicuramente auspicabile anche perché tornando allo studio del Ponemon Institute sui costi del data breach potete vedere che ci sono una serie di di attività che possono evitare e ridurre il costo del data breach assicurare sempre la cultura della sicurezza anche attraverso i social anche attraverso i social è quello che si può diciamo che è quello che amplifica maggiormente la notizia e quindi anche in questo modo riuscire magari a creare una cultura maggiore nella sanità adottare prodotti sicuri e by design ovviamente questo ripeto non soltanto sulle tecnologie in senso hardware ma anche dal punto di vista del software gestire un IT accuratamente ma questo è pleonastico perché ovviamente questo è un dato di fatto non soltanto per la sanità ma in generale per tutti quanti quelli che sono chi gestisce un IT e chi soprattutto si occupa di un'azienda creare una rete sicura e resiliente ne parlavo prima a proposito della TAC sicuramente c'è bisogno di sezionare la rete accuratamente affrontare la complessità della sicurezza del cloud della virtualizzazione sappiamo benissimo che non è semplice ma è un percorso che si sta definendo sempre di più e quindi è importante essere sempre più presenti in questo percorso di sicurezza anche nell'adozione del cloud della virtualizzazione gestire la conformità della sicurezza di terze parti e questo è ovvio è banale gestire sicurezza e prevese dei dati altrettanto ovviamente il GDPR in un senso ci ha aiutato per quanto ha creato una serie di problemi dal punto di vista economico però sicuramente ci ha aiutato a far entrare nell'ottica anche persone che non si occupavano di sicurezza perché il fatto di avere una multa sicuramente aiuta ad essere comunque conformi e ovviamente gestire il ciclo di vita di Gelfast dispositivi immobili non ho parlato di quella che è la gestione delle utenze che secondo me è un altro dei passi fondamentali che bisogna assolutamente di cui bisogna preoccuparsi se si lavora all'interno di una struttura sanitaria perché nelle strutture sanitarie la turnazione è molto molto frequente quindi la gestione accurata di un'utenza che non erediti i privilegi o meglio che non mantenga privilegi ereditati da una vecchia utenza che invece magari non sono più necessari è una cosa che sicuramente bisogna a cui bisogna fare attenzione in maniera particolare i dispositivi immobili ne abbiamo parlato prima sono sicuramente un problema ma sicuramente anche un'opportunità per riuscire ad essere sempre più veloci nella gestione di quella che è lo scambio di informazioni che in tanti casi è vitale proprio per la vita del paziente io ho finito vi ringrazio grazie a te Marzia ciao ciao grande presentazione senti visto che hai detto che io dovrò parlare dopo di qualcosa immagino immagino il devo correggere ho già parlato capito scusami quindi quello che ho detto ho detto ho mandato anche una comunicazione ho detto caro Raguseo la prossima volta parli di meno lei e faccia parlare di più Marzia però ti ho preparato il termine Marzia ti ringrazio Marzia ti ringrazio Marzia per aver partecipato a questa carmes ho detto all'inizio che a prescindere dalle società di partecipazione io mi avrebbe fatto piacere invitare le persone che considero i più grossi subject matter dell'espe sulla devi far così fammelo dire sulla materia sai che ci credo per cui non è che sto dicendo così una sciocchezza per piaccionerie semplice anche perché non ci abbiamo nessun credito debito in comune per cui fammelo dire in tutta franchezza e sicuramente voglio dire la talk che hai fatto è stata fantastica quindi ti ringrazio ti ringrazio per questo vedi si continua a lavorare anche insieme anche se siamo in società diverse anche per me Marzia è stata una mia ex collega quindi ho veramente piacere di salutarla in questo momento grazie Marzia eccellente nuovo intervento eccellente e magari che ne so alla prossima alla prossima grazie a tutti buona giornata ciao Marzia e allora il prossimo intervento che avremo sarà tenuto da Giada Sciareta che vedo che è già collegata Giada provo a darti la possibilità di condividere i contenuti ciao a tutti ciao ciao Giada benvenuta mentre tu prepari la presentazione io ti ti introduco ufficialmente allora il prossimo intervento sarà tenuto da Giada Sciareta ricercatrice dell'unità security and trust della fondazione Bruno Kessler e Giada ci parlerà di autenticazione bancaria siamo al sicuro chiediamolo a Bafasa perfetto provo a connettere e a presentare allora non mi si è ancora abilitato il bottone di condividere ok non si è risultato e no hai ragione perché non l'ho passato ancora vi provo ok adesso vedo che si è attivato vedete la presentazione sì ok perfetto allora buonasera di nuovo a tutti come presentato da Luisa sono Zona Sciarretta dell'unità security and trust della fondazione Bruno Kessler oggi andremo a vedere insieme come effettuare un'analisi di sicurezza e del rischio dei protocolli di autenticazione bancaria e per farlo abbiamo bisogno di definire e identificare quali sono i requisiti in questo contesto quindi partiamo da introdurre cos'è la PSI2 la PSI2 è un acronimo sta per Payment Services Directive ed è una direttiva europea relativa ai servizi di pagamento l'obiettivo principale di questa direttiva è quello di fornire un aumento della competizione nel mercato dei pagamenti andando a ospicare la nascita di nuovi servizi innovativi come ad esempio quello mostrato in slide in cui un cittadino è in grado di visualizzare diversi salti di diversi conti correnti in un'unica applicazione perché questo è possibile? perché grazie alla PSI2 le diverse banche devono esporre i propri dati quindi rendere disponibili i propri dati accessibili i propri dati a applicazioni terze da qui proprio il nome di open banking un altro degli obiettivi che si prefigge la PSI2 è quello dell'aumento della sicurezza in particolare dei protocolli di autenticazione utilizzati per accedere ai servizi di online banking e per farlo va a definire due requisiti fondamentali quello di strong customer authentication e di dynamic linking andiamo a vederli insieme allora la strong customer authentication detta anche SCA non è altro che un'autenticazione basata su più di un fattore di autenticazione quindi all'utilizzo di una password che è qualcosa che l'utente conosce si va a affiancare qualcosa che l'utente ha come ad esempio uno smartphone o una smart card oppure qualcosa che l'utente è utilizzando la biometria quando è che va utilizzata la SCA dipende dall'operazione che l'utente sta effettuando in particolare a PSD2 distingue due tipologie di operazioni operazioni consultative in cui l'utente va ad accedere a visualizzare informazioni quindi si tratta di operazioni di sola lettura e in questo caso la SCA non è obbligatoria si va a interrogare proprio il saldo o per consultare la lista dei movimenti dei precedenti 90 giorni per tutti gli altri casi invece è richiesta per quanto riguarda invece le operazioni dispositive quindi ad esempio pagamenti in questo caso non è richiesta solo per pagamenti inferiori a 30 euro 30 euro o per pagamenti ricorrenti per tutti gli altri casi invece serve quindi capite come a conti fatti una strong customer authentication è richiesta per la maggior parte delle operazioni che normalmente un utente fa su una piattaforma di online banking l'altro aspetto introdotto è quello del dynamic linking il dynamic linking va a richiedere che il codice di autenticazione generato durante il protocollo deve essere strettamente legato all'operazione stessa cosa vuol dire? vuol dire che se ad esempio stiamo facendo un bonifico il codice di autenticazione generato sarà strettamente legato tra le altre cose al nome del beneficiario e all'importo perché questo è fondamentale soprattutto in termini di sicurezza perché se un attaccante è in grado di rubare questo codice non può fare operazioni diverse da quelle che l'utente voleva fare quindi capite come legare il codice all'operazione va a limitare e a mitigare tutta una serie di attacchi che hanno l'obiettivo di rubare questo codice in aggiunta per il dynamic linking sempre si richiede di mostrare all'utente i dettagli dell'operazione perché anche questo è fondamentale perché in questo modo l'utente si può accorgere di un attacco in corso infatti l'utente può notare un cambiamento nell'importo o nel nome del beneficiario quindi anche l'utente stesso può fare detection e bloccare transazioni malevole ora entriamo un po' più nel concreto e facciamo un esempio consideriamo una banca e vediamo come questa banca si è diciamo adattata alla PSI2 quindi ha cambiato il proprio metodo di autenticazione per essere conforme alla PSI2 quindi guardiamo prima il protocollo di autenticazione usato da questa banca pre-PSI2 e poi post-PSI2 allora prima della PSI2 l'utente era richiesto di inserire le proprie credenziali sulla piattaforma di online banking dove per credenziali intendiamo la coppia username e password poi era richiesto di generare un codice di autenticazione che viene detto anche spesso OTP che sta per one time password e veniva generato tramite un token di sicurezza in suo possesso come quello illustrato in slide una volta generato il codice questo codice doveva essere inserito manualmente sulla schermata del proprio online banking capite come questo metodo di autenticazione non è conforme alla PSI2 perché non rispetta il requisito del dynamic linking la SCA invece è rispettata infatti il metodo di escritto utilizza sia un fattore di conoscenza che la password che un fattore di possesso che è il possesso del token ma il codice di autenticazione generato da questi token non è legato all'operazione infatti normalmente questi token generano un codice che ha una valenza temporale quindi se questo codice viene compromesso ottenuto da un attaccante può essere utilizzato per fare operazioni diverse rispetto a quelle che l'utente voleva effettuare in aggiunta quando si va a generare il codice con questi dispositivi non si può sapere per quale operazione si sta generando quindi viene meno con la fase di detection che abbiamo visto esserci invece se si rispetta le dynamic linking quindi vediamo come questa banca ma in generale anche altre banche si sono adattate per essere conformi alla PSD2 per appunto la banca in considerazione ha mantenuto l'utilizzo delle credenziali username e password ma ha sostituito il fattore di possesso con un'applicazione installata sul cellulare dell'utente quindi come funziona adesso il protocollo l'utente ottiene riceve una push notification che cliccata va ad aprire l'applicazione della banca all'interno dell'applicazione c'è un messaggio che mostra il dettaglio dell'operazione in questo caso un login e il codice di autenticazione che poi come prima deve essere inserito dall'utente ci chiediamo ora questo passaggio quindi questa modifica di protocollo è effettivamente più sicura e anche in generale come possiamo andare a valutare la sicurezza di un protocollo di autenticazione una delle modalità è tramite la valutazione del rischio la valutazione del rischio si compone di due fasi principali la prima è un'analisi di sicurezza che ci permette di rilevare quali attacchi hanno successo e per farla è necessario andare a considerare un set di attaccanti e di andare a definire quali sono le capacità ad esempio possiamo andare a considerare un ladro in grado di rubare fisicamente il dispositivo o un software in grado di leggere i valori digitati dell'utente e così via quindi si va a definire il set di attaccanti e le capacità che hanno e poi tramite diverse tecniche si possono andare a vedere se questi attaccanti effettivamente hanno successo quindi riescono a violare la proprietà di autenticazione ma normalmente questo non è sufficiente cioè non basta sapere quali attacchi hanno successo ma è giusto sempre affiancare un'analisi del rischio a un'analisi di sicurezza con un'analisi del rischio che invece ci permette di capire di questi attaccanti che hanno successo quali sono quelli più critici e quindi quali hanno più urgenza di essere mitigati per fare l'analisi del rischio anche qua ci sono diverse meteorologie noi utilizziamo di solito e andiamo a calcolare di solito il rischio come la combinazione tra probabilità e impatto dove la probabilità è proprio la probabilità che un evento si verifichi l'impatto invece ci c'è le conseguenze qualora l'evento si verificasse anche qui entriamo nel concreto per capire l'importanza di entrambi i fattori nel calcolo del rischio e consideriamo l'evento di un ladro che vuole rubare in un appartamento a piano terra e lo stesso ladro che vuole rubare a Buckingham Palace capite come il primo evento ha una probabilità maggiore ma il secondo evento quindi un ladro che entra a Buckingham Palace avrà un impatto maggiore perché il ladro può minacciare la rigidina o accedere ad atti sensibili segreti quindi capite come per un evento è giusto considerare entrambi gli aspetti e in particolare poi vanno combinati con una matrice come quella in Slap ora quello che abbiamo visto quindi questa valutazione del rischio può essere fatta manualmente ma normalmente sia per una questione di tempistiche ma anche di possibili errori da un'operazione manuale si predilige l'utilizzo di tool automatici e in questo contesto all'interno della mia unità abbiamo sviluppato un tool chiamato Mufasa che va appunto a fare analisi di sicurezza e del rischio di protocolli di autenticazione multifattore questo tool è composto di cinque fasi la prima è l'utilizzo in cui l'utente decide qual è il protocollo che vuole analizzare e lo o utilizza direttamente se ne ha la possibilità o ne legge la documentazione relativa poi c'è una fase di traduzione in cui l'utente va a descrivere a Mufasa il protocollo e per farlo va a rispondere a un questionario dalle risposte del questionario poi il tool in modo automatico e trasparente all'utente riesce a modellare il protocollo di autenticazione ad analizzarlo e a produrre un report vediamo anche qui un esempio concreto quindi andiamo a vedere le domande che Mufasa richiede all'utente e per farlo consideriamo l'esempio che abbiamo fatto della banca post-DSD2 che abbiamo visto prima quindi le prime due domande che Mufasa richiede sono per capire lo scenario quindi in questo caso andiamo a specificare che stiamo accedendo a un protocollo che è un'applicazione web acceduta tramite desktop e che appunto si tratta di un servizio finanziario quindi i dati trattati sono di tipo finanziario tutte le altre domande invece ci servono per specificare le operazioni che sono richieste per finalizzare la procedura quindi vediamo che la prima domanda appunto qual è l'operazione richiesta sarà come risposta all'inserimento delle credenziali username e password poi le successive invece andranno a descrivere la ricezione della push notification e l'inserimento del codice quindi la successiva operazione sarà ricevo qualcosa sul cellulare che cosa una push notification e infine dico che per accedere a questa informazione non devo fare altro non mi ha richiesto una finger o un codice a me basta cliccare la push notification e infine il messaggio che visualizzo quindi io visualizzo un messaggio che mi dice qual è l'operazione in corso in questo caso un doping che devo poi copiare questo codice come prima manualmente sul browser di partenza rispondendo a queste domande Mufasa va a modellare il protocollo lo vedete in questa box sulla slide come tramite una serie di pittogrammi che sono modellate all'interno del tool e che vanno a descrivere gli authenticator utilizzati i canali di comunicazione utilizzati e gli input e output che vengono scavigliati nel protocollo quindi grazie a questo protocollo di autenticazione che viene modellato Mufasa può effettivamente passare alla fase di analisi in cui il protocollo viene analizzato rispetto a un set di attaccanti in particolare Mufasa attualmente supporta questi set attaccanti che come detto prima possono essere più vari quindi possono considerare sia attaccanti di prossimità come può essere uno shoulder soffre quindi una persona che è proprio vicino alla vittima e può vedere i dati inseriti durante il protocollo oppure può essere un attaccante remoto che riesce comunque a convincere la vittima a effettuare un'operazione a proprio vantaggio oppure si può trattare di malware che può essere uno software che riesce a intercettare le informazioni come un'unico di un software o un man in the browser in grado addirittura di alterare le schermate o le transazioni che avvengono quindi in base a questi attaccanti Mufasa può fare l'analisi e all'utente poi viene fornito un report che va a elencare diciamo tutti gli attaccanti che hanno avuto successo quindi diverse combinazioni e il relativo rischio in questo caso in particolare sia che hanno successo il menu in the browser e il social engineer da soli e rispettivamente con rischio alto e medio e questo è dovuto al fatto che in queste tipologie di attaccanti ricade anche il phishing come detto anche dagli altri interventi è uno degli attacchi più frequenti ok tornando alla domanda che ci siamo posti durante la presentazione quindi c'è stato un aumento di sicurezza pre e post PSD2 in questo caso possiamo dire di sì infatti come vedete si passa da 4 attaccanti singoli nel caso pre PSD2 a 2 attaccanti singoli post PSD2 e questo è dovuto principalmente alla tipologia dei codici di autenticazione quindi al fatto che adesso è rispettato il dynamic linking quindi anche se questo codice di autenticazione viene rubato non può essere più utilizzato per fare operazioni diverse ok in aggiunta possiamo dire anche che c'è un vantaggio di usabilità perché adesso non vengono più richiesti dispositivi fisici ulteriori ma si può utilizzare un dispositivo comune come il cellulare già in possesso di usabilità in aggiunta si ha un vantaggio ancora maggiore quando parliamo di operazioni dispositive quindi quello che abbiamo analizzato finora era un esempio di autenticazione quando invece si va a fare un'operazione di dispositiva come può essere un pagamento si passa addirittura da 4 attaccanti singoli a 0 perché questo è possibile perché all'interno del messaggio mostrato all'utente ci sono tutti i dettagli dell'operazione ora il dettaglio dell'operazione c'era anche prima quindi anche nel caso dei login ma capite come un messaggio generico come conferma login non permette all'utente di capire se il login era stato iniziato da lui o da un attaccante mentre nel caso di un'operazione dispositiva un attaccante non avrebbe alcun guadagno nel fare la stessa operazione come va a fare l'utente e quindi avrà interessa a modificare o l'importo o il beneficiario dell'operazione e quindi è qui che l'utente può accorgersi dell'operazione malevola e bloccarla quindi concludendo con la presentazione di oggi abbiamo visto come è necessario fare una valutazione automatica del rischio per i protocolli di autenticazione e Mufasa ci può aiutare in questo perché ci permette di fare un'analisi in confronto delle soluzioni sul mercato come abbiamo fatto con una banca dotando sul pre e post PSD2 e questo confronto può essere fatto in termini sia di sicurezza e rischio come abbiamo visto oggi o anche in termini di usabilità e di compliance infatti all'interno del report c'è anche uno score che ci dice la complessità dell'utilizzo da parte dell'utente e il rispetto di alcuni requisiti normativi al momento di PSD2 ma in generale può essere anche utilizzato per fare un nuovo tip analysis in fase di design di nuove soluzioni quindi per andare a cercare il giusto trade off tra sicurezza e usabilità questo conclude la presentazione rimango a disposizione come detto su Twitter e non so se vogliamo già vedere eventuali domande grazie Dada grazie per l'intervento grazie per essere stata con noi alla Puglia Saper Security Forum vediamo se c'è qualche domanda che possiamo vedere in diretta un momento al momento io ancora non ne vedo aspettiamo qualche qualche minutino altrimenti se volete visto che vedo come ancora 10 minuti di slot ho alcune slide a complemento che normalmente cerchiamo di come preferisci come preferisci Dada magari guardiamo al volo se ci sono delle domande su quanto presentato se no magari ne approfitto per presentare anche un altro slide ok magari inizio poi se ci sono domande mi interrompo allora ok sì praticamente quello che abbiamo visto finora si tratta di un'analisi della bontà della sicurezza di un protocollo però fondamentale è anche andare a insegnare i giusti comportamenti da tenere all'utente finale infatti noi possiamo avere la soluzione più sicura del mondo da una parte ma se poi l'utente fa quello che vuole dall'altra capite che la sicurezza viene comunque a essere indebolita quindi vediamo insieme una carrellata di giusti comportamenti da tenere online nel caso soprattutto dei protocolli di autenticazione la prima è scegliere correttamente e conservare correttamente i propri password può sembrare una banalità anche il fatto di non dire di scrivere la password ma ci sono statistiche che dimostrano ancora che anche ad oggi molti utenti si iscrivono la password su un post-it e la attaccano sul proprio computer quindi è fondamentale ricordare sempre ai propri utenti di non fare questo di non seguire questo comportamento e anche di prestare attenzione a dove si inseriscono i PIN o le password infatti abbiamo visto prima che un possibile attaccante lo chef del software quindi qualcuno che magari ci conosce vicino a noi che può avere interesse a sapere la nostra password quindi quando siamo in luoghi pubblici o comunque con altre persone intorno dobbiamo prestare attenzione quando inseriamo questi elementi insomma che sarà con l'opera di applicarci poi rispetto ai dispositivi mobile che appunto abbiamo visto la PSI 2 si passa da token fisici che è un sistema di applicazione applicazione è sempre bene scaricarle solo da fonti ufficiali evitare di utilizzare cellulari che hanno il permesso di root perché questo dà possibilità alle applicazioni poi di ereditare tutta una serie di permessi più potenti per fare attacchi che normalmente non potrebbero effettuare e dove è possibile sempre aggiornare le applicazioni in sistema operativo per quanto riguarda la connessione di verificare sempre la presenza di una connessione sicura soprattutto appunto quando si tratta di fare transazioni sensibili come possono essere quelle finanziarie e di evitare di fare questi tipi di operazioni quando si utilizzano reti pubbliche perché possono essere più esposte ad attacchi finisco magari con una piccola parentesi sul phishing che appunto abbiamo citato più di uno speaker in questo evento e soprattutto anche in ambito bancario è molto frequente come ci si può accorgere di un phishing quindi come l'utente può accorgersi che c'è un attacco in corso normalmente i mail di phishing tendono a farti credere che rispondendo o aprendo quella mail potrai avere delle vincite o degli sconti oppure promettono oppure miracolose siti di incontri possono giocare addirittura sulla compassione o solidarietà da parte delle persone oppure appunto in periodo di covid o di emergenze possono anche incuriosirti con i mail su segreti e complotti quindi l'idea è quella generale di diffidare sempre di link mandati tramite email e sms soprattutto in ambito bancario le banche non manderanno mai link all'interno di email e non chiederanno mai di inserire le proprie credenziali tramite un link inviato via mail di non abbassare mai la guardia nemmeno quando le mail arrivano dai propri contatti ma nel dubbio chiedere informazioni all'utente prestare attenzione alla struttura linguistica ne vediamo un esempio e di fidare da tutte quelle mail che ci danno un senso di urgenza quindi fai questo se no ti blocco l'account fallo entro due minuti fallo entro un'ora normalmente sono email che giocano sul senso di urgenza e di imminenza dell'operazione per cui l'utente si confonde e fa cose sbagliate tra cui magari scaricare file o addirittura dare appunto le proprie credenziali a terza poi un esempio di una mail di phishing in cui si può notare la presenza di molti errori grammaticali il senso di urgenza appunto fai questa cosa altrimenti la tua carta diventa inattiva e poi rappresenta sempre di un link in cui l'utente deve poi locarsi questo è un altro esempio tramite invece sms si può notare anche magari immittente sommittente di cui si fida o meno di nuovo un senso di necessità e di nuovo la presenza di un link questo richiude nuovamente un po' la presentazione completandola con una serie di comportamenti da tenere grazie giada nel mezzo è arrivata una domanda allora praticamente ci chiedono se è possibile valutare la bontà del sistema di autenticazione cambiando il dispositivo quindi se noi ad esempio utilizzando un dispositivo come un cellulare quali sono gli altri dispositivi e se la bontà dell'autenticazione può cambiare al cambiare del dispositivo sì allora sicuramente il dispositivo utilizzato influenza la bontà dell'autenticazione in particolare appunto in gergo tecnico parliamo dell'authenticator utilizzato ogni tipo di authenticator che possiamo farlo corrispondere a un dispositivo ha delle caratteristiche e quindi ci può dare più o meno garanzia a livello sia criptografico sia di può essere più o meno tamper proof quindi ad esempio una smart card rispetto a un'applicazione sul cellulare ovviamente ha un livello di sicurezza che può garantire diverso anche l'ambiente in cui è un autenticato pieno utilizzato appunto un'applicazione sul cellulare non è da sola cioè fa parte di un contesto che è appunto il cellulare stesso il sistema operativo che può essere più compromesso rispetto magari a un token che rimane isolato quindi sicuramente il dispositivo utilizzato nel processo cambia poi la valutazione e l'utilizzo non so se ho risposto penso proprio che sì e al per quanto riguarda Mufasa prende in considerazione anche eventi estremi tipo nel valutare la bondà dell'autenticazione anche eventi estremi tipo il furto del cellulare sì esatto uno degli attaccanti modellati è proprio il ladro dei dispositivi quindi anche del cellulare si viene modellato all'interno del cellulare perfetto grazie io non vedo altre domande Luisa 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 posso innanzitutto saluto Giada e poi volevo chiedergli se fosse possibile anche dare le risposte che sono arrivate tramite tweet perché più o meno mi sembra di capire che la domanda che gli hai fatto te Luisa sì 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 l'ho letta assolutamente dalla tweet chat io dico loro che vedranno questa domanda su twitter non vedranno la risposta chiederei a Giada anche di magari dare un'occhiata al suo account tweet per vedere se ci sono questa e altre domande a cui può dare una risposta perfetto sì certamente grazie mille ciao grazie per essere stata con noi Giada buona serata grazie grazie e allora siamo al successivo intervento vedo che Massimo Carlotti che sarà tenuto Massimo Carlotti è già connesso allora Massimo buonasera buonasera provo a abilitare anche la possibilità di condividere i contenuti ok grazie vi do il benvenuto ufficiale alla Puglia Cyber Security Forum e vado a presentarti allora il prossimo intervento sarà tenuto da Massimo Carlotti Solution Engineer Team Lead Italy per CyberArk e Massimo ci parlerà di come una strategia della gestione dei privilegi può mitigare rischi legati a malware e ransomware Massimo a te la parola beh intanto buonasera a tutti anche da parte mia è l'ultimo intervento della giornata quindi vi chiederò di resistere spero di riuscire a tenervi attenti fino all'ultimo minuto faccio subito una domanda tecnica vedete la slide così perfetto allora possiamo partire allora come è stato introdotto l'idea dell'intervento vorrebbe essere quella di affrontare un tema che è un po' diventato come dicono i forbiti un po' mainstream come quello del malware del ransomware però con un taglio se vogliamo un po' diverso un punto di vista un po' diverso che è quello di vedere come malware e ransomware sfruttano o abusano di eventuali questioni legate ai privilegi per diventare efficaci e arrecare danno poi alle aziende quindi in questo senso poi come eventualmente si potrebbe intervenire in questo tipo di scenario molto rapidamente io mi vorrebbe dire iniziamo dalla cronaca ma ho volutamente scelto notizie non troppo recenti le ho volutamente scelte all'estero credo che la cronaca di questi giorni abbia ripresentato anche per l'Italia delle situazioni di nomi eccellenti che purtroppo sono state colpite pesantemente da questo tipo di attacchi allora è una situazione estremamente grave è una situazione che comunque presuppone un'evoluzione tecnologica estremamente veloce quindi il primo degli aspetti da considerare è che quando parliamo di malware e ransomware prima di tutto possiamo andare molto indietro nel tempo e questo percorso evolutivo che vediamo vagamente schematizzato nella slide in realtà ha subito un'accelerazione che progressivamente non è lineare negli ultimi anni ci si è mossi molto più velocemente ci si è mossi con una velocità in cui gli attaccanti hanno cominciato a far evolvere con grande intelligenza ora lo so che non parliamo di breve ragazzi ma hanno comunque applicato veramente del grande ingegno della grande tecnologia della grande competenza per migliorare quelli che sono i metodi le tecniche e gli strumenti d'attacco in particolare quelle che sono un po' le direzioni di miglior incrementazione di miglior incremento diciamo di miglior miglior evoluzione per quanto riguarda malware e ransomware sono la diffusione e l'utilizzo di metodi di distribuzione diversi gli attaccanti differenziano si preoccupano di perpetuare un'infezione che sia quanto più possibile efficace non rilevata e che sia estremamente pervasiva questo perché uno degli obiettivi non è più quello di effettuare azioni distruttive per lo meno non in prima battuta ma quello di infiltrarsi e sfiltrare dati e solo dopo eventualmente comprometterli con tutta una serie di aspetti che vedremo nella slide come vedete gli ultimi anni non sono neanche riuscito a coprirli perché nella rappresentazione in scala sarebbe stata una progressione talmente veloce che nella slide sarebbe risultata troppo fitta alcuni degli aspetti più diciamo recenti interessanti sono forse legati al fatto che comunque ormai a tutti gli effetti gli attaccanti sono organizzati al pari di aziende strutturate quindi hanno team che collaborano appartenenti a gruppi diversi hanno competenze tecnologiche complementari quindi spesso si scambiano componenti che vengono integrate quindi vengono assemblati poi dei software a tutti gli effetti complessi che sfruttano sotto componenti più o meno puntuali più o meno precise in questo senso un altro fenomeno scusate dire preoccupante che così come tutti noi stiamo pensando alla digital transformation parliamo di cloud software as a service bene il mercato criminale non rimane indietro e anzi innova a sua volta introducendo logiche di ransomware as a service e che vuol dire che anche personale personaggi con tantissime competenze tecnologiche possono a tutti gli effetti acquistare spendendo a seconda del tipo di attacco anche molto poco attacchi anche sofisticati che vengono erogati appunto come servizio ora in tutto questo ci sono vabbè ho citato due esempi non recentissimi ma che hanno fatto scuola a modo loro che sono NotPety e WannaCry tutti noi li abbiamo conosciuti sono diventati di dominio pubblico negli ultimi 3-4 anni vi dicendo il punto qual è sono stati due se vogliamo punti di svolta nella modalità nelle tecniche utilizzate nel fatto che i team che stavano dietro queste iniziative erano organizzati coordinati in alcuni casi volevano perpetuare azioni distruttive in altri volevano in qualche modo apparentemente sondare un po' il terreno alla sensibilità a fronte di un riscatto tutto sommato esiguo la disponibilità a pagare da parte delle vittime quindi sono state due importanti punti di svolta per sondare un po' la reazione del mercato quello che vedete rappresentato ora Ryuk o comunque Ryuk è come iniziatore di un malware se non fosse la materia insomma è un personaggio di un manga giapponese è una divinità della morte e come tale diciamo i simpatici attaccanti hanno pensato di associare al ransomware alcune proprietà che fondamentalmente afferiscono a quello che è l'ambito di movimento quindi capacità di perpetuare l'infezione spostarsi infettare altre macchine perpetuare un attacco sfruttando le macchine che espongono servizi remote desktop magari non protette senza multifactor complication una volta infettata una macchina effettuare azioni di movimento laterale verticale quindi sono tutte azioni che vanno a comporsi e che in questo caso i dati sono aggiornati a questa primavera dove guarda caso in coincidenza al covid si passa in modalità remota molti sistemi vengono esposti per consentire ai dipendenti di lavorare l'azienda non era pronta quindi ho fatto un po' di fretta risultato gli attacchi soprattutto a carico di attacchi brute force sull'RDP come vedete rappresentati in questo caso hanno subito un'impennata enorme e sono andati a buon segno quindi l'azione che cosa ha fatto anche qui altra scuola quindi nuove nuove tecniche nuove metodologie i dati sono stati rubati prima di essere cifrati e in più c'è stata un'azione di corruzione e compromissione anche dei backup sia locali sia dai shadow copies che addirittura il backup in cloud quindi in questo senso se vogliamo il malware ha fatto un bel servizio completo barbe capelli nel senso che ha puntato proprio a compromettere anche la capacità di recupero in realtà non si ferma lì adesso vedremo meglio qual è l'altro fenomeno veramente spreggevole che ormai si sta fermando e di cui ripeto la cronaca giusta in questi giorni ha dato che conferma beh ovviamente il malware nuovo vuol farsi rilevare quindi cancella il più possibile le tracce del proprio arrivo della propria presenza ovviamente non può cancellarle del tutto però punta a ritardare quanto più possibile la detection in quelle che sono veramente le ultime svolte quello che vediamo sono questi tre diciamo così trend molto importanti il primo è quello che abbiamo citato cioè di estrazione furto dei dati a volte rubando o i dati in chiaro o i backup dei dati quindi da quel punto di vista non pensate che i backup siano una risorsa solo per voi aziende per noi non vi faccio parte anche io però insomma i backup a loro volta sono dei target appetibili perché per definizione i backup contengono dati che sono già selezionati come importanti quindi sono la predambita allora da quel punto di vista se io riesco a avere in mano i tuoi dati di vittima e ti minaccio anche dopo aver compromesso i tuoi io ne ho una copia visibile leggibile interpretabile e ti minaccio di pubblicarla beh io sto facendo un'azione di ricatto composita perché da una parte tu li rivuoi vuoi tornare operativo e ho compromesso anche i tuoi backup dall'altra tutti gli effetti vorresti in qualche modo impedire che questi dati vengano divulgati è un altro rischio enorme entrerò nel merito perché diventa una doppia arma di ricatto alla quale purtroppo è speciale dire ma diventa veramente difficile resistere l'Internet of Things se vogliamo è un po' fuori da questo tipo di discorsi tipici ma si sta riaffermando come trend semplicemente perché gli apparati di Internet of Things in quest'ambito diciamo stanno evolvendo incredibilmente a un livello tecnologico di potenza quindi sono oggetti sempre più piccoli ma complessi raffinati potenti visto che la microelettronica evolve con una velocità vertiginosa la sicurezza corrispondente non altrettanto il risultato che diventano un'enorme quantità di risorse e di asset attaccabili che possono collaborare all'azione di attacco e quindi diventano un ulteriore punto di esposizione molteplice qui vedete citati un altro po' di nomi lo scopo lo scopo non è tanto per tutte queste famiglie di ransomware quanto veramente farvi capire come questi team lavorano veramente in squadra si coordinano studiano le azioni da effettuare e parliamoci chiaro se come guardie fossimo sempre in grado di essere un passo davanti a loro beh non ci sarebbero quindi è evidente che parliamo ormai di organizzazioni che dispongono di risorse estremamente importanti e poi soprattutto non sono costrette ad assoggettarsi ai vincoli della legalità questo da loro un margine di manovra molto più ampio che inevitabilmente da loro tra le due lette un vantaggio competitivo ciò che è detto così un po' inquietante o frustrante però è inevitabile che è una lotta fondamentalmente imparie per lo meno se la affrontiamo con una logica di singola azienda contro un ecosistema ostile allora in questo senso l'ultimo spunto diciamo di questa slide è forse quello cruciale quella che è diventata ormai una cosiddetta data weaponization cioè i nostri dati vengono usati contro di noi è quello che dicevamo prima se i miei dati riservati proprietà intellettuale contratti stini accordi commerciali tutto quello che potete immaginare di avere di importante di sensibile riservato in azienda viene potenzialmente ruvato da qualcuno e vengo minacciato di esporlo ma anche banalmente di venderlo a dei concorrenti potete immaginare che io vado incontro a impatti commerciali o comunque di business enormi rischio di impattare tutte le normative su privacy riservatezza dei dati e vedi scorrendo quindi un ulteriore aggravio perché attenzione paradossalmente qui il GDPR piuttosto che altre normative finirebbero per avere ulteriori implicazioni in termini di multe perché io comunque è vero che resto vittima ma se sono riusciti a compromettere i miei dati divento comunque anche passibile potenzialmente di qualche penale agli occhi della normativa quindi è veramente una manovra estremamente come dicevo prima intelligente pur malevola ma da parte degli attaccanti che sono dicevamo realtà estremamente preparate e strutturate qui ripeto è un breve riassunto concentriamoci sull'ultima riga per gli attaccanti questo è a tutti gli effetti un business vogliono fare soldi ne vogliono fare tanti e sanno come farlo quindi in questo senso diventa importante in qualche modo capire qual è la logica e qui anche qui ripeto percorreremo molto velocemente concentrandosi solo su alcuni passaggi possibili stage anche perché questa è una stanza per la pura quindi non vi dirò nulla di particolarmente nuovo ma metterò le infosi su alcuni punti per quanto riguarda la campagna abbiamo detto che si tratta di approcci strutturati quindi ormai per cimentarvi potreste trovare in giro campagne di phishing veramente a pochi euro che vi prometto rimane uno dei vettori d'attacco tuttora più comuni più efficaci perché comunque non ho bisogno necessariamente a volte di fare attacchi complessi o raffinati per andare a colpire quelli che sono alcuni interlocutori aziendali tanto mi basta che un utente anche normalmente attento scappi il click sbagliato è sufficiente quello a quel punto l'attacco inizia quindi il primo passaggio come dicevamo vero e proprio è quello dell'infezione attenzione in questo momento i dati non sono ancora cifrati e complessi in questo momento l'attacco sta iniziando o meglio è riuscito a raggiungere un target a questo punto è probabile che le misure di sicurezza più comuni abbiano falluto o quantomeno non siano state ancora diciamo così svegliate le eventuali azioni particolari del malware e questo è il momento in cui l'elemento diciamo infettante cerca di propagarsi come può attraverso quelli che vengono definiti appunto movimenti laterali o verticali che vuol dire che cercano di compromettere asset equivalenti da una workstation un'altra 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 o verticali cioè verso asset di maggior valore è evidente che già sulle singole workstation si riesce a ottenere informazioni importanti ma se l'attaccante raggiungo il file server o il gestionale o il domain controller è evidente che effettua un attacco ancora più efficace e potenzialmente ancora più dell'estate o meglio l'enfasi su alcuni aspetti che sono quelli un po' più peculiari dei quali volevamo trattare semplicemente per dare un taglio un po' diverso da argomenti forse un po' inflazionati intanto quello di uso e abuso dei privilegi e di compromissioni dei credenziali cioè nella fase di infezione questi malware puntano a sfruttare i privilegi che gli utenti hanno che spesso sono eccessivi nel senso che molti di noi sono amministratori della macchina anche quando non sarebbe in sé strettamente necessario quindi bisogna spiegare meglio questo concetto che è strettamente necessario e tramite questi privilegi cercare di compromettere altre macchine compromettere altre macchine vuol dire che io scavando in quelle che sono le credenziali di cui ho le hash sul computer riesco magari a compromettere altre credenziali queste credenziali mi permetteranno di raggiungere altre macchine se raggiungo altre macchine su queste troverò altre hash ancora quindi altre credenziali e volete mettere che non ci sia su almeno qualcuna di queste la credenziale di qualche sistema admin dell'IT che comunque ha configurato quella macchina e ne ha configurate anche altre allora riesco di spostarmi su altre macchine su altri ambienti su altri server e ad andare a raggiungere con sempre più autorità sempre più facoltà asset critici allora questo tipo di manovre è un'azione composita perché come ci sono alcuni malware e alcuni ransomware che non necessitano i privilegi sicuramente è vero che la compromissione di credenziali e privilegi ha un'azione estremamente importante per l'azione di attacco per capirsi la pura azione di cifratura non richiede privilegi perché presuppone il fatto che noi possiamo accedere ai nostri stessi dati ma l'esercizio di determinati processi o la possibilità di spostarsi su altre macchine presuppone o un abuso di privilegi o una compromissione di credenziali o entrambe le cose quindi è questa azione composita che finisce per permettere poi all'infezione di propagarsi per poi evolvere nella fase successiva ovviamente il malware punta a consolidare la propria presenza e comincia a contattare quelle che sono le stazioni di controllo quindi comincia l'azione coordinata l'infezione ecco io qui non ho messo una scala temporale ma tutte queste azioni potrebbero portarsi anche per settimane non durano potrebbero durare secondi in un'azione di attacco molto veloce potrebbero perpetuarsi per settimane perché e questa poi diventa un'altra fase critica durante la scansione gli attaccanti puntano a cercare con tutta la calma possibile i dati importanti perché maggiore sarà il valore dei dati che riescono a raggiungere e a rubare maggiore sarà il valore del riscatto che possono chiedere e quindi ovviamente è tutta una manovra un gioco di equilibri finché finalmente a dati ottenuti e rubati e ripeto attenzione che tra questi dati potrebbero esserci non tanto i dati originali presi dalle singole macchine ma i backup perché a questo punto se io comprometto il backup server mi basta compromettere quella macchina per avere più quindi attenzione a tutta una serie di sottigliezze in questo tipo di gioco di equilibri beh a questo punto però i dati sono stati compromessi non li ho più a mia disposizione i backup offline forse sono l'unica misura vera estenzialmente per contenere il danno ma resta il fatto che arriva al momento in cui vengo ricattato perché comunque se anche riesco a ripristinare l'operatività i miei dati sono in mano agli attaccanti e qui si innesca con l'altra parte dell'azione cioè oltre al disservizio la minaccia di ricatto di divulgazione dei dati che è l'azione se vogliamo più spregevole ma ahimè anche quella ormai più efficace gli attaccanti hanno capito bene come realizzare allora in questo senso uno dei dubbi è come intervenire però ripetiamo facciamo una piccola simulazione come dicevamo gli attaccanti riescono a compromettere una prima macchina magari pensate al fatto che è classica email di phishing quindi prendiamola facile tramite l'email di phishing la macchina riceve un payload malevolo quindi viene a tutti gli effetti inquinata infettata il malware comincia a fare la sua azione quindi comincia a compromettere l'esito di alcune credenziali tramite le quali si sposta su altri asset dell'azienda quindi diciamo altre workstation non parliamo ancora di macchine fisiche a questo punto ovviamente con lo stesso tipo di approccio prima o poi si riuscirà a compromettere probabilmente qualche asset un po' più importante potrebbero essere quattro file server potrebbero essere le macchine dalle quali l'IT recupera il software da installare sulle macchine potrebbe essere un database potrebbe essere qualcosa in modo analogo di server in server qui ovviamente le credenziali in gioco sono implicitamente privilegiate perché i clienti non accedono direttamente ai sistemi operativi dei server quantomeno non dovrebbero quantomeno di quelli veramente pregiati veramente importanti e inevitabilmente nel giro di pochi passaggi potenzialmente qui abbiamo i colleghi da un team di fatto di etica l'eper hanno dimostrato alcuni clienti come alcuni di questi attacchi possono andare a buon fine nel giro di qualche minuto al massimo qualche ora non voglio fare terrorismo per nessuno però è bene essere consapevole del fatto che sono operazioni ormai fortemente automatizzate sono orchestrate con grande maestria da personale estremamente ripeto competente e con dire che ho delle tecnologie che sfruttano da una parte elementi complessi dall'altra banalmente alcune leggerezze o limiti nel nostro approccio della nostra cura dell'IT quindi per esempio sfruttano vulnerabilità magari arcinote avrete sentito parlare di Eternal Blue che tuttora viene sfruttato con grande efficacia che permette di fare scempio di asset aziendali estremamente importanti perché? perché purtroppo questo tipo di pratiche anche abbastanza base come il patching ahimè vengono a volte trascurati ma questo ha potenzialmente un impatto devastante nel momento in cui gli attaccanti arrivano a un asset come il domain controller è tutta l'azienda che rischia di essere di fatto nessè in ginocchio ora questo scenario per quanto inquietante sia non è irrealistico nel senso che quello che abbiamo visto capitare da diversi clienti e ripeto si combina con quella che è l'azione di estrazione dei dati quindi noi dobbiamo ricordarci sempre che mentre veniamo colpiti dall'attacco i nostri dati sono già in mano agli attaccanti e quindi ripeto siamo di fatto presi tra incudio e martello di queste due azioni combina e orchestrate ahimè fin troppo bene ora alcune tecniche da non usare o meglio delle quali non accontentarsi usare antivirus assolutamente sì attenzione però perché non sempre non sempre possono bastare purtroppo alcuni antivirus inevitabilmente partono al presupposto di intervenire dopo che è stata identificata una signature dopo che è stata distribuita dopo che c'è stata un'analisi euristica magari di un accadimento da qualche parte quindi è un po' quella situazione in cui bisogna sperare di non essere tra i primi a essere colpiti perché si può magari beneficiare dell'intelligenza che è stata imparata e appresa da un'altra parte so che la metafora con la quotidianità è un po' come dire un po' triste ma è un po' il concetto dell'immunità di greggio cioè se qualcun altro si ammala prima di me e vengono sviluppate le contromisure per contrastare l'attacco se io arrivo dopo vengo colpito dopo forse riesco a essere protetto se sono tra i primi ahimè ci finisco dentro in pieno ora sicuramente sconsigliamo di usare i tool di cosiddetto unlock quindi di decifratura di dati vendati da particolari malware a meno che non vengano pubblicati da enti assolutamente accreditati perché spesso questi tool sono a loro volta componenti del malware quindi sto gettando rischio di gettare benzina sul fuoco e quindi attenzione perché come dire qualcuno dice se qualcosa è gratis attenzione perché il prodotto sei tu beh di fatto in questo tipo di azione il pericolo è che io vada a usare dei tool che sono a loro volta parte dell'azione di attacco e finiscono per peggiorarne l'impatto questo è successo con un cliente che si è visto attaccare da un malware che riusciva a simulare delle azioni malevole creava qualche danno ma tutto sommato contenuto riusciva a cioè sostanzialmente provocava l'uso induceva l'uso di un particolare tool di unlock che finiva per combinarsi con l'azione di attacco siccome il tool di unlock veniva eseguito per definizione con privilegio e amministrazione questo dava adito a un'ulteriore azione di attacco ancora più ancora più composita ora in tutto questo a questo punto abbiamo detto affidiamoci ai backup verissimo sacro santo ricordatevi che in questo momento i backup sono a loro volta bersaglio quindi mi raccomando essere sicuri di avere dei backup affidabili è importante quelli offline sono sicuramente un asset essenziale per recuperare ricordatevi che in un ottico di un attacco lento anche i backup potrebbero essere stati compromessi nelle iterazioni precedenti e quindi potrebbe essere che i nostri backup degli ultimi giorni settimane siano stati a loro volta già colpiti senza che non lo sappiamo da eventuali azioni mali e poi sicuramente da non fare pagare un riscatto questo al di là di considerazioni morali etiche dicendo sta diventando un problema anche da un punto di vista legale perché a tutti gli effetti ormai molte diciamo così legislazioni stanno valutando hanno già introdotto multe e altri tipi di penali per le aziende che pagano i riscatti per tornare in possesso dei propri dati qui mi rendo conto che la percezione dell'azienda è quella veramente di essere compresa tra il voler contenere il problema e l'altro quello di voler in un certo modo uscire purtroppo inevitabilmente i legislatori ritengono conto del fatto che pagare un riscatto vuol dire alimentare il crimine organizzato di questo stiamo parlando e quindi ovviamente si è in una spiacevolissima situazione come dicevamo finora sicuramente i privilegi che hanno utenti automi applicazioni servizi sistemi le dicendo sono un asset essenziale o meglio una prerogativa essenziale e alcune misure che possiamo intraprendere ci sono queste sono quattro delle diciamo quelle che normalmente prima di altre proponiamo i clienti in particolare guardandole un po' una alla volta per quanto riguarda la rotazione dei credenziali beh ovviamente se io faccio in modo che le credenziali che vengono usate per accedere a determinati asset vengano ruotate con una certa assiduità o regolare o perché a evento dopo ogni uso vengono ruotate è evidente io sto facendo sì che se un attaccante riesce a compromettere le hash residue di una particolare che viene usato beh questa hash sarà più utilizzabile perché appunto questa è stata già ruotata ed è già vecchia viceversa diventa anzi un indicatore di possibilità quindi finisce per essere estremamente utile in questo senso ovviamente questo crea già un primo concetto di compartimentazione cioè le credenziali vengono rese fondamentalmente monouso anche in quelle che vengono usate tra applicazioni quindi non pensiamo solo all'interazione umano verso sistema ma pensiamo anche a quello che avviene tra applicazioni e applicazioni un altro aspetto fondamentale spesso molto trascurato creare delle barriere delle segregazioni nelle sessioni tra utente e sistemi questo vuol dire che se quando io utente vado a lavorare su un asset vengo mediato da quello che viene chiamato un bastionostro un jam server o oggetti di questo tipo tecniche di questo tipo la mia azione non avviene direttamente sull'asset che voglio raggiungere e in questo modo questa mediazione crea un gap crea una separazione tra quella che è la mia sessione utente e quella che avviene per me sul sistema di destinazione questo vuol dire che a tutti gli effetti non c'è più viene ridotta se non addirittura portata a zero la permeabilità tra il mio sistema e quello che vado ad aggiungere in questo modo diventa impossibile consentire all'infezione di propagarsi perché è un'altra delle condizioni in cui normalmente avviene questo permette anche lavorando insieme a appunto diciamo server a loro volta rademizzati come si suol dire pessima traduzione in termini inglesi ma comunque rinforzati messi in condizioni di massima sicurezza aiutandosi con le misure di rete quindi far ruoli interni segregazioni permette di creare delle aree di segregazione nell'azione tra utente e sistemi che permette di contenere i possibili trasferimenti e le cosiddette azioni appunto come dicevamo prima laterali o verticali quindi anche questo passaggio estremamente importante il ransomware come dicevamo sfrutta in molti casi i privilegi allora se io comincio ad applicare logiche di list privilege cioè di minimi privilegi alla maggior parte per non dire a tutti i miei utenti per fare in modo che non siano amministratori delle loro macchine ma io ovviamente devo essere anche attento al fatto che alcune delle operazioni che gli utenti devono poter fare richiedono privilegi quindi ripeto paradigma degli list privilege devo fare in modo che gli utenti non possano fare nulla di più di quella che è loro ragionevole prerogativa a poter fare ma diventa importante poter introdurre questo tipo di tecniche di tecnologia cioè delle logiche con le quali a un utente che l'ha consentito per esempio di installare solo alcune patch o solo gli aggiornamenti di alcuni software accreditati o di poter usare solo il software che è stato in qualche modo autorizzato di poter modificare alcune configurazioni di sistema per quanto è pertinente con quello che è la sua mansione per esempio cambio sede magari non in questo periodo però in situazioni normali cambio sede voglio poter cambiare la configurazione della scheda di rete oppure voglio poter installare una stampante voglio poter effettuare alcune operazioni con il sistema che in alcuni ambienti richiedono implicitamente privilegi completi beh questo è da evitare e in modo analogo anche per quello che gli utenti possono fare in termini di software applicativi che possono essere utilizzati in questo caso lo dicevamo prima non è solo una questione di privilegi ma anche di permission cioè di poter eseguire processi con più o meno preferibilmente meglio o meno privilegi ma solo quelli effettivamente riconosciuti accreditate autorizzati il che vuol dire che dobbiamo fare in modo che queste restrizioni siano il più possibile mirate gestibili ovviamente se no diventa un problema tipico di ho gli strumenti ma sono talmente complesse da applicare che diventano di fatto praticamente inutili perché finirò e non aspettarli per quello che possono ma devo poter essere estremamente puntuale nel dire che per esempio il software scaricato da internet non deve poter essere eseguito queste sono regole grossolane ma spero che rendano idea più puntuale potrei dire che magari il software gestionale dell'azienda devo poterlo eseguire e magari un software particolare che richiede determinati privilegi magari per raggiungere determinate cartelle magari determinati file eccetera eccetera va bene devo poterlo consentire in modo molto molto mirato e selettivo allora questo tipo di schemi può essere combinato effettivamente per andare ad avere una visione migliore più puntuale di quello che effettivamente gli utenti hanno bisogno di poter realizzare se vogliamo nella sezione inferiore diciamo di queste quattro box effettivamente posso andare devo poter andare a ritagliare per loro quelle che sono le giuste permission le giuste autorizzazioni la giusta elevazione di privilegi solo dove effettivamente serve quindi questi quattro diciamo macro approcci afferiscono almeno per quanto ci riguarda due macro ambiti tematici uno che è quello dicevamo della gestione adeguata gestione dei privilegi assegnati a utenti dei sistemi con quello che dicevamo quindi conservazione dei credenziali rotazione delle stesse isolamento delle sessioni attività di analytics anche per accorgersi in modo automatico automatizziamo anche noi da questo punto di vista di analisi e riceviamo rapidamente sono addirittura in tempo reale le segnalazioni di quelle che sono attività potenzialmente a rischio analogamente anche nel contesto in cui dobbiamo poter andare ad applicare e rilevare vincoli ed eventualmente anomalie per quello che riguarda l'attività degli utenti sulle loro macchine o su macchine che hanno facoltà di gestire per contenerne i privilegi quindi consentire loro solo quello che apportano capisco che è una tematica potenzialmente ampia e capisco che possa risultare magari un attimino preoccupante stabilire come agire su questo tipo di ambiti potenzialmente così ampi beh allora da quel punto di vista diventa utile sapere che ci sono anche degli approcci diciamo così metodologici delle mie guida che aiutano a in qualche modo indirizzare degli ambiti ciascuno di questi ambiti può essere dettagliato approfondito ovviamente non sono compartimenti stagne però sono tre macroambiti tre pillar sui quali basare delle azioni che devono essere distinte e priorizzate ovviamente sulla base di un'azione che è non è tutto preliminare ma che poi deve proseguire durante l'attuazione di queste misure che è quella di valutazione del rischio della propria situazione della propria esposizione e delle proprie priorità in base a questo ovviamente combinerò questi fattori per andare a stabilire dove intervenire qual è la complessità quale sarà l'efficacia quindi potrete utilizzare alcuni interventi rispetto ad altri per andare a ottenere quelli che effettivamente sono i miei obiettivi che sono ovviamente quelli di contenere le possibili azioni di attacco e comunque contenerne i dati il riferimento che vedete all'on-premise hybrid e cloud è perché ormai viviamo in ambienti tendenzialmente hybrid quindi non conosciamo più clienti che siano puramente on-prem non conosciamo ancora clienti che siano puramente cloud il più di noi è in realtà che sono di fatto ibride quindi virtualizzazione virtualizzazione locale quindi private cloud public cloud anche qui la lezione ormai effettivamente è un po' più ampia e quindi siamo tendenzialmente in ambienti queste misure devono poter essere calate in tutti questi contesti per poter apportare alla massima efficacia che sia anche molto trasversale a tutta la realtà aziendale mi rendo conto di aver corso con un disperato perché i contenuti erano tanti e sono riusciti a stare nei 30 minuti precisi mi fermo vi chiedo se ci sono domande poi non so se vogliamo continuare dopo sul canale Twitter Luisa ditemi voi come vogliamo proseguire assolutamente allora Massimo ti volevo ringraziare ed è vero sei stato precisissimo quindi uno speaker perfetto grazie per essere stato con noi penso che ci conosciamo prima ci conosciamo in questo momento io prenderei un caffè con te non so dove sei grazie in questo momento a Milano e temo che ci dovrò rimanere segregato più un bel po' aia aia e lo so che ti posso dire cioè c'è stata un'iniziativa che però in Italia non è un po' complicata da fare cioè c'è stato un molto magari forse siete stati voi che offrivano un caffè a Starbucks potrebbe essere che siano stati i nostri colleghi americani ma lo so ricordo che c'era un evento in cui me lo diceva Carlo Falcione quindi probabilmente eravate proprio voi allora dovrei parlare con Carlo perché poi a volte i vendor hanno queste iniziative a volte schizofreniche per cui magari fanno con i partner come voi delle iniziative che non sempre convolgono gli interni quindi ci sono sempre questi movimenti un po' particolari allora io offrirei veramente a te e a tutti quanti gli altri partecipanti un caffè a questo punto però almeno difficoltà ad andare città per città bar per bar cioè con Starbucks a me tocca andare a piazza di Spagna insomma non so come la pensi nei carabinieri non diceva un motivo di pizza potrebbe essere un po' difficile un po' complicato quindi ragazzi tanto il caffè costa poco mi arriva a dire come se me l'avessi offerto grazie per tornare presto a incontrarci insomma grazie mille sicuramente ci incontro a voi ciao buona serata Massimo per rimanere fedele alla nostra tweet chat ti chiedo di rimanere in linea e vedere se ti arrivano rispondere ai partecipanti grazie davvero assolutamente sì grazie a tutti ancora buona serata ti ringrazio e colgo l'occasione ringraziando te di ringraziare tutti gli speaker della giornata di oggi gli interventi sono stati molto belli una giornata veramente interessante e a tutti i partecipanti vi ringrazio per essere rimasti così numerosi con noi quindi siete veramente da premiare grazie davvero Domenico vi offrirà il caffè cosa? Domenico vi offrirà il caffè a tutti questo è spuffing diciamo è atomano e quindi in quanto tale preoccupatevi prendete pure un caffè quando ci incontriamo ve lo offrite voi ci sarà un modo torneranno tempi normali ci sarà un modo di prendersi insieme un caffè ci sarà un modo di replicare questo evento direttamente assolutamente però per il momento vi do appuntamento a domani quindi mi raccomando non ci abbandonate vi aspettiamo anche domani riportiamo anche domani alle 10 come vi anticipavo domani sarà la giornata dedicata al 3D Intelligence Report realizzato dall'osservatorio di Exprimia quindi giornata interessantissima con speaker tutti gli autori del report del report che ormai è la sua terza edizione quindi a domani colgo anche l'occasione per fare una comunicazione di servizio mi sono arrivate delle domande circa i badge per quanto riguarda i badge sono state quindi inviate le mail per la richiesta e mi si chiedeva quando arriveranno le informazioni per il test ovviamente per il test relativo alla partecipazione all'evento dobbiamo aspettare la conclusione dell'evento quindi dovete avere pazienza e seguirci anche domani per quanto riguarda il test relativo all'education Cyber Security Fundamental vi saranno inviati quanto prima le informazioni a tutti buona serata ci vediamo domani ciao buona serata